Grazie a tutti. Non è un impegno che la trattiene fuori Firenze, ma mi ha pregato particolarmente di portare il suo saluto e il ringraziamento dell'Università dell'Ateneo per questo convegno. Visto che gli indirizzi di saluto sono nutriti, io non vorrei abusare, come si dice sempre, in queste situazioni. E dunque mi limito a due ringraziamenti. Il primo è ovviamente all'Associazione Gruppo di Pisa, qui nella persona della Presidente, la professoressa D'Amico, e tutto il Consiglio Direttivo e tutto lo staff dell'Associazione, per aver voluto scegliere Firenze per questo primo congresso, e questo primo convegno che riparte pienamente in presenza. C'è un po' questo senso di ripartenza. Oggi immagino che molti abbiano scelto di venire in giornata, per cui penso che pian piano abbiamo molte iscrizioni, quindi immagino che poi via via anche l'Aula si riempirà. Indubbiamente c'è questo senso, anche dal punto di vista nostro, accademico, della possibilità di rincontrarsi, di rivedersi. C'è un senso di ripartenza che direi non deve andare perso. E penso che in particolare per l'Associazione Gruppo di Pisa, che come sappiamo bene tutti quelli che la seguono, ne partecipano e conoscono la vita del dibattito accademico, del lavoro scientifico all'interno del settore pubblico e costituzionalistico, da quando è nata ha sempre voluto rappresentare un po' questa capacità di innovazione, di apertura, di voce a chi è più giovane. Quindi siamo particolarmente contenti che Firenze possa essere un momento in cui ricominciamo. Forse anche troppo, lo dico qui al sindaco, perché la coincidenza con Pitti Immagine ha creato forse qualche problema di taxi o di albergo da trovare, e quindi mi scuso un po' se ci sono state un po' di difficoltà di questo genere, però è bello in un certo senso tornare a avere questo tipo di problemi, cioè che c'è alberghi troppo pieni o taxi troppo affollati. Comunque, innanzitutto un ringraziamento davvero per aver scelto Firenze per questo momento così importante. L'altro ringraziamento è per la scelta del tema. Il tema di questo convegno annuale è Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle fonti nella crisi economica e pandemica. Emergenza e persistenza. Direi che la scelta di questo tema giustifica ancora di più, in un certo senso, la scelta di Firenze. Firenze è la scuola di diritto costituzionale di Firenze, che oggi qui è autorevolissimamente rappresentata dai professori De Siervo, Kelly, Caretti, che saluto caramente qui in prima fila, qui a Firenze il tema del modello costituzionale sulle fonti e delle sue evoluzioni e delle sue trasformazioni è un tema con cui, mi permetto di dire, noi siamo proprio cresciuti, siamo nati su questo tema, o meglio alcuni di noi hanno proprio avviato tutti gli studi e la riflessione. E anche l'ipotesi dopo l'università, dopo aver faticato per fare l'università, essersi laureati, l'ipotesi un po' più controintuitiva, che è quella di continuare a rimanere in università, tutti speravano di scostarsene. Invece uno dei grandi motivi di attrazione è stato proprio questo gruppo di lavoro così forte sul tema delle fonti. Non voglio quindi assolutamente poi entrare nel merito perché il programma è, come sempre, per il convegno del gruppo di Pisa, intenso e prevede poi delle fasi di discussione che quindi ci saranno. Voglio solo fare questa osservazione. È molto importante continuare a mantenere aperta l'attenzione sul rapporto modello costituzionale-prassi. Si potrebbe dire che ormai è un tema un po' fuori moda, è un tema già conosciuto, è un tema ricorrente, è probabilmente un tema classico in qualche modo, cioè è il tema, uno dei grandi temi. Ma proprio per questo non va perduta, non va interrotta l'attenzione su questo confronto modello costituzionale-trasformazioni. Perché il rischio, altrimenti, è fortissimo. Il rischio di una sorta di acquiescenza all'evoluzione, soprattutto quando di mezzo ci sono parole come emergenza, pandemia, eccezione. Il rischio di una sorta di perdita di significato della parte della Costituzione che è dedicata alle fonti, che poi sappiamo bene, proprio per i grandi contributi dei maestri che abbiamo avuto, e in particolare penso anche, per esempio, al professor Pizzorusso e ai suoi studi su questo. Sappiamo che mettere a tema il sistema delle fonti vuol dire mettere a tema l'incrocio tra forma di governo e forma di Stato. Quindi stiamo parlando di uno dei temi più sensibili. Ecco, su questo, accettare che l'evoluzione, il cambiamento, la trasformazione, sia un po', per citare una risalente dottrina, come si suol dire, una modifica tacita della Costituzione, per cui ormai possiamo accettare tutto giustificato dal punto di vista della pressione, degli eventi, dei fatti. Io penso che deontologicamente il nostro statuto di professori ci chieda di mantenere sempre questa attenzione. Il che non vuol dire, come dire, una sorta di cristallizzazione di un modello senza la percezione di cosa questo modello possa aver richiesto in termini di evoluzione, di modifica, di aggiornamento, di necessità di cambiamento. Non è una sorta di idolatria del testo, ma è un problema di capire che, come dire, ci sono dei valori profondi dentro la nostra esperienza costituzionale, non solo il testo, che ci qualificano e che, secondo me, hanno continuato a persistere, per riprendere il binomio molto interessante di emergenza e persistenza. Comunque, cerco di mantenere la promessa di non rubare il tempo, però volevo soltanto ribadire il ringraziamento da parte mia come Dipartimento di Scienze Giuridiche e da parte dell'Università per aver scelto Firenze e per aver scelto questo tema che, ho l'impressione, segnerà in qualche modo un punto di svolta e di approfondimento su questo. L'altro aspetto che, secondo me, è particolarmente interessante, e con questo do subito la parola a chi viene dopo di me nei saluti, è che, come dire, nei lavori di organizzazione, di preparazione di questo convegno, un po' emerge una caratteristica qui che ci è stata riconosciuta anche di recente dal punto di vista delle valutazioni universitarie, cioè il fatto che l'Università ha un forte legame con le istituzioni del territorio. Il contributo che noi cerchiamo di portare dal punto di vista dello studio è sempre un contributo che cerca di non essere solo, come dire, di elevazione o di trasferimento di informazioni, di nozioni rispetto a chi è iscritto all'Università, ma cerca di avere un rapporto più solido anche con le altre istituzioni e ne segno il fatto che, appunto, adesso passo per un suo indirizzo di saluto, la parola al Sindaco di Firenze, Dario Nardella. Grazie, Sindaco. Grazie a Professor Simoncini e all'amico Andrea. Sono felice e onorato di poter portare a tutti voi il mio saluto personale a questo convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa. Saluto la Presidente, Marilisa D'Amico. Mi compiaccio per il coraggio che gli amici del gruppo di Pisa hanno avuto nell'organizzare a Firenze, nel giorno del Santo Patrono di Pisa, questo convegno. Quindi credo che sia ormai il definitivo sdoganamento del campanilismo proverbiale toscano. Questo lo apprezzo molto, perché sono da tempo fautore della necessità di una collaborazione vera tra le città. e dal mio osservatorio di Presidente di GiroCities, l'Associazione delle Città Europee, vedo che oggi sempre di più la società civile si trasforma a partire dalle città. E qualunque grande sfida globale che noi abbiamo di fronte, che si tratti della lotta al cambiamento climatico, dell'emergenza umanitaria, della transizione energetica e digitale, o la vinciamo o la perdiamo nelle città, dove si sperimentano modelli di consumo, si sperimentano modelli sociali di convivenza, si investe su infrastrutture innovative, si trasformano i grandi obiettivi in progetti quotidiani, concreti. E sono convinto della sfida delle città, anche perché vedo che la vera competizione nei paesi sviluppati come quelli europei è tra grandi sistemi urbani. Allora, mentre grandi aree urbane, francesi, tedeschi, inglesi, collaborano, noi siamo ancora fermi alla battaglia di Cascina, allora qualche problema potrebbe sorgere, diciamo, nella competitività del sistema toscano. Ma vedo che ci sono tanti passi in avanti che si fanno nella nostra regione, nel rapporto tra le città. Due settimane fa ero a Livorno per firmare un accordo che io stesso avevo promosso con i sindaci di Pisa, Luca e Livorno, appunto, sulle infrastrutture, sui servizi e sulla cooperazione territoriale e penso che la strada debba essere questa. Quindi, iniziative come le vostre sono assolutamente utili e propedeutiche a costruire anche collaborazioni istituzionali, perché l'Accademia più è legata alla vita reale, più dialoga con le istituzioni, con il mondo economico, il mondo produttivo, il mondo culturale e più riesce a incidere e a trasferire le proprie riflessioni come un vero e proprio valore aggiunto nel processo di trasformazione delle città e dei territori. Io credo molto nel rapporto tra l'Accademia e le istituzioni, tra l'Accademia e la società civile. Forse anche per la mia formazione, e qui mi sento anche un po' a casa, se mi consentite. Vorrei per questo salutare con affetto tutti i professori con i quali ho avuto l'onore di lavorare. Vorrei anche salutare in particolare il Presidente Merito della Corte Costituzionale, Uwe De Siervo, il Vicepresidente Enzo Cheli, e tutti voi. Se mi permettete, vorrei anche ricordare un carissimo amico, Stefano Merlini, che poco più di un anno fa se n'è andato in un contesto molto triste come era quello appunto del Covid, con tutte le restrizioni. In quell'occasione non abbiamo neanche avuto la possibilità di salutarlo come sarebbe stato utile, sarebbe stato corretto e doveroso. Infine vorrei congratularmi con Andrea e tutti i colleghi del Dipartimento di Firenze, che nell'ultima classifica internazionale è risultato essere il primo d'Italia, quindi anche questo. Nazionale? No, però il ranking italiano è collegato a quello del World University Ranking, che indica l'Ateneo Fiorentino come il settimo d'Italia, quello di Pisa ottavo, quindi siamo più o meno lì. C'è una bella competizione, una sana competizione, e però dentro il ranking di Firenze settima c'è il primo posto del Dipartimento di Studi Giuridici e questo credo che sia un merito importante anche perché queste classifiche, poi sappiamo bene, lasciano il tempo che trovano, ma in molti casi quando sono fatte bene non solo consentono ai giovani di orientarsi, ma permettono poi anche a noi amministratori locali e di fare leva su questi dati per acquisire attenzione, investimenti e ovviamente promuovere il nostro territorio. Dunque, per quello che mi riguarda, il mio saluto, vorrei spendere proprio due parole di riflessione anche nel merito dell'argomento che avete scelto, perché credo che l'esperienza della pandemia, dal punto di vista degli enti locali, parlo in particolare per la mia esperienza di amministratore, è stata molto, 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 molto pesante. Anzitutto perché spesso ci siamo trovati a dover fronteggiare l'emergenza in una condizione di solitudine e poi perché questa pandemia ha avuto sul piano istituzionale e giuridico tanti effetti collaterali e ha acceso i riflettori su alcune criticità del sistema di produzione delle regole. Diciamo che ha, dal mio punto di vista, ha avuto quasi una funzione di reazione chimica, ha fatto emergere in superficie problematicità e criticità che erano già in nuce, ma le ha fatte letteralmente, diciamo, esplodere. In questo possiamo anche dire che se riusciamo ad essere capaci e bravi possiamo anche trarre lezione dalla pandemia proprio perché a questo punto in questa sorta di reazione chimica ha mostrato in modo molto netto le criticità che, se prima potevano essere oggetto di discussione, a mio avviso oggi sono assolutamente chiare. Parto dal nostro sistema policentrico, multilivello, nel quale è apparso, anzitutto, evidente la complicazione dei procedimenti e la scarsa comprensibilità del prodotto, ben oltre quello che potrebbe ragionevolmente ricondursi alla complessità tecnica, economica e sociale dei fenomeni da disciplinare. Per lunghi mesi, durante questo periodo pandemico, gli uffici pubblici si sono impegnati a interpretare e cercare di applicare in modo sostenibile norme prodotte praticamente a getto continuo da fonti diverse, secondo logiche diverse e con una forza diversa, ma spesso senza che venisse espressamente affrontata la questione del coordinamento dei criteri di risoluzione dell'antinomie, della concreta portata applicativa delle disposizioni, cioè in una parola della completezza e coerenza dell'ordinamento. La competenza e la coerenza dell'ordinamento se ne sono andati a farsi benedire durante i due anni di pandemia. Su tutto questo ha gravato anche una, diciamo, estremizzazione del modello autonomistico italiano, per cui le regioni hanno finito per assorbire in una sorta di neocentralismo regionale. Io, nel corso dei miei otto anni di sindaco, ho cambiato molto le mie posizioni che avevo da studioso e ricercatore sul regionalismo italiano, purtroppo, per cui oggi vedo con molta più diffidenza questo forte centralismo regionale, come è venuto fuori anche durante il periodo della pandemia, dove, diciamo, il protagonismo politico dei presidenti che insistono a farsi chiamare governatori ha inciso moltissimo su una corsa ad acquisire, diciamo, una posizione di risalto nel panorama italiano e che ha prodotto a sua volta tutta una serie di atti amministrativi e legislativi e regionali che si sono sommati a questa alluvione di atti di livello nazionale. vi faccio solo ricordare la polemica sulla apertura delle discoteche nell'estate del 2021. Ogni regione lanciava il proprio modello con tutta una serie di norme regionali legislative e sublegislative oppure l'apertura delle spiagge o la chiusura dei confini da una regione all'altra. Insomma, ad un certo punto abbiamo davvero avuto l'impressione che l'ordinamento italiano fosse completamente saltato e non giustamente ricorda il professor De Siervo l'aspetto sanitario che è stato poi anche quello estremamente messo a dura prova nella fase successiva anche delle vaccinazioni ma anche in tutte quelle che erano le misure di precauzione e di organizzazione dei sistemi sanitari. Aggiungo poi l'intempestività con la disciplina spesso a inseguire fenomeni già da tempo in atto di comportamenti sociali consolidati e quindi più difficilmente orientabili. Cioè, l'intempestività rispetto appunto a ciò che già stava avvenendo. Insomma, a me sembrano che questi aspetti che sono letteralmente esplosi con il Covid oggi permangono, sono tutti lì a proposito di persistenza citando il vostro titolo. Permangono ovviamente in forme meno eclatanti al di fuori della situazione emergenziale ma anche ora che siamo formalmente usciti almeno formalmente usciti dall'emergenza e comunque si è attenuato lo stress dell'emergenza sanitaria. Le riforme di settore incompiute o frutto di visioni angolari e tra loro non coordinate le novellazioni in via d'urgenza a carattere torrentizio i rinvii legislativi a plurimi livelli di disciplina regolamentare sono tutti elementi che continuano a connotare il panorama al punto tale che dal punto di vista della produzione delle fonti il confine tra l'emergenza e l'ordinario sembra essersi quasi diluito sembra essere sparito. Non si sa più se siamo ancora in una fase emergenziale da questo punto di vista oppure no. Però i problemi persistono. Allora io credo spendo un ultimo minuto io credo che occorra agire da un lato sul medio-lungo periodo e dall'altro nell'immediato. Sul medio-lungo periodo il fattore principale rimane sempre l'insufficiente qualità scusate la crescente difficoltà per il sistema politico-partitico di elaborare delle sintesi effettive e assumerne la responsabilità fattore per porre rimedio al quale occorrerebbero riforme ordinamentali che l'esperienza degli anni trascorsi temo induca a guardare purtroppo con poco ottimismo. E dall'altro lato è importante sul breve periodo rafforzare la capacità e l'attitudine degli operatori del diritto a tutti i livelli che possono aiutare molto l'attività del sistema politico-istituzionale cercando di sminare tutte quelle difficoltà che troviamo nel nostro percorso. Su questo credo che sia quanto mai attuale ne abbiamo parlato con Andrea Simoncini quella riflessione di Don Sturzo che non a caso è stato vice sindaco del suo comune Caltagirone per 15 anni e anche vicepresidente del Lanci e Don Sturzo richiamava già allora l'attenzione dei politici e dei giuristi al problema del modello unico degli enti locali. Insomma noi oggi abbiamo ancora un sistema per cui la forma di governo del comune di Morterone di 29 abitanti e quella del comune di Milano è sostanzialmente la stessa. Stesse competenze stessa governance stessi organismi tutto cambia il sistema elettorale ma vuol dire molto poco e Don Sturzo richiamava la necessità di introdurre un modello di differenziazione degli enti locali sulla base della grandezza sulla base ovviamente della complessità territoriale e sociale come possiamo noi con gli stessi strumenti e gli stessi modelli governare allo stesso modo Roma e dico mano per citare un comune delle nostre parti ma questa differenziazione che è venuta a mancare purtroppo è emersa in tutta la sua debolezza durante il covid così come è emerso durante il covid il problema di un assetto delle autonomie territoriali che non ha più una sua coerenza avete visto anche queste settimane è ritornato il dibattito sul regionalismo differenziato partono treni senza che ci sia un disegno logico sulla base delle pulsioni politiche del momento oggi si riparla del regionalismo differenziato domani si riparlerà di qualche altra diciamo novità resta il fatto che dopo la riforma del titolo quinto della parte seconda della costituzione del 2001 noi non abbiamo più ricostruito un modello di assetto degli enti territoriali la stessa riforma del testo unico degli enti locali che da mesi giace sul tavolo della ministra dell'interno e che non so quando arriverà all'attenzione del consiglio dei ministri purtroppo non ha questo coraggio di riorganizzare nel loro complesso gli enti locali dunque questo alluvione di atti normativi di fonti ordinarie purtroppo si somma anche ad una diciamo disorganica iniziativa di riforma dell'assetto delle autonomie che non ha mai trovato un vero sbocco le stesse città metropolitane che sono state meritoriamente introdotte con la legge 56 2014 che io stesso da parlamentare ho sostenuto votato oggi sono rimaste lì a distanza di dieci anni senza una vera e propria implementazione sono troppo simili alle vecchie province hanno le stesse competenze e non riescono ad approdare verso un nuovo modello che è quello europeo delle grandi città metropolitane con poteri più forti perché schiacciate dal centralismo regionale e non riescono a dispiegare la forza che le aree urbane hanno nel nostro paese le aree urbane metropolitane nel nostro paese producono il 65% del PIL ospitano il 39% degli abitanti e però non hanno una struttura giuridica giuridica conforme a queste loro potenzialità e vediamo quindi che tutto questo non riusciamo a inserirlo in una visione organica di riforma di cui c'è bisogno siamo ormai alla fine della legislatura ma io penso che iniziative come queste possano servirci quantomeno a impostare un lavoro per la prossima legislatura sfidando i partiti che si dovranno misurare nella prossima campagna elettorale su un'idea chiara di assetto di competenze di fonti tra livelli regionali livelli provinciali città metropolitane ed enti locali perché non c'è dubbio che nella forma di stato di cui parlava appunto Andrea l'assetto delle autonomie territoriali in Italia è davvero fondamentale se è vero il ragionamento che ho fatto all'inizio e cioè che i modelli economici sociali e culturali nascono maturano e si sviluppano sul territorio non nascono nelle stanze della capitale calate dall'alto come un processo meccanico di diciamo verticistico è esattamente il contrario e quindi io credo che la rete degli enti locali dovrà fare la sua parte e continuerà a farla noi possiamo incarnare la funzione di un laboratorio di innovazione ma anche di monitoraggio di nodi operativi da sciogliere per elaborare buone pratiche efficienze e sostenibili e in questo ruolo di osservatorio possiamo aiutare anche il mondo universitario e il legislatore nazionale a mettere a punto proposte non solo di ritocchi legislativi ma più coraggiose proposte di riforme organiche che servano non solo a livello locale regionale ma anche statale ed europeo perché il dibattito in Europa sull'ordinamento dei governi locali è un dibattito molto avanzato molto maturo e molto ricco vi ringrazio e vi auguro buon lavoro ringrazio il sindaco Dario Nardella che come dire è veramente entrato già nel tema e penso abbia dato un contributo tutta la prima sessione del nostro convegno dedicato ai livelli di produzione normativa e dunque mi pare abbia già posto sul tappeto partendo dalla sua esperienza e facendo sentire anche l'origine che viene da questi studi nelle sue riflessioni quindi lo ringrazio davvero per il sostegno e poi per la sintonia con cui ci consente poi di lavorare e proprio su questo sempre su questa onda do la parola al presidente Luigi Salvadori al presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che ha sostenuto in particolare questo convegno e lo sforzo organizzativo come anche lui ci dirà e che davvero pubblicamente voglio ringraziare perché le fondazioni bancarie in particolare la fondazione Cassa di Firenze è uno di questi soggetti che sul territorio non solo sostiene appoggia ma condivide come ascolteremo lo scopo per cui noi stiamo facendo queste occasioni di incontro grazie presidente prego buongiorno buongiorno a tutti il mio messaggio non sarà così approfondito e così bello come quello del sindaco Nardella il quale è entrato nei temi in modo estremamente profondo e estremamente tecnico anche perché realmente servono a risolvere determinati problemi della politica e della convivenza nostra come come cittadini il mio sarà soprattutto un messaggio di saluto di augurio di buon lavoro e soprattutto anche di invito a una scena molto bella in un posto molto bello che probabilmente servirà anche ai vostri lavori perché riuscirete a vedere Firenze in un modo estremamente particolare buongiorno a tutti rivolgo un saluto particolare al sindaco Dario Nardella la presidentessa dell'associazione gruppo di Pisa professoressa Mari Lisa D'Amico e anche qui io sono molto contenta di questa unione tra Firenze e Pisa che in qualche momento si vede che deve essere il futuro reale perché non ci devono essere più campalinismi di nessun tipo che ostacolano veramente veramente l'evoluzione del nostro Paese naturalmente al caro amico e nostro consigliere Andrea Simoncini con cui abbiamo e facciamo un percorso in fondazione direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche al professor Paolo Cappellini direttore di USAF e al presidente merito della Corte Costituzionale Ugo De Siervo e al vice presidente merito Enzo Kelly saluto anche Filippo Donati che è amico di sempre che vedo in prima fila e ringrazio l'associazione per avermi invitato al congresso annuale di questo terribolissimo sodalizio accademico che riunisce gli studiosi italiani di diritto costituzionale e pubblico ritengo che il tema scelto sia di grandissima attualità viste le grandi trasformazioni che hanno interessato negli ultimi venti anni anche il nostro sistema di produzione legislativa e normativa immaginato ormai oltre 70 anni fa alla crisi economica e a quella pandemica si è aggiunta con crescente preoccupazione da parte di noi tutti la crisi militare provocata dal conflitto in Ucraina uno scenario che non poteva certamente essere previsto dagli organizzatori quando è stato scelto il tema del convegno che affianca due termini in maniera molto significativa emergenza e persistenza in effetti mentre il concetto di emergenza porta con sé inevitabilmente i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità in Italia abbiamo da tempo la sensazione che la condizione di emergenza persista divenendo quasi una condizione ordinaria il terribile periodo che abbiamo vissuto durante la crisi pandemica e che ci auguriamo vivamente sia del tutto passato ha rafforzato questa sensazione ovvero che gli strumenti tipici di intervento in casi di emergenza siano diventati ormai quelli ordinari la fondazione CRF ha vissuto in prima persona la fase del covid cercando di supportare diversi fronti aperti e intensificando l'erogazione verso quegli ambiti come i variegati ambiti del terzo settore e del volontariato che si sono trovati in prima linea a fronteggiare le molteplici urgenze dal nostro osservatorio possiamo rivadire quanto sia importante mettere in grado i soggetti della società civile sia pubblici che privati di agire rapidamente efficacemente e rispettando tutte le leggi molte volte però abbiamo l'impressione che sia impossibile perseguire assieme questi obiettivi spesso il rispetto delle regole sembra rallentare i processi e viceversa per agire rapidamente o in maniera efficace spesso occorre che lo Stato sospenda le regole ordinarie mi viene in mente il modello Genova dove per consentire la ricostruzione del Ponte Morandi si è dovuto concentrare in maniera straordinaria nel sindaco di quella città nominandolo commissario tutti i poteri ordinariamente distribuiti tra decine di livelli istituzionali diversi vorremmo non essere più costretti a fare altre scelte analoghe vorremmo invece imparare dalla crisi per rendere più efficiente il modo ordinario di produrre norme in Italia la fondazione CR Firenze è lieta di contribuire e sostenere iniziative scientifiche di questo livello perché possono aiutare il nostro Paese a dotarsi di strumenti decisionali efficienti sia a livello governativo che parlamentare da questa efficienza dipende la capacità di ripresa soprattutto dinanzi ad occasioni che non possono essere perdute quale il piano nazionale di ripresa e resilienza per il quale anche noi come fondazioni bancarie stiamo dando un apporto non indifferente come ci è stato riconosciuto dalle massime cariche dello Stato nell'augurarvi buon lavoro sono lieto di ospitarvi stasera a Villa Bardini davvero un luogo magico che curiamo con tantissima attenzione e che sono certo renderà ancora più piacevole la vostra permanenza a Firenze grazie in bocca al lupo e buon lavoro ringrazio ringrazio davvero il presidente salvadori per le parole anche sue a tema e per il supporto e il sostegno che come avete avuto modo di vedere e avrete modo di vedere è veramente importantissimo lo ringrazio ancora il professor cappellini purtroppo non può essere qui per impegno ma anche lui che è direttore dell'istituto di studi superiori dell'università e che sostiene anche convintamente la nostra iniziativa anche lui mi ha pregato di portare il suo saluto e l'augurio per il buon lavoro e quindi cedo subito la parola alla presidente Maria Elisa D'Amico presidentessa dell'associazione gruppo di Pisa per l'ultimo indirizzo di saluto che ci poi introdurrà all'inizio dei lavori grazie Maria Elisa grazie illustre sindaco Nardella presidente Salvadori carissime colleghe illustri illustri colleghe colleghi e con grande emozione che come presidente del gruppo di Pisa saluto i partecipanti a questo convegno annuale sul modello costituzionale trasformazione del sistema delle fonti nelle crisi economiche e pandemica emergenza e persistenza come ha già ricordato il professor Simoncini questo è il primo convegno per il nostro direttivo intanto è il primo e ultimo per il nostro direttivo convegno in presenza e appunto della nostra associazione che ho avuto l'onore di presiedere in questi anni e il senso della ripartenza però si vede piano piano appunto quest'aula si sta riempendo siamo tutti molto contenti e anche le difficoltà organizzative che proviamo a Milano come a Firenze cioè queste grandi città sono vive ma sono anche appunto pulsanti e quindi non ci fanno altro che piacere naturalmente in questi tre anni appunto dal momento in cui ci siamo visti nel convegno a Napoli ospitati in un'altra bellissima sede a Napoli ad oggi il mondo è effettivamente cambiato ed è forse superfluo ricordare oggi che dall'emergenza pandemica che per alcuni non è ancora conclusa ci troviamo immersi in un'altra emergenza anche questo inaspettata una guerra nel cuore dell'Europa ora io ringrazio in particolare i colleghi fiorentini tantissimo il professor Simoncini il professor Cardone e poi tutti gli altri colleghi per l'ospitalità e sottolineo anch'io come mi è sembrata particolarmente felice la scelta del tema e della sede perché anche per me per la insomma fin da quando mi sono appunto ho iniziato appunto a muovere i primi passi nel mondo universitario la scuola fiorentina è stata sempre associata appunto alle voci più autorevoli proprio di studiosi sul sistema delle fonti del diritto e quindi i maestri che vediamo oggi davanti e che saluto il professor Cheli il professor Desiervo il professor Caretti sono stati appunto anche per la sottoscritta e per tutti noi insomma anche per tutta la nostra generazione punti di riferimento importanti e ora la relazione perché si tratta di una vera e propria relazione dopo le parole belle parole profonde del professor Simoncini il Dario Nardella che ringrazio moltissimo ci ha offerto già un punto di vista importante che ha introdotto benissimo prima ancora della bellissima relazione introduttiva che sentiremo del professor Cardone il tema e il tema proprio nel modo in cui abbiamo voluto intenderlo noi c'è una riflessione una riflessione l'ha già sottolineato benissimo Andrea Simoncini critica sul sistema delle fonti del diritto su quanto è successo durante la pandemia una pandemia che ha portato ad emersione per quanto riguarda il sistema delle fonti ma in generale per tutta una serie di nodi irrisolti e risolti e forse irrisolvibili del nostro modello costituzionale ha portato ad emersione problemi che già c'erano li ha fatti in qualche caso anche deflagrare e dopodiché per oggi ci sentiamo ancora più in difficoltà nel dovere in qualche modo tracciare una linea allora mi sembra particolarmente importante quanto appunto ci ha chiesto oggi anche da Iron Ardella che in fondo era un po' quello che diciamo sta nelle corde di questo di questa giornata di questo convegno e credo che voi apprezzerete nell'ambito di tutte le relazioni da una parte una come è sempre stato nel gruppo di Pisa una profonda e attenta conoscenza della realtà diciamo a partire dal dato positivo per poi appunto osservare e valutare la prassi ma sempre con un'attenzione critica mai di immersione di giustificazione di quello che sta succedendo della cosiddetta prassi ma sempre appunto di appunto criticità rispetto a quello che succede e anche in fondo tentativo di dare delle proposte non so se poi noi saremo diciamo all'altezza di questo compito i relatori sicuramente io personalmente non lo so tracceremo le fila le fila saranno poi tracciate dal professor Carnevale il nostro past president del vecchio direttivo insomma comunque credo che questa ulteriore diciamo sfida ci veda oggi perlomeno pronti a coglierla e vedremo appunto nell'ambito dei nostri lavori come si svilupperà come si svilupperà perché appunto ritorno al mondo che è cambiato il mondo è cambiato e tutti noi cioè il mondo sta soffrendo si sta interrogando di fronte alle trasformazioni il nostro modo di giuristi e di costituzionalisti per dare un contributo è appunto leggere e interpretare queste trasformazioni alla luce appunto con l'occhio della costituzione di una costituzione diciamo che da costituzione scritta poi si evolve e ha senso appunto legata con la realtà permettetemi solo un momento di ricordo scusatemi purtroppo mi rendo conto che è un momento di ricordo non di una di un professore scomparso ma di più professori uno l'ha già ricordato il sindaco Nardella il professor Merlini Stefano Merlini collega Fiorentino insomma che ha partecipato tante volte anche alle attività del gruppo di Pisa Beniamino Caravita Beniamino Caravita che ricordo bene perché c'ero e mi è stato ricordato varie volte in particolare dal professor Romboli c'ero a quel primo incontro del gruppo di Pisa intorno a un tavolo se non ricordo male c'era anche il professor Caravita che poi diciamo invece ha seguito un percorso diverso diciamo e un percorso molto importante però che l'ha portato a fondare la rivista Federalismi che oggi è diretta da Anna Poggi e quindi diciamo a offrire anche un ambito di riflessione spesso dialettico e sempre comunque in collegamento con la nostra associazione il professor Gladio Gemma che invece se posso descriverlo era veramente organico alla nostra associazione ha partecipato sempre partecipava sempre e ricordo anche qui lo devo dire perché questa associazione è un'associazione che nasce come ha detto il professor Simoncini sull'idea di dare una voce ai giovani a chi 40, 30, 35 anni fa voce però non poteva tanto averne invece voi ce l'avete ce l'avete data il professor Gemma che era anche particolarmente attento e sensibile proprio alle persone più giovani io ricordo ancora insomma la sua sensibilità anche la sua gentilezza anche nei confronti della sottoscritta quando ero poco più che una dottoranda una ricercatrice e infine per ultimo ma il mio maestro il professor Valerio Nida che ci ha lasciato da poco e che Valerio Nida apparteneva a quella generazione che diciamo non era la generazione dell'associazione dei costituzionalisti che ha visto nascere questa nuova associazione che in quel momento alcuni guardavano un po' con diffidenza ecco io ricordo bene perché appunto allora diciamo ero appunto sua giovane ricercatrice ricordo bene invece che come ha sempre fatto Valerio rispetto a tutte le sfide nuove a tutte le cose nuove che gli si presentavano ricordo bene come fosse interessato e come fosse uno di quelli contento che ci fosse comunque un ambito in più in cui si discutesse anche un ambito di giovani in cui diciamo la parola non veniva data dall'alto ma in realtà appunto veniva un po' presa dal basso poi di tante cose come soci e come discuteremo anche nella nostra assemblea di stasera ci racconteremo un po' diciamo anche di quello che è stato il senso di questi tre anni grazie ancora buon lavoro e penso che insomma non potessimo iniziare anche oggi in un modo migliore di questo grazie 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 Marilisa allora adesso direi che i lavori prendono il loro andamento ordinario invito qui il professor Kelly a presiedere questa sessione il professor Cardone per la relazione introduttiva e poi penso via via anche gli altri gli altri redatori grazie e ancora buon lavoro a tutti grazie 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 posso venire qui accanto a te certo assolutamente dopo io sto qui solo per la relazione è necessario allora comincio quindi quindi a questo punto io intanto ringraziando ancora do diciamo come si dice give the floor do lo scettro al professor al vicepresidente emerito della corte costituzionale il professor Enzo Kelly per la presidenza di questa di questa diciamo della sessione e prima però diciamo Enzo vuoi dare tu la parola ad Andrea lo faccio io scusate lo devo fare io ecco infatti vengo dopo mi sono resa conto adesso del programma scusatemi ma bisogna sempre fare una piccola una piccola gaffe se no appunto non saremmo donne sto scherzando e allora la relazione introduttiva del professor Andrea Cardone dell'Università Ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università degli Studi di Firenze a cui do immediatamente la parola ringraziandolo molto perché non so diciamo penso che tutti abbiate potuto comunque leggerla e già apprezzarla lo sentiremo ma è veramente una bellissima relazione introduttiva quindi grazie Andrea per qualche può valere il mio giudizio grazie grazie davvero presidente mi sono ripromesso nell'adempire il mio ufficio di relatore introduttivo di rispettare il più possibile il titolo che il direttivo della nostra associazione ha dato al convegno di oggi e per questo ho immaginato di strutturarla in tre parti una prima parte dedicata alla ricostruzione del modello costituzionale e ancora prima alla definizione delle condizioni delle premesse nel rispetto delle quali si può parlare di un sistema delle fonti e di un sistema delle fonti che si ispira ad un modello costituzionale una seconda parte dedicata invece all'analisi delle trasformazioni che il sistema delle fonti ha subito in questi oltre 70 anni di storia repubblicana per cercare all'interno di questa storia quei fenomeni che in quanto di medio e lungo periodo sembrano potersi ascrivere alla logica della persistenza per usare l'espressione molto evocativa del nostro titolo e distinguerli così da quei fenomeni che invece mi sembrano porsi in più diretto rapporto di causalità con la crisi economica e con la pandemia che quindi ascriverò alla spera dell'emergenza dico subito per evitare fa intendimenti che con quest'ultima affermazione non intendo negare lo scarto che molte delle relazioni opportunamente sottolinano e che sussiste tra emergenza e crisi legata prevalentemente al carattere tendenzialmente conservativo dell'emergenza e potenzialmente evolutivo della crisi ma semplicemente cercare di sottolineare che per evitare pericolose confusioni di piani è opportuno distinguere i fenomeni in base alle cause che li hanno determinati e in questo senso cercherò di svolgere le mie riflessioni una terza parte della relazione invece dedicata al tentativo di rispondere al quesito implicito che il titolo del convegno pone che un po' è stato già evocato da chi mi ha preceduto e cioè qual è il limite nel rispetto del quale si può ritenere che gli scostamenti dal modello possono essere considerati costituzionalmente legittimi o invece devono essere considerate altrettante epifanie dell'incostituzionalità dico subito che su questa parte rinvierò al testo scritto per cercare di mantenermi nei termini e nei tempi che mi sono stati assegnati ora nella ricerca di questo modello costituzionale mi pare che un punto di partenza obbligato sia rappresentato dalla constatazione che in dottrina vi è sostanziale concordia sulla conclusione che l'attuale fisionomia assunta dal sistema delle fonti sia un po' il frutto della crisi dell'idea che le fonti possano essere considerate qualcosa di autonoma autosufficiente e quindi in questo senso ordinabile in sistema e pacifica anche in dottrina la constatazione che la causa prevalente di questa destrutturazione del sistema delle fonti è da ricercare nella crisi della sovranità statale e in effetti in questi termini si esprimono anche molte delle relazioni che ascolteremo oggi e il che non desta particolare meraviglia se è vero come mi pare indubitabile che la costituzione repubblicana del 48 come anche le altre costituzioni democratico-sociali del secondo dopoguerra è ampiamente tributaria dei drogmi della sovranità statale nonostante reghi un'ampia apertura alla dimensione sovranazionale e internazionale nonostante abbia accolto il principio del pluralismo nella sua più ampia veste territoriale, istituzionale e sociale ponendo così le premesse perché il numero delle fonti venisse significativamente ampliato rispetto a quanto previsto non solo dal codice civile del 42 ma anche rispetto a quanto previsto dalla Costituzione stessa rinvio al testo scritto per alcuni passaggi che hanno animato un intenso dibattito che si è svolto nella dottina costituzionalistica italiana anche nel corso degli ultimi anni sulla crisi della sovranità e soprattutto sulla sua residua capacità di svolgere una funzione ordinante del sistema costituzionale mi limito qui a mettere in evidenza che un punto di caduta comune a molte delle riflessioni che sono state condotte all'interno di quel dibattito è la sottolineatura che la sovranità statale che viene posta alla base della Costituzione del 48 è qualcosa di molto diverso rispetto a quello che la sovranità statale rappresentava nel contesto storico e teorico della modernità giuridica perché non si alimenta dall'idea dello Stato superiore e non reconnaissance ma risiede nel convincimento che la rappresentanza politica è il principale se non addirittura l'esclusivo canale di legittimazione democratica che è deputato a dare forma e contenuto all'unità politica della nazione lo sottolineo in questa sede perché questo aspetto è particolarmente rilevante a mio modo di vedere per comprendere che i costituenti immaginarono il sistema delle fonti immaginarono meglio le fonti proprio come un sistema non per non per sottolineare la sua autoreferenzialità la sua chiusura rispetto all'esterno ma per mettere in evidenza che tutti i suoi elementi costitutivi quindi tutte le singole fonti devono trarre direttamente o indirettamente la propria legittimazione democratica dal circuito della rappresentanza politica generale in osseguio ai cardini e ai dogmi della liberal democrazia parlamentare evoco in questa sede il tema dell'esistenza di un sistema delle fonti perché in un certo senso cantianamente potremmo dire è la stessa condizione logico-trascendentale di pensabilità di un modello costituzionale cioè intanto si può parlare di un modello costituzionale in quanto le fonti vengono concepite come un sistema se non come qualcosa di rigidamente ordinato in base a criteri predefiniti perlomeno come un insieme di elementi che trovano un loro fattore di riduzione di unità si può dire che l'architettura costituzionale delle fonti si ispira ad un modello se si ritiene che questa architettura esprime delle regolarità strutturali che ne definiscono il contenuto essenziale e minimo e consentono in questo senso di dire che le fonti sono ordinabili in un sistema ha quindi dal mio punto di vista ancora senso oggi ragionare di sistema delle fonti pur nel quadro del tutto destrutturato che abbiamo davanti perlomeno come ipotesi di ricerca per comprendere se esiste un modello costituzionale e qual è il contenuto di questo modello costituzionale ora in questa in questa ricerca la ricordata affermazione che la crisi del sistema delle fonti è essenzialmente crisi della liberal democrazia parlamentare e delle sue forme di produzione giuridica basate sulla rappresentanza non è un'affermazione dal mio punto di vista risolutiva perché se per un verso la transizione che la liberal democrazia e la forma di stato democratico rappresentativa attraversano da decenni concorre a spiegare molti e complessi fenomeni che hanno caratterizzato l'evoluzione del nostro sistema delle fonti penso alla perdita di centralità della legge alla rimodulazione del rapporto fa diritto legislativo e diritto giurisprudenziale alle rompere del diritto dei privati all'affermarsi dei poteri normativi delle autorità indipendenti ma anche all'apertura dei procedimenti normativi alla partecipazione degli interessati per altro verso però quella impostazione non è in grado di chiedere qual è il propium delle singole diverse e specifiche esperienze costituzionali che si sviluppano all'interno di quella forma di stato all'interno del modello della liberal democrazia parlamentare ora per comprendere quale sia il propium di questa esperienza nel caso della costituzione del 48 e di questi 70 anni di storia repubblicana soccorrono due notissime considerazioni di carattere storico su cui rinvio il testo scritto e che qui evoco in maniera estremamente sintetica la prima è quella che si può compendiare nella formula per cui la costituzione del 48 è una costituzione tipica una tipica costituzione compromissoria dello stato dei partiti espressione con cui si fa riferimento dal punto di vista storico come è noto al fatto che essa è in larga parte il prodotto storicamente situato nel tempo della volontà dei partiti che animarono l'esperienza del comitato di liberazione nazionale e liberarono l'Italia dal nazifascismo ma anche e soprattutto dal mio punto di vista cioè quello più teorico e generale con questa espressione si fa riferimento come dicevo prima al fatto che la nostra costituzione e quindi anche l'idea di sistema delle fonti che c'è dietro si nutre dagli ideali della liberale democrazia parlamentare la seconda premessa storica anche questa non necessita di particolari svolgimenti la dico in maniera molto sintetica usando una felicissima espressione del professor Kerry è che la costituzione repubblicana del 48 è nata per unire espressione con cui si può in maniera molto sintetica dire che ad essa i costituenti affidarono primariamente il compito di unire l'Italia che era uscita spaccata dalla seconda guerra mondiale divisa come era tra nord e sud ma anche tra fascisti e antifascisti tra monarchici e repubblicani perché evoco queste due notissime considerazioni di carattere storico perché il loro operare congiunto rende abbastanza intuitivamente comprensibile che quello delle fonti è stato concepito dai costituenti non solo come un sistema ma come un sistema che si ispirava a un modello ben preciso e questo modello è imperniato sulla centralità dell'assemblea rappresentativa come luogo per la composizione politica dei conflitti di dimensione nazionale cioè sul Parlamento come luogo per il raggiungimento del compromesso politico-partitico a garanzia dell'unità della Repubblica secondo una visione che fu tipica dei costituenti e che li unì tutti che guardava alla disciplina costituzionale delle fonti innanzitutto come al cuore dei processi e dei meccanismi di integrazione politica dell'ordinamento ora in questa prospettiva si comprendono molte delle scelte che furono fatte dai costituenti del 48 pensate a quanto è emblematica in questa prospettiva l'originale formulazione degli articoli 123 e 127 che per l'appunto affidavano al Parlamento di dirimere i conflitti posti al cuore dell'unità della Repubblica dall'esercizio dell'autonomia statutaria e legislativa delle regioni ma pensate anche a quanto appaiono significativi i silenzi del costituente su alcuni atti normativi o esperienze che erano ben note all'età liberale e che non furono prese in considerazione espressamente costituzionalizzandole proprio per non gettare ombra sulla signoria del Parlamento del sistema delle fonti pensate alle ordinanze extraordine ma allo stato d'assedio ma anche al potere regolamentare non è allora un caso che la declinazione della centralità parlamentare come fondamentale fattore di legittimazione democratica dei processi normativi ma anche degli strumenti normativi di controllo del Parlamento sull'indirizzo politico del Governo costituisca il vero filo rosso che lega ancora oggi quindi anche dopo le revisioni costituzionali che hanno eliminato alcune parti di quel modello mi riferisco evidentemente alla 1 del 99 in questo passaggio che lega dicevo tutte le norme che ancora oggi costituiscono l'ossatura del modello costituzionale del sistema delle fonti pensiamo alle varie riserve di legge in materia di diritti e di libertà alle varie declinazioni del principio di legalità alla costruzione del procedimento legislativo in funzione del bicameralismo perfetto e paritario alla riserva alla disciplina del referendum abrogativo ma anche degli atti del Governo aventi forze di legge ma ancora alla concessione con legge dell'amnistia dell'indulto dell'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali dell'approvazione del bilancio ma ancora all'approvazione con legge costituzionale degli statuti delle regioni speciali ma anche al ruolo che viene riconosciuto alla legge costituzionale e alla legge regionale nei procedimenti di variazione territoriale di quegli articoli 132 e 133 all'obbligo di comunicare le sentenze di accoglimento della Corte alle Camere ma soprattutto direi al tendenziale mi sentirei di chiamarlo così al tendenziale monopolio che l'articolo 138 attribuisce al Parlamento nella revisione costituzionale e dico tendenziale monopolio perché configura il referendum come eventuale come strumento a tutela della minoranza ma su questo e sulla prassi che poi ne è seguita avrò modo di dire in estrema sintesi allora mi pare di poter dire che alla luce di queste norme di come la dottina pacificamente le interpreta da anni un modello costituzionale del sistema delle fonti esiste e si radica proprio nella imprescindibile funzione di legittimazione democratica che il Parlamento esprime nei processi normativi sia sotto forma di proposizione di un autonomo indirizzo politico sia sotto forma di controllo sull'indirizzo politico del governo entrambi gli aspetti secondo i capisaldi della forma di governo parlamentare e con questo vengo a definire l'idea che mi son fatto e che vi propongo di definizione del modello costituzionale dire infatti che il tratto essenziale e qualificante del modello è la centralità del Parlamento per il ruolo che ha nella forma di governo parlamentare significa individuare il cuore di quella concezione minimale del sistema di cui parlavo in una nozione diversa ma anche sensibilmente più ampia rispetto a quella della mera centralità della legge parlamentare che deriva da un'analisi che rimane tutta sul piano della forma di Stato e non scende sul piano della forma di governo e questo a mio modo di vedere ha delle conseguenze molto significative dal nostro punto di vista essenzialmente due la prima conseguenza è che non si può ritenere che il modello costituzionale sia superato né per effetto dell'inclinatura dei dogmi della sovranità statale né per effetto di quelle revisioni costituzionali che hanno allontanato il nostro sistema delle fonti dalla logica della centralità della legge parlamentare e penso in particolar modo alla 1 del 99 che ha superato l'imposizione della forma di governo assembleare per le regioni ordinarie ma ha anche eliminato l'approvazione con legge parlamentare ma penso anche alla 3 del 2001 che sicuramente ha allontanato il sistema delle fonti da quel modello originario che i costituenti avevano in mente e lo testimonia la costituzionalizzazione del potere regolamentare ma ha anche molto significativa la soppressione del controllo di merito del Parlamento sulle leggi regionali secondo il vecchio articolo 127 che sappiamo però non avere mai avuto luogo la seconda conseguenza che deriva perdonatemi se banalizzo dall'individuare il cuore del modello nella centralità del Parlamento secondo la forma di governo parlamentare e non nella centralità della legge e che residono significativi spazi di compatibilità per il modello costituzionale anche in relazione a quelle prassi e a quei procedimenti e a quelle esperienze che ancorché testimonino una recessività della legge parlamentare sono comunque compatibili con la facoltà e con la capacità del Parlamento di esprimere la sua funzione di legittimazione democratica pensiamo ad esempio agli istituti che scandiscono la cosiddetta fase ascendente fase discendente nel diritto dell'Unione Europea in disparte ogni considerazione sull'efficacia che questi istituti hanno avuto sulla prassi su cui devo rinviare necessariamente al testo scritto ciò che mi preme sottolineare adesso è che questi istituti dimostrano che c'è spazio per una capacità di legittimazione democratica dell'assemblea parlamentare anche al di là dell'utilizzo dello strumento della legge ma pensiamo anche ai poteri normativi delle autorità amministrative indipendenti in relazione alle quali le leggi istitutive prevedono non solo rilevanti poteri di nomine in capo alle amministrazioni parlamentari ma prevedono anche l'obbligo di riferire annualmente alle camere proprio in funzione di raccordo con il sistema democratico rappresentativo ora se un modello costituzionale esiste questo significa che questo modello deve essere assunto a base per valutare le trasformazioni che il sistema delle fonti ha conosciuto in questi 70 anni di storia della Repubblica e vengo così alla parte centrale della mia relazione che però è anche la seconda e l'ultima perché ho già detto che la terza non la esporrò cosa vuol dire guardare alle trasformazioni del sistema delle fonti alla luce del modello costituzionale proprio nel solco delle premesse che ho cercato di porre sull'idea di sistema delle fonti e di modello costituzionale dal mio punto di vista significa provare a leggere le trasformazioni del sistema delle fonti alle luce delle parallele evoluzioni che la forma di governo parlamentare ha subito negli stessi anni il che significa in definitiva chiedersi quanto il nostro modello costituzionale di sistema delle fonti è stato rigido cioè quale capacità ha saputo mostrare di resistere al cambiamento intendendo per cambiamento ovviamente non solo quello determinato dalle revisioni costituzionali ma anche quello determinato da quella molteplicità di fattori politici economici sociali ma anche di alta natura che trasformano le costituzioni e le fanno cambiare pur senza alterarne la lettera ora dalla lettura delle trasformazioni del sistema delle fonti alla luce dell'evoluzione della forma di governo parlamentare mi pare che sia ricavabile una sorta di periodizzazione della storia repubblicana delle fonti che vi propongo di articolare in cinque fasi o stagioni a cui dedico la parte centrale del mio intervento una prima fase è quella degli anni cinquanta e sessanta sono gli anni come noto della cosiddetta defascistizzazione dell'ordinamento che viene realizzata grazie al contributo fondamentale della giurisprudenza costituzionale ma sono anche gli anni dell'inattuazione della costituzione che è determinata dal prevalere in parlamento di orientamenti politici di tipo conservatore che partoriscono l'esperienza dei governi a guida della democrazia cristiana che temeva in una certa misura che l'attuazione della parte più progressista della costituzione potesse portare consensi alle sinistre in particolare al partito comunista che come scrive molto efficacemente Leopoldo Elia è oggetto di una sorta di pregiudiziale di pregiudiziale preclusione questo clima ostile all'attuazione della costituzione lo ricordiamo tutti è certamente alimentato anche dagli orientamenti della magistratura della giurisprudenza perlomeno fino alla svolta del convegno dell'associazione nazionale magistrati di Gardone del 1965 fino a quel momento infatti è forte la ritrosia della magistratura sia all'applicazione diretta della costituzione sia all'interpretazione conforme ma è soprattutto molto ricorrente la distinzione fra norme programmatiche e norme direttamente precettive che è proprio il solco la trincea su cui si arresta l'attuazione della costituzione ora proprio in questo contesto fin dalla seconda metà della prima legislatura direi si cominciano a far seguire a far sentire gli effetti che il funzionamento della forma di governo determina sul sistema delle fonti così appunto già nella seconda metà della prima legislatura il deposito di tutta una serie di iniziative legislative provenienti dai vari esponenti delle correnti della democrazia cristiana determina quello che è stato chiamato in dottina il primo intassamento dei lavori parlamentari nel 1953 in occasione dei lavori parlamentari di approfazione della legge truffa per la prima volta viene apposta la questione di fiducia su quello che poi sarebbe divenuto comune chiamare un maxiemendamento ora nonostante una certa tendenza all'ipertofia legislativa delle primissime legislature e nonostante la corte costituzionale fin dalla sua prima storica sentenza abbia cercato di relativizzare per lo meno sul piano della giustizia costituzionale la distinzione fra norme precettive e norme programmatiche l'attivazione della legge parlamentare in funzione di attuazione del programma costituzionale viene diffusamente avvertita come insufficiente come carente e anche come necessaria e si sviluppa a partire dagli anni sessanta un intenso un intenso dibattito sulle cause dell'inerzia del Parlamento molto significativo se riletto con la sensibilità di oggi vi prendono parte Costantino Mortati Vezio Crisafulli ma anche Leopoldo Elia il quadro che ne emerge è sconfortante e desolante per questi per questi autori un'unica eccezione viene individuata da Paladine nella legge quarantotto del sessantasette che istituisce il cipe a cui si affida la speranza di poter interrompere quel perverso intreccio che si era creato fa in attuazione della Costituzione e mancato decollo della pianificazione economica per il resto le agende politiche dei governi comebbe a dire Fanfani nella quarta legislatura erano una sorta di libro dei sogni qualcosa di molto distante dalle esigenze e dai bisogni di attuazione della Costituzione e non meraviglia allora che il sistema delle fonti fin da queste sue primissime esperienze cominci a denotare alcune difficoltà di funzionamento oltre alla ricordata ipertofia legislativa l'accentramento dell'iniziativa legislativa nelle mani del governo ma anche la difficoltà dei disegni di legge governativi di terminare il proprio idere a causa dei contrasti tra le varie correnti della democrazia cristiana ma anche l'aumentare dei volumi della legislazione provvedimentale che spesso viene approvata con commissione cooperante in sede legislativa gli anni 70 segnano invece l'avvio di una seconda fase o di una seconda stagione che è determinata essenzialmente dalla circostanza che i modi rivoluzionali del 68 danno al Parlamento una chiara indicazione riformista allora quello stesso sistema delle fonti che il decennio precedente non era stato in grado di dar luogo all'attuazione della Costituzione diventa invece una fucina incredibilmente operosa nascono le regioni vengono attuate le grandi riforme economico e sociali dallo statuto dei lavoratori alla riforma del diritto di famiglia dall'istituzione del servizio sanitario nazionale all'introduzione del divorzio e dell'aborto dalla riforma del servizio pubblico radio televisivo ai primi trasferimenti di funzioni amministrative alle regioni è quella che si può definire la vera e propria stagione d'oro del sistema delle fonti ma questo non solo perché concorre in maniera significativa ad attuare il programma costituzionale ma perché opera in perfetta sintonia con il modello che i costituenti avevano pensato a mio modo di vedere lo testimoniano in maniera molto significativa due vicende la prima è quella che si sviluppa a partire dalla legge 468 del 78 attraverso cui il Parlamento si dota della legge finanziaria proprio per realizzare tutte le modifiche legislative dell'ordinamento che sono necessarie per perseguire l'indirizzo politico e definire il limite di ricorso massimo all'indebitamento presso i mercati che è necessario per finanziare l'attuazione della parte più progressista della Costituzione quella che riguarda i diritti sociali la seconda vicenda nel lungo periodo probabilmente più significativa è quella della riforma dei regolamenti parlamentari del 71 che recepiscono sul piano della vita politico parlamentare proprio quell'impostazione assembleare compromissoria che era stata posta dai costituenti alla base del modello il frutto più maturo di questa stagione è quindi il disgelo costituzionale i cui effetti si colgono innanzitutto nel fondamentale contributo che le minoranze parlamentari danno all'approvazione di taluna importanti leggi di attuazione della Costituzione penso per esempio alla 352 del 70 sugli istituti di democrazia diretta ma penso anche alla legge sulla casa e penso anche allo statuto dei lavoratori in questa stessa fase però cominciano a cogliersi anche nella prassi alcune idee di tendenza che sembrano testimoniare che quell'equilibrio raggiunto dal sistema politico-partitico sta per essere messo in discussione non è poi così granitico come sembra in particolar modo mi riferisco al costante aumento del ricorso alla decretazione d'urgenza anche con la funzione di forzare la sintesi del compromesso politico anche per raggiungere il compromesso politico su questioni politicamente controverse che per l'appunto forse la cartina di tornasolo è più significativa del fatto che quell'equilibrio sta per essere messo in discussione in effetti negli anni 80 si apre una terza una terza fase che è determinata dal fallimento del compromesso storico e che si può compendiare con la formula del cosiddetto pentapartitismo il quale altera in maniera molto significativa sia la logica di funzionamento della forma di governo parlamentare sia la logica di funzionamento conseguentemente del sistema delle fonti anche in questo ci restituisce una conferma della bontà di questa lettura parallela di questi due universi e in effetti l'instabilità degli esecutivi ma anche il raggiungimento di compromessi politici sempre di più basso profilo finisce per determinare una crisi del sistema dei partiti e la crisi del sistema dei partiti finisce per diventare la crisi della stessa costituzione repubblicana e questo per quanto più ci interessa innesca un inarrestabile processo degenerativo della forma di governo parlamentare che non poteva non coinvolgere anche il sistema delle fonti e in effetti torna a riecheggiare la feroce critica schmittiana nei confronti della strattezza della legalità parlamentare il parlamentarismo dei partiti non è più visto come il luogo privilegiato per il raggiungimento del compromesso politico che è necessario per riempire l'unità politica della nazione dei contenuti tratti dalla prima parte della costituzione ma diventa il simbolo dell'autoreferenzialità dei partiti della corruzione del predominio degli interessi di casta se non individuali la nota disillusione che decenni prima Vezzio Crisafulli manifestava in quel dibattito degli anni 60 diventa straordinariamente profetica tutto l'immaginario dei costituenti viene capovolto e con l'idea del compromesso politico inizia a tramontare anche l'idea di sistema delle fonti che su quella compromesso politico i costituenti avevano inteso edificare lo dimostrano una serie di prassi innanzitutto l'aumento della legislazione a carattere provvedimentale ma anche il diffondersi dei decreti legge in carenza dei presupposti necessità e urgenza nasce la prassi della reiterazione dei decreti legge la legge di conversione come è stato efficacemente detto diventa un treno in corsa a cui agganciare i vagoni dal contenuto più disparato e comunque radicalmente disomogeneo rispetto al contenuto del decreto legge della convertire sempre nella decretazione d'urgenza si afferma la tendenza a nominare commissari cui vengono attribuiti poteri extraordine la legge finanziaria diventa uno strumento omnibus compensivo di tutte le modifiche dell'ordinamento che si ritengono necessarie per raggiungere il compromesso politico del momento spesso su questioni microsettoriali anche in contrasto con gli indirizzi di politica economica generale e non e non raramente varato grazie alla posizione della questione di fiducia su maxi emendamenti proposti proposti dal governo parallelamente la degenerazione della logica compromissoria che era stata apposta alla base dei regolamenti parlamentari del 71 rende impossibile al governo avere certezza dei tempi di approvazione dei provvedimenti che presenta in Parlamento e in effetti l'aspirazione all'unanimità che era contenuta nella disciplina della programmazione dei lavori dei regolamenti del 71 si scontra con l'ostilità sempre più forte di settori via via crescenti della vita politica della vita politica italiana che rifiutano quella logica assembleare quella logica compromissoria che era alla base sia del modello costituzionale delle fonti sia dei regolamenti parlamentari del 71 e non meraviglia allora né che proprio in questi anni si affermi il tema della governabilità così come non meraviglia che il sistema delle fonti sia posto al centro del primo tentativo organico di riforma della costituzione condotto dalla bicamerale Bozzi nel 1983 su cui naturalmente mi devo limitare a rinviare al testo scritto vorrei però sottolineare che questa terza fase questa degli anni 80 si chiude con tre molto rilevanti tentativi di contenere le degenerazioni della forma di governo parlamentare e di riportare ordine nel sistema delle fonti il primo è evidente certamente a tutti è la legge 400 dell'88 che rappresenta anche la prima vera attuazione costituzionale del modello di sistema delle fonti ma ci sono anche altri due passaggi fondamentali il primo di questi due passaggi è la legge 362 dell'88 con cui proprio per reagire alla prassi delle finanziarie omnibus si cerca di limitare il contenuto della legge finanziaria alle sole regolazioni quantitative estrettamente necessarie alla manovra e alla definizione del limite teorico massimo di ricorso all'indebitamento il terzo tentativo che viene condotto nella medesima direzione è quello della legge La Pergola dell'86 e dell'89 che introduce lo strumento della legge comunitaria da un lato per contenere l'aumento dei volumi della legislazione che comincia a crescere in maniera incontrollata proprio per dare attuazione al diritto dell'Unione e dall'altro risolvere il problema che poi è diventato strutturale come ben sappiamo dei ritardi nell'attuazione del diritto dell'Unione Europea ora queste tre riforme di sistema proprio per il loro carattere ordinamentale e proprio per il fatto di alimentarsi dalle reciproche implicazioni fa forma di Stato e sistema delle fonti possono essere considerate come il canto del cigno del modello costituzionale lo testimonia che negli stessi anni quindi stiamo dicendo la fine degli anni Ottanta prenda avvio un incrementale processo di riforma dei regolamenti parlamentari che è teso a depurarli da quella originaria logica compromissoria e assembleare perché quella logica viene adesso sempre più spregiativamente concepita come consociativa lo dimostra la riforma dei regolamenti dell'88 che generalizza il voto palese come modalità di decisione alle Camere ma anche la riforma della programmazione dei lavori del 90 alle Camere i tempi sono quindi maturi perché si conosca un'altra discontinuità in questa storia costituzionale che è quella che in effetti si determina segnando l'avvio di una quarta fase una quarta stagione all'inizio degli anni 90 e che si realizza per effetto di due vicende che determinano una forte lacerazione dell'ordito storico della Repubblica la prima è quella che si può definire anche qui perdonatemi attraverso la formula giornalistica di Tangentopoli che spazza in un sol colpo via dal panorama politico partitico italiano tutti i partiti che avevano animato l'esperienza dell'Assemblea Costituente e l'esperienza delle prime legislature repubblicane la seconda è evidentemente il referendum elettorale del 18-pile del 93 che determina un'evoluzione della nostra forma di governo parlamentare in senso maggioritario ora gli effetti di questo rinnovato contesto sul sistema delle fonti non potrebbero essere più radicali in effetti a cambiare in maniera molto netta non sono solamente le prassi che è la prima cosa che si percepisce ma cambia il modo stesso in cui le fonti sono concepite quello delle fonti cessa di essere un tema come era stato fino ad allora di attuazione di implementazione dell'ellittico tessuto pluralista della Costituzione diventa un segmento della più ampia questione dello strumentario della funzione governante cioè delle fonti si afferma una visione una lettura che potremmo definire schumpeteriana proprio per mettere in evidenza il suo carattere servente e strumentale rispetto all'idea della democrazia maggioritaria della democrazia dell'alternanza come pure è stata chiamata della democrazia decidente ancora una volta quindi non si prova particolare meraviglia a constatare che il sistema delle fonti è nuovamente al centro di ulteriori due organici tentativi di riforma della Costituzione quelli condotti dalla demita Iotti del 93 e dalla bicamerale d'Alema del 97 così come non desta meraviglia in questo contesto che entrambi questi tentativi siano condotti attraverso poterose deroghe all'articolo 138 della Costituzione che di quel modello costituzionale nei cui confronti si manifesta sempre maggiore insofferenza evidentemente rappresentava uno dei pilasti quel processo di adeguamento del sistema politico costituzionale italiano alla nuova logica maggioritaria che non arriva in fondo sul piano della revisione costituzionale invece arriva in porto con riferimento ai regolamenti parlamentari per effetto della riforma del regolamento della Camera del 97 e delle più puntuali riforme del regolamento del Senato degli anni dal 99 al 2002 che coniugano da un lato la certezza dei tempi dei lavori parlamentari con il riconoscimento di tutta una serie di prerogative ai parlamentari della minoranza che nel frattempo nella nuova logica si costituisce in opposizione proprio nel senso di un più generale riconoscimento di uno statuto dell'opposizione all'interno di queste riforme naturalmente la sempre più avvertita esigenza di rinforzare il ruolo del governo in Parlamento e lo ricordo molto bene perché erano i primi mesi e i primi anni della mia attività era tutta dominata da questa idea del rafforzare il ruolo del governo in Parlamento porta all'introduzione di alcuni istituti la nuova disciplina del filtro di ammissibilità degli emendamenti la nuova disciplina della programmazione dei lavori tutti istituti che vanno appunto nel senso di rafforzare il ruolo e la presenza del governo in Parlamento quando si dice in Parlamento si pensa innanzitutto del governo all'interno dei processi normativi ora la restante parte degli anni 90 e gli anni 2000 che valgono a definire temporalmente questa quarta fase sembrano dimostrare però che l'evoluzione della forma di governo parlamentare in senso maggioritario non è in grado di curare in maniera miracolosa ai problemi del sistema politico partitico italiano dalla crisi della rappresentanza alla scarsa qualità delle leggi e delle politiche pubbliche dalla instabilità dei governi alla loro incapacità di fonteggiare i problemi economico-sociali soprattutto quelli derivanti dalla crescita esponenziale del debito pubblico che era in gran parte il frutto delle prassi torsive della legge finanziaria di cui abbiamo detto ma nemmeno i problemi economico-sociali derivanti dalla nuova incipiente crisi economico-finanziaria del 2007-2008 ebbene proprio il sistema delle fonti costituisce un banco di prova significativa dell'assenza di qualsiasi virtù taumaturgica del maggioritario si cominciano a diffondere all'interno dell'ordinamento delle prassi che sono sempre più difficilmente compatibili con il modello costituzionale per cercare di fare ordine vi propongo di dividere queste prassi che sono numerose in tre grandi gruppi un primo gruppo contiene tutte quelle prassi che testimoniano il sostanziale fallimento del tentativo di razionalizzazione compiuto dalla 400-88 pensate all'esplosione della delega legislativa si assiste a deleghe senza principi e criteri a deleghe che vengono esercitate oltre il termine proliferano i decreti legislativi integrativi e correttivi che spesso sono previsti da norme diverse da quelle che hanno attribuito la delega principale che vengono adottate a distanza notevole di tempo e talvolta vengono inserite anche in leggi di conversione di decreti e leggi che hanno tutt'altro contenuto a tutti note è poi la parabola che ha subito la decretazione d'urgenza dopo la sentenza 360 del 96 con cui la corte costituzionale ha posto un argine alla prassi della reiterazione per un verso si assiste al dilagare delle ordinanze di protezione civile che non soggiacciono né al controllo presidenziale ma nemmeno a quello del presidente della repubblica parallelamente si ha la mutazione genetica come ha scritto Andrea Simoncini del decreto legge che diventa un'iniziativa legislativa governativa rafforzata dall'immediata entrata in vigore e soprattutto dai tempi certi dell'esame parlamentare se non addirittura della sua approvazione visto il tandem governo maggioranza parlamentare non meno significative sono le prassi sul potere regolamentare qui cosa si testimonia le rompere del fenomeno dei decreti di natura non regolamentare che testimonia quella che è stata felicemente a mio modo di vedere definita in dottrina come una sorta di fragilità della 400 dell'88 fragilità dell'articolo 17 soprattutto che subito dopo l'entrata in vigore della legge dà luogo a quel fenomeno proteiforme di fuga dal regolamento di cui un altro punto di immersione molto significativo è la prassi in materia di delegificazione che si sviluppa su binari del tutto diversi rispetto a quelli tracciati dall'articolo 17 comma 2 con ogni conseguente ricaduta problematica in termini di rispetto al principio di legalità e del rispetto del principio di gerarchia delle fonti vi è poi un secondo un secondo gruppo di prassi che testimonia a mio modo di vedere un altro fallimento che è il fallimento del tentativo che ho ricordato prima che i regolamenti parlamentari avevano fatto di far transitare nella nuova logica maggioritaria l'assetto dei rapporti fra maggioranza e opposizione sul piano dei processi normativi qui infatti si assiste soprattutto in relazione al procedimento legislativo a tutta una serie di prassi che testimoniano proprio l'offuscamento di quei caratteri di pubblicità di trasparenza di apertura del contraddittorio dialettico tra maggioranza e opposizione che erano alla base tanto della logica maggioritaria ma erano alla base anche delle riforme dei regolamenti parlamentari pensate per esempio al diffondersi dei maxi emendamenti oppure pensate all'abuso della questione di fiducia che spesso si accompagna alla richiesta da parte della maggioranza parlamentare di iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea provvedimenti che non hanno ultimato il loro iter in commissione e più in generale proprio alla svalutazione del ruolo che le commissioni hanno avuto nella forma di governo parlamentare perché come la dottrina di quegli anni ha ben evidenziato non erano più in grado né di esercitare la funzione di indirizzo politico né tantomeno avevano più che capacità voglia di controllare l'indirizzo politico del governo poi vi è una terza categoria residuale che raccoglie tutte quelle prassi che vanno tutte nel senso di aver determinato una progressiva marginalizzazione del Parlamento nei processi normativi penso all'accentramento dell'iniziativa legislativa al massiccio inserimento degli emendamenti anche governativi nella conversione dei decreti legge al consolidarsi dei decreti legislativi integrativi e correttivi al ricorso alle deleghe in bianco che spesso vengono utilizzate per attribuire la potestà legislativa non al governo secondo lo schema dell'articolo 76 ma alle autorità amministrative indipendenti allo strutturarsi proprio attraverso la legislazione delegata di una sorta di colegislazione tra Parlamento e Governo ma penso anche al costante permanere della legislazione provvedimentale all'allungamento dei tempi del procedimento legislativo e al permanente ormai carattere omnibus delle manovre di bilancio l'insieme di queste prassi ci dimostra l'incapacità del sistema politico partitico di produrre nella nuova logica maggioritaria un assetto dei rapporti tra maggioranza e minoranza che sia conforme con il modello costituzionale ce lo confermano innanzitutto la prassi dei rinvii presidenziali ex articolo 74 di Ciampi ma anche direi la prassi delle noti quilinalizie di Napolitano e del primo mandato che in più occasioni stigmatizzano il modo in cui il tandem maggioranza parlamentare e governo utilizza il sistema delle fonti deformandolo per ragioni di contingenza politica e di questa prassi presidenziale ricordiamo tutti c'è traccia anche nella giurisprudenza costituzionale in particolar modo nella sentenza 22 del 2012 che declara l'incostituzionalità della prassi di inserire norme eterogenee in sede di legge di conversione rispetto al contenuto dei decreti legge da convertire richiamando per l'appunto tra le altre cose anche la prassi dei rinvii presidenziali che aveva stigmatizzato questa condotta ora sorvolo rinviando al testo scritto su una parte abbastanza lunga della relazione in cui cerco di mettere in evidenza che queste linee di tendenza che si possono sintetizzare nella marginalizzazione del Parlamento il parallelo accentramento delle funzioni normative in capo al governo nell'ambito di quella che mi è parsa di poter chiamare una più generale dislocazione del baricentro normativo della forma di governo parlamentare trovano puntuale conferma sia nei rapporti fra fonti interne e fonti dell'Unione Europea sia nelle vicende evolutive della revisione costituzionale sia nell'ambito del diritto regionale su questo purtroppo non ho tempo di essere analitico come avrei voluto ma sono sicuro che i lavori se ne gioveranno quindi cerco sinteticamente di dire qualcosa sui tempi a noi più recenti per poi rassegnare qualche conclusione i tempi a noi più recenti sono quelli di una sorta di quinta fase che mi è parso di poter chiamare come quella delle fonti nella forma di governo a tre poli cosa caratterizza questa fase la caratterizza il fatto che la crisi ormai conclamata che la rappresentanza politica generale e il sistema politico partitico e con esso la forma di governo parlamentare attraversa dagli anni ottanta nonostante si ponga in termini radicalmente diversi rispetto al passato per il fallimento della stagione maggioritaria non accenna di certo a diminuire di intensità e forse la manifestazione più concreta di questo è che la corte costituzionale ben due volte con la sentenza 1 del 14 e con la 35 del 17 abbia dovuto dichiarare incostituzionali le leggi elettorali di camera e senato proprio per le modalità con cui attribuivano il premio di maggioranza in questo contesto vecchie torsioni del sistema delle fonti e nuovi scostamenti dal modello costituzionale si sommano e la prassi denota l'abuso della decretazione d'urgenza e della questione di fiducia le delibere del governo salvointese la pubblicazione tardiva dei decreti legge la mancata approvazione in consiglio dei ministri dei testi dei decreti legge medesimi sostituiti da qualcuno sottolineando con ironia dalle slides i maxi emendamenti di conversione la crescita dell'attività consultiva delle commissioni parlamentari che non vale però come la dottina evidenzia a compensare la mancanza degli elementi costitutivi delle deleghe e che in genera una certa confusione sulla responsabilità politica tra Parlamento e Governo ancora il fenomeno delle deleghe legislative inattuate l'evoluzione del procedimento legislativo nei sensi di una sorta di bicameralismo alternato monocameralismo di fatto in cui l'istruttoria nella sostanza è fatta da una sola delle due camere e l'altra si limita a ratificare ma pensate anche a tutte le difficoltà e anche le aberrazioni delle politiche di semplificazione e riordino normativo prima fra tutte quelle realizzate attraverso il taglialeggi e più in generale ad una sorta di atrofia della legge come è stato detto una fuga dalla legge che quando viene utilizzata vede i suoi effetti sempre sempre più precarizzati provo a dare qualche sintetica idea conclusiva su cosa si può ricavare da questa lettura in parallelo dell'evoluzione del sistema delle fonti con la forma di governo parlamentare allora la prima considerazione che mi pare si possa trarre è che l'idea di distinguere fra emergenza e persistenza che viene suggerita dal titolo del convegno è un'idea molto felice perché in effetti in tutti e tre i livelli della produzione normativa di cui ci occuperemo nella sessione mattutina sia l'emergenza sia la tecnica sia i vincoli finanziari eteronomi dell'Unione Europea mostrano degli effetti che sono significativamente convergenti con linee di tendenza di medio e di lungo periodo che però affondano le proprie radici nella rottura del rapporto fiduciario e nella degenerazione della forma di governo parlamentare e non si possono porre in diretto rapporto di causalità con la crisi economica e con la pandemia se non altro perché si sono strutturate nei decenni precedenti hanno visto semmai un intensificarsi seconda considerazione i problemi che ci affannano sul tema delle fonti ormai da circa 15 anni cioè quelli della prassi che noi consideriamo più recente sono problemi che si capisce alla luce di questa storia non essere problemi congiunturali non dipendono dai singoli passaggi della vita politico partitico istituzionale italiana sono problemi strutturali sono problemi che derivano direi dalla difficoltà di funzionamento della forma di governo parlamentare ma meglio per essere aderente a quello che davvero penso alla difficoltà con cui i partiti politici interpretano la forma di governo parlamentare come l'hanno interpretata sia quando la forma di governo parlamentare funzionava secondo una logica di tipo proporzionalistico sia come l'hanno interpretata quando funzionava secondo una logica di tipo maggioritario forse l'ultima conclusione che si può trarre è dunque per tornare al titolo del convegno che possono essere ascritti alla sfera dell'emergenza tutti quei fenomeni normativi che abbiamo davanti che non si pongono in sostanziale continuità con questa più generale persistenza che è costituita dalla marginalizzazione del Parlamento e dal parallelo accentramento delle funzioni normative in capo al governo rispetto a questa idea sembra esserci una principale eccezione ed è il silente riaccentramento delle funzioni normative a livello statale che come emerge bene dalla relazione di Sara Lieto si pone invece in un rapporto di causalità più diretta sia con la crisi economica sia con la pandemia per il resto l'effetto della crisi e della pandemia sembra essere stato prevalentemente quello di avere reso stabili degli effetti e delle linee di tendenza che già c'erano il che mi consente di chiudere tornando proprio al punto di partenza cioè a quella distinzione fra emergenza e crisi che molte delle relazioni opportunamente sottolineo e che deriva dal carattere tendenzialmente conservativo dell'emergenza e potenzialmente evolutivo della crisi ecco molti di questi fenomeni non si possono ascrivere alla crisi dal punto di vista del nesso di causalità rientrano nella dimensione della crisi dal punto di vista degli effetti tendenzialmente stabili che determinano quanto poi il nuovo assetto del sistema delle fonti così stabilizzato sia conforme al modello costituzionale come ho detto in premessa è questione su cui rinvio il testo scritto ed è cosa che adesso faccio molto volentieri per non sottare ulteriore tempo ai nostri relatori grazie allora come già vi sarete resi conto ascoltando la magnifica relazione introduttiva di Andrea Cardone questo che affrontiamo in questi due giorni di lavoro è un tema affascinante complesso e che è anche giusto esaminare oggi per le grandi novità che oggi questo tema presenta e io vorrei proprio partire da un ringraziamento al gruppo di Pisa per aver scelto un tema di questo tipo proprio nonostante la complessità che il tema presenta proprio per le caratteristiche diciamo di attualità che questo tema ha e per il forte fascino che esercita sugli studiosi di diritto subestivo su diritto pubblico Andrea Cardone ci ha fatto una relazione completa approfondita molto illuminante devo dare atto che per rispettare i tempi ha fatto anche un enorme sforzo di sintesi io inviterei tutto a leggere il testo di questa relazione che è veramente splendido perché ha alle spalle una ricerca poderosa veramente e è un'introduzione molto utile direi per affrontare proprio i temi di questo incontro perché ci avvia a dare risposta alle tre domande di fondo che il tema presenta perché affrontare oggi il tema delle fonti perché affrontarlo sotto il profilo delle trasformazioni in atto e come affrontarlo con quale metodo con quali strumenti ora perché affrontarlo oggi beh mi pare già è venuto fuori un po' l'idea di fondo oggi questo tema rappresenta un po' il termometro per misurare lo stato di salute delle nostre democrazie perché esaminando il sistema delle fonti sotto il profilo delle trasformazioni si esamina le trasformazioni in atto nella forma di governo andando più a fondo nella forma di stato e andando più a fondo nel costituzionalismo contemporaneo cioè è un tema chiave per mettere in campo tutti i nodi cruciali della tradizione della scienza e della scienza costituzionale per mettere in campo il rapporto tra diritto e economia per mettere in campo il rapporto tra diritto e tecnica e questo è uno dei temi che oggi è più discusso sotto il profilo dell'intelligenza artificiale per mettere in campo il rapporto tra diritto e eventi naturali imprevedibili perché affrontare questo tema sotto il profilo delle trasformazioni perché nell'arco della storia repubblicana come proprio Andrea ci ha riassunto nei passaggi della sua relazione tutto è cambiato nel sistema delle fonti qualcuno ha ricordato forse anche Cardone mi pare Grisa Fuli Grisa Fuli fu il primo sistematore del sistema delle fonti come era stato descritto dalla nostra Costituzione e veramente costruì nella sua ricostruzione un sistema individuando le due chiavi c'era chi ha competenza e su queste due chiavi il sistema aveva un suo equilibrio una sua razionalità una sua prevedibilità ecco col passare degli anni e delle vicende politiche della nostra storia repubblicana il sistema si è rotto è stato terremotato e il terremoto è diventato le scosse di terremoto sono diventate più forti proprio nel corso nel corso degli ultimi anni al punto che oggi non si potrebbe più parlare di sistema ma già molti anni fa Pizzorusso aveva detto non si può più parlare di sistema cioè non c'è più quella razionalità di fondo quella organicità di fondo quella prevedibilità di fondo che aveva portato Grisa Fugli a costruire questo impianto costituzionale come sistema perciò trasformazioni profonde di cui occorre capire il senso e per capire il senso bisogna andare alle radici proprio dell'esperienza costituzionale forma di Stato forma di governo intrecci internazionali e così via come studiare questo problema ecco qui direi proprio l'interesse del convegno e qui vorrei proprio congratularmi con chi l'ha organizzato e l'ha impostato per capire queste trasformazioni così come si stanno oggi verificando la linea da seguire è quella della distinzione tra le trasformazioni di lunga durata dalle trasformazioni di breve durata le trasformazioni che si legano all'evoluzione di lunga durata della forma di governo in particolare rapporti Parlamento-Governo ma anche della forma di Stato sviluppo dell'autonomia e invece trasformazioni di breve durata sono quelle che interessano proprio la vita di questi ultimi anni di questi ultimi mesi cioè le trasformazioni che si legano all'emergenza persistenza nel primo caso emergenza nel secondo e qui il convegno correttamente ha impostato le tre emergenze che ci hanno investito partendo dal 2008 con l'emergenza economica e finanziaria con l'emergenza sanitaria del 2019 e poi con l'emergenza bellica in cui siamo entrati da poco più di tre di tre mesi ecco dette queste queste riferimenti che si traggono proprio dalla relazione introduttiva di Andrea e che poi mi pare siano i binari della discussione che svolgeremo nell'arco di questo nostro convegno io credo che si debba subito anche per il rispetto dei tempi che dobbiamo fare dare avvio a questa prima sessione che ha giustamente scelto come angolazione di esame il tema dei livelli cioè questi movimenti queste trasformazioni questi terremoti che hanno investito nel tempo il sistema delle fonti hanno operato secondo livelli il livello sovrastatuale che passa in primo luogo attraverso le fonti europee ma anche le fonti internazionali il livello infrastatuale che passa attraverso il sistema dell'autonomia e a fianco direi il livello che non saprei bene dove collocarlo probabilmente a fianco proprio delle fonti centrali dello Stato che sono quelle che in una relazione che ascolteremo questa mattina sono gli interventi normativi di quasi normazione di soste che si legano in particolare al tema del rapporto tra diritto e tecnica detto questo io do subito la parola al professor Antonello Localzo dell'Università di Studi del Sagno che ci affronta il primo tema che è quello delle interazioni tra la dimensione sovranazionale e la dimensione nazionale della produzione normativa prego grazie presidente il mio ringraziamento mi perdono rapidissimo per i tempi a disposizione sia al direttivo per la fiducia riposta spero non mal riposta ecco e ai professori e agli organizzatori diciamo tutti del convegno qui a Firenze per l'ospitalità davvero molto cortese e gentile preliminarmente ecco prima osservazione che posso fare sul tema tentare di dare una ricostruzione sistematica del quadro delle fonti che operano nei contesti di emergenza e di crisi a livello sovranazionale è opera mi pare complessa se non impossibile diciamo questo per una pluralità di ragioni però due sono quelle che mi sembrano preminenti la prima che ormai il ventunesimo secolo è un po' il secolo delle crisi delle emergenze si producono crisi di emergenze ormai in maniera costante a partire dalle torri in gemelle in poi e tutte queste crisi assumono una dimensione globale quindi il fenomeno se vogliamo in sé empirico della crisi dell'emergenza finisce per investire quello più strettamente tecnico giuridico della fonte quindi non c'è crisi se vogliamo o perlomeno non c'è crisi percepita come tale o emergenza percepita come tale che non sia ormai globale sovranazionale il secondo aspetto è quello che riguarda la stretta connessione che in quest'ambito si registra tra i profili per così dire contenutistici sostanziali e quelli poi formali che attengono al piano delle fonti che possono poi comunque generare dei frattendimenti come un po' ecco la sostanza che finisce per prevalere sulla forma per certi versi quindi in questo diciamo che il mio lavoro mi soffermo come già l'ha detto chiaramente il professor Kelly su tre ambiti che sono quello della crisi economica quello della l'emergenza crisi pandemica e poi da ultimo quello della crisi bellica che diciamoci la verità non era atteso nelle fasi iniziali di organizzazione del convegno è emerso e non se ne può comunque non si può comunque ignorare come linee di lettura ecco stavo pensando che ci sono almeno tre profili che forse emergono dalla in generale dall'analisi di questi tre casi un primo di carattere per così dire generale che attiene a alcuni aspetti già toccati cioè la differenza ontologica che c'è tra il concetto di crisi e il concetto di emergenza concetti che inevitabilmente assumendo un significato diverso si riflettono in maniera diversa sui sistemi delle fonti e sugli strumenti normativi utilizzati con un impatto significativamente diverso in termini di stabilità della produzione il secondo aspetto che attiene al rapporto sovranazionale e nazionale è quello che mi è sembrato un po' discorgere tra il livello per così dire europeo che è quello forse preminente in questo ambito quello internazionale mi sembra rilevare un po' meno poi vedremo dopo in che termini è quello di una certa tendenza alla stabilità nei sistemi delle fonti a livello sovranazionale europeo e una forte reattività dei sistemi nazionali aspetto che mi sembra sia emerso con maggiore evidenza nell'ambito della gestione della pandemia e terzo aspetto terzo profilo è quello che riguarda l'incidenza di fattori normativi o fattori non normativi cioè si registra in questa incidenza del profilo sovranazionale sui sistemi nazionali una sorta di connessione tra aspetti in senso stretto normativi ad esempio pensiamo all'impatto che ha la produzione di gestione della crisi economica dal 2008 dal 2011 sostanzialmente 2012 con tutta una serie di fattori che sono non normativi per così dire materiali che riguardano la gestione della pandemia e che hanno comunque una promanazione sovranazionale provengono dall'esterno non c'è una abbiamo nel senso in entrambi i casi dei fattori normativi non normativi che sono in grado di condizionare la produzione normativa nazionale e questo vedremo cosa significa dal punto di vista della delle implicazioni sulla permanenza se vogliamo della sovranità dello Stato ora alcuni profili inevitabilmente saranno come diciamo già per gli altri destinati a cadere sotto la scura del rinvio al testo scritto in particolare per quanto riguarda i profili che riguardano la gestione della crisi economica e della diciamo crisi economica post-pandemica sulle quali diciamo dedico soltanto alcune brevi battute cioè una differenza tra le due che mi pare si possa rilevare sia in un diverso approccio di natura sostanziale la prima caratterizzata da un estremo rigore ma ecco su questo ci saranno le relazioni del pomeriggio in particolare quella di Anna Alberti che farà chiarezza immagino e un approccio invece molto più attento al rilancio che al rigore nella successiva risposta alla diciamo crisi post-pandemica e un aspetto invece di carattere per così dire procedurale che vede in una prima fase di risposta alla crisi economica una certa tendenza alla fuga dal metodo comunitario sappiamo tutti diciamo gli strumenti utilizzati per ad esempio quelli che hanno portato all'introduzione del vincolo del pareggio di bilancio negli ordinamenti nazionali e un recupero se vogliamo di questo metodo comunitario nella successiva fase della gestione della risposta col recovery fund e tutto il sistema che ne è seguito e che si basa su una produzione normativa che trova il suo fondamento espresso ancora nei trattati ma il diciamo l'aspetto su cui vorrei soffermarmi maggiormente invece è quello che riguarda diciamo la gestione della crisi e dell'emergenza pandemica perché quello pandemico è un fenomeno per così dire complesso cioè un fenomeno che assomma in un unico episodio sia gli aspetti propriamente critici sia aspetti emergenziali aspetti emergenziali sotto il profilo eminentemente sanitario e quindi noi sappiamo tutti la risposta che c'è stata da questo punto di vista da parte degli stati nazionali e anche aspetto ovviamente critico soprattutto in merito alle conseguenze economiche della pandemia natura complessa che la pandemia mi sembra condivida anche con il più recente fenomeno bellico ci sono però alcuni aspetti che accomunano la pandemia anche alla precedente crisi economica in particolare c'è l'aspetto che riguarda sicuramente il carattere globale sovranazionale del fenomeno ma anche il discorso che riguarda il suo impatto simmetrico sugli stati perché talvolta si è detto che la pandemia ha avuto un impatto simmetrico sugli stati a differenza della crisi economica ma in realtà bisogna poi correttamente intendersi su cosa significa simmetria in questo caso quali sono gli effetti di questo impatto simmetrico perché le diverse condizioni degli stati sia dal punto di vista dell'organizzazione che dal punto di vista della capacità di risposta anche economica rispetto alla pandemia inevitabilmente comporta una magari simmetria in entrata ma una asimmetria in uscita ed è un aspetto non secondario dal punto di vista della capacità di reazione degli stati alla crisi in questo caso l'elemento che accomuna la crisi pandemica se vogliamo con la precedente crisi economica vi dicevo poi è inevitabilmente quello della capacità condizionante sulle scelte normative degli stati cioè la capacità di incidere sulla produzione normativa ed è l'aspetto credo più significativo emerso nella gestione della pandemia in Italia sulla quale mi soffermerò tra poco ora proprio la la vicenda che riguarda la gestione della pandemia considerata dal lato dell'interazione sovranazionale si deve collocare molto più diciamo in maniera molto più specifica sul versante europeo non che manchino profili di diritto internazionale puro se vogliamo però mi sembrano molto meno significativi ad esempio considerati il ruolo dell'OMS che diciamo non è stato in grado forse di dare un vincolo forte alla produzione degli stati quello europeo avrebbe potuto in un certo senso ma se adottiamo un approccio di tipo competenziale che mi sembra forse l'unico approccio in grado di garantire quantomeno quel rispetto del criterio formale che dicevo in precedenza se adottiamo un approccio di carattere competenziale vediamo che a livello di unione il livello delle competenze è piuttosto limitato il quadro delle competenze che emerge dai trattati quindi questo sia gli articoli 4 e 6 del trattato sul funzionamento dell'unione europea ma più nello specifico l'articolo 168 denotano una competenza limitata da parte dell'unione sul tema della salute che è poi quello preminente al riguardo e il rispetto di una posizione se vogliamo preminente degli stati in questi ambiti non solo per quanto riguarda la salute ma anche se pensiamo alle misure in materia di limitazione di libertà e diritti che sono state adottate ciò non toglie che il diritto dell'unione il diritto sovranazionale o comunque il diritto delle carte dei diritti consentitemi il gioco di parole ecco non possa assolvere una sua funzione comunque di limite rispetto alle misure adottate a livello nazionale non solo a livello dell'unione europea ma anche a livello della convenzione pensiamo all'abbastanza recente sentenza svizzera sulla limitazione della libertà di riunione quindi possono fungere da un parametro rilevante però sul piano strettamente competenziale quindi della produzione normativa gli interventi dell'unione per quanto non siano mancati tentativi di getti a perseguire una maggiore uniformità pensiamo ad esempio al regolamento sulle certificazioni digitali 953 2021 comunque resta un intervento fortemente limitato dei limiti di competenza previsti dai trattati quindi in questo ambito cosa abbiamo abbiamo probabilmente un ritorno dello Stato nazionale quindi quel concetto un po' di se vogliamo di crisi dello Stato sovrano come modello che si tramanda diciamo anche nell'attualità probabilmente va incontro un po' ad un paradosso il paradosso è questo almeno questa è stata l'impressione cioè lo Stato sovrano resta il soggetto chiamato in prima linea in primo luogo ad adottare i provvedimenti di produzione i provvedimenti normativi necessari nel caso ma resta comunque un soggetto che vede da una parte depotenziato il proprio intervento a causa della pressione se vogliamo di fattori anche extra giuridici sulla produzione normativa in questo caso la pandemia ma dall'altro è un soggetto che vede la sua diciamo sfera tradizionale di sovranità erosa dal carattere globale dei fenomeni come dire che lo Stato è il dominus dell'emergenza ma rispetto a fenomeni che non è in grado di dominare da solo questo mi sembra essere il paradosso cioè lo Stato è sicuramente colui che interviene in primo luogo in maniera principale ma si trova di fronte a sfide difficili da dominare secondo gli strumenti convenzionali quindi questo cosa ha comportato passando al livello statale ha comportato sappiamo tutti una forte reattività del sistema delle fonti che ha portato in primo luogo a interrogarsi sull'esistenza di un vero e proprio sistema emergenziale sistema che probabilmente può essere ricondotto a quel modello del codice di protezione civile del 2018 il quale però come è stato opportunamente osservato da molti studiosi ha denotato sin dall'inizio la sua diciamo maggiore adeguatezza a diversi contesti emergenziali rispetto a quello a quello pandemico quindi è andato diciamo immediatamente incontro un po' a desuetudine ad abbandono per seguire un modello diverso per certi versi questo modello del combinato decreto legge dpcm intorno al quale comunque il dibattito si è per certi versi acceso soprattutto a livello dottrinale ma poi ha avuto poi la sua compiuta definizione anche davanti alla corte costituzionale per quanto riguarda proprio questo modello ovviamente il tempo a disposizione non mi permette di fare una trattazione approfondita solo due osservazioni proprio sulle due particolari tipologie di fonte utilizzate cioè da una parte il decreto legge e dall'altra questo dpcm il decreto legge aspetto che mi pare diciamo preminente in questo caso si è detto già sia nella relazione del professor Cardone ma lo accennava anche il professor Kelly cioè il decreto legge nasce come ovviamente strumento probabilmente pensato a livello costituzionale per far fronte ad emergenze particolari da adottarsi in casi limitatissimi cioè davvero quando sussisteva un'emergenza questo concetto di fonte dell'emergenza del decreto legge poi in realtà è stato progressivamente abbandonato facendo diciamo leva sulla circostanza che si tratti più che altro di una fonte dell'urgenza più che dell'emergenza ciò ha portato ad una progressiva trasformazione del decreto legge non solo nell'uso ma anche nella percezione da parte degli organi abilitati alla produzione del diritto governo in prima battuta e parlamento in sede di conversione cioè il decreto legge non viene più percepito come strumento giustamente lo diceva anche il professor Cardone l'inviava ai lavori del professor Simoncini non è più lo strumento soltanto adeguato alla diciamo reazione alla situazione emergenziale ma è lo strumento di cui il governo si serve per far fronte all'urgenza del provvedimento di cui ha bisogno cioè il governo ha bisogno di andare rapidamente incontro all'approvazione di un atto si serve del decreto legge ora è normale che se io uso il decreto legge negli anni per ad esempio fare un mille proroghe quando poi mi trovo in una situazione come la pandemia forse quello strumento che si secondo l'idea originale del 77 dell'articolo 77 poteva andare forse forse non lo percepisco più come adeguato a quelle circostanze sia che si voglia diciamo adottare una prospettiva patologica cioè il decreto legge è degenerato nel tempo sia fisiologica cioè il decreto legge che si scopre lento perché proprio è la sua le sue peculiarità procedurali a renderlo tale comunque poteva diciamo essere previsto che il decreto fosse da solo insufficiente a far fronte a quella situazione emergenziale arriva l'uso di questo dpcm questo è l'aspetto più problematico perché dpcm ovviamente dpcm era qualcosa di diverso rispetto a quello che poi è diventato nel corso della pandemia e che mi pare poi nel conflitto bellico sia tornato ad essere quello che era cioè almeno leggendo i decreto legge sul contributo diciamo sul supporto all'ucraina nel conflitto mi sembra che dpcm sia tornato quello che era in passato anche quello diciamo che relativo alla alla protezione diciamo particolare per i rifugiati ucraini che trova il suo fondamento direttamente nella legge non nei decreti legge come avviene in questo caso nel caso della gestione della pandemia abbiamo invece questo dpcm che si salda con il decreto legge e che ha generato problemi diciamo dal punto di vista dell'effettiva tenuta del sistema costituzionale e un ampio dibattito dottrinale dibattito dottrinale sul fondamento di questo dpcm che poi è stato risolto dalla corte costituzionale con una sentenza piuttosto pragmatica perché la corte non ha mai chiarito ecco se si tratti di un sistema tipico atipico di produzione del diritto piuttosto riconosce questo strumento come una delle possibili alternative di produzione del diritto comunque conforme a costituzione e che comunque è legittimo nella misura in cui gli stessi dpcm abbiano soltanto una funzione attuativa esecutiva del decreto legge senza la possibilità di inserire nuove forme di limitazione in ogni caso quindi questo dpcm finisce per atteggiarsi a sorta di fonte coprimaria perché è una fonte che va ad integrare il contenuto del decreto legge sicuramente ma è una fonte che poi finisce per essere sottratta al sindacato della corte costituzionale quindi condivide l'integrazione del precetto se vogliamo con limitazioni significative ma poi assoggettata magari soltanto al sindacato del giudice amministrativo e sono stati poi numerosi casi diciamo di controllo operato in questo senso dopo la pandemia ecco proprio perché non ci si fa mancare mai nulla forse la cosa era attesa forse diciamo era prevedibile non è questa la sede per diciamo le indagini di carattere se vogliamo geopolitico adesso va di moda torna in Europa il conflitto bellico torno in Europa perché 30 secondi su questo aspetto pandemia e guerra hanno mi pare un profilo comune e cioè nella percezione a livello sociale ma anche dei decisori politici non soltanto a livello comune di uomo comune sembrano fenomeni da collocare in un remoto passato ormai cioè si pensava che ad esempio lo sviluppo della scienza e della tecnica da una parte e lo sviluppo di relazioni internazionali più o meno stabili successivamente alla seconda guerra mondiale ma in particolare dopo il crollo dell'unione sovietica soprattutto quindi la fine della guerra fredda sembrano destinati a collocare questi fenomeni pandemia e guerra o in un remoto passato o in quelle zone del mondo ancora in via di sviluppo che ancora forse non avevano abbracciato questo progresso che si pretendeva ormai diciamo radicato nel mondo occidentale in realtà pandemia e guerra ci hanno dimostrato che quelli che sembravano assiomi certi in realtà tali non erano che ciò che si pensava esistere solo in un altro mondo in realtà poteva esistere anche nel cosiddetto civilissimo mondo occidentale quindi pandemia ha dimostrato di colpire un po' tutti gli stati la guerra ha dimostrato di tornare anche nel cuore dell'Europa e quindi abbiamo oggi una sorta di continuità emergenziale se pensiamo anche dal punto di vista della gestione normativa di questa nuova emergenza abbiamo uno stato emergenziale quello diciamo dichiarato in relazione al conflitto ucraino che si salda a quello immediatamente precedente della pandemia anzi si sovrappongono per un mese perché duplice dichiarazione di fine febbraio per la guerra 31 marzo diciamo il termine dello stato di emergenza per la pandemia ora gli stati hanno sempre manifestato una certa ritrosia nella dichiarazione degli stati di emergenza ritrosia ormai superata ampiamente mentre l'hanno mantenuta forse per fortuna con riferimento allo stato di guerra tanto che in dottrina si è discusso anche sulla attualità dell'articolo 78 vigente della costituzione modello dell'articolo 78 che oltre diciamo ad essere supportato sul piano sostanziale dal contenuto dell'articolo 11 è integrato sul piano ordinario dalla legge quadro sulla partecipazione alle missioni internazionali che è la legge 145 del 2016 che disciplina le modalità per la concessione dell'autorizzazione o per la proroga delle missioni già autorizzate con riferimento alla diciamo all'Italia perché cito questa legge perché mi permette di collegarmi agli ultimi decreti più recenti i due decreti 14 e 16 del 2022 che si autodichiarano diciamo derogatori e che mi sembra abbiano come fine proprio quello di derogare a quel sistema di proroga previsto dalla legge del 2016 perché tramite decreto legge mi sembra ecco si voglia dare copertura per l'anno 2022 alla partecipazione dell'Italia a missioni già diciamo autorizzate che invece avrebbero dovuto seguire la procedura prevista dalla legge del 2016 che era diversa che prevede per le proroghe diciamo un regime specifico a livello parlamentare quindi per l'emergenza determina il ricorso al decreto legge quindi tramite questi decreti si deroga al regime di proroga oltre diciamo ad altri aspetti problematici che riguardano l'uso di tecniche di produzione normativa piuttosto controverse quello della decretazione minotauro che si riguarda sia i decreti bellici in senso setto ma anche il decreto di risposta economica quello che il decreto 21 2022 con cui è stato risposto ormai quello che conosciamo tutti il taglio delle accise sui carburanti quindi diciamo questo aspetto della guerra fa tornare diciamo nuovamente la questione su un punto su un aspetto generale cioè se tutte queste reazioni innovative nel sistema dei fondi dipendono dal carattere sovranazionale o meno dell'emergenza o se piuttosto debbano essere individuati in una sorta di flessibilità dei sistemi cioè dei sistemi che ormai hanno perso la loro strutturazione e quindi meglio si prestano a queste deviazioni avviandomi a conclusione credo che l'ultima cosa possa trovare una risposta in risposta parziale ecco in alcune riflessioni e cioè da una parte abbiamo una un forte impatto della globalizzazione non solo sulla produzione del diritto ma anche sulle dinamiche che attengono le crisi e le emergenze come dicevo in apertura se crisi ed emergenze hanno diciamo valore globale allo stesso modo globale dovrebbe essere la capacità di reazione ma abbiamo uno stato spesso isolato rispetto a questi fenomeni e quindi diventa poi difficile per il singolo stato reagire a fenomeni di portata globale quindi la risposta alle sfide che caratterizzano caratterizzate dalle emergenze dovrebbe essere individuata in una diversa e più forte forma di coesione interazione soprattutto a livello europeo che punti diciamo non solo sugli aspetti della democraticità come è stato fino al recente passato ma soprattutto su quelli solidaristici l'elemento della solidarietà nell'approccio mi sembra un elemento imprescindibile come questi aspetti incidono sui sistemi delle fonti probabilmente l'aumento di complessità dei sistemi delle fonti va di pari passo con l'aumento di complessità delle società ed è un fenomeno inevitabile in un certo senso tant'è vero che tale situazione può dar luogo ad un paradosso cioè dar luogo ad una apparenza di maggiore capacità reattiva di quei sistemi se vogliamo più rudimentali più semplici dando l'idea che un sistema autoritario ad esempio possa offrire una capacità di risposta migliore rispetto alla crisi pandemica e equivoco nato soprattutto nelle prime fasi di questo fenomeno quindi proprio per la capacità che crisi ed emergenze hanno di incidere sulla tenuta degli ordinamenti sulla capacità limitante delle costituzioni talvolta in dottrina è stato proposto l'introduzione di clausole emergenziali espresse aspetto abbastanza controverso nel senso che abbiamo una dottrina abbastanza spaccata sul punto tra i fattori della costituzionalizzazione dell'emergenza e diciamo coloro i quali ritengono che la costituzione già dia strumenti sufficienti per far fronte alle situazioni emergenziali ciò che mi sembra rilevare invece maggiormente sul piano sovranazionale non sia tanto quello di avere o meno a disposizione uno strumento emergenziale costituzionalizzato ma quello di accedere ad un diverso rapporto tra stati che tenga conto di un particolar modo di sviluppo di una particolare evoluzione della sovranità passare da una sovranità esclusiva statale ad una sorta di sovranità come lo diceva Mario Draghi una sorta di sovranità condivisa in ambiti di fragilità per gli stati cioè in quegli ambiti in cui gli stati non sono più in grado di fronteggiare determinati fenomeni perché sfuggono alla loro dimensione nazionale se sfuggono alla dimensione nazionale sfuggono anche in un certo senso al diritto dello stato e quindi alla produzione normativa degli stati in questi ambiti si pone secondo me la vera sfida dell'integrazione dell'evoluzione dei rapporti tra stati una sfida che opera su due livelli secondo me da una parte quello che vi dicevo della ricerca di una maggiore integrazione di una maggiore coesione tra stati dall'altra la necessità di bilanciare questa nuova forma di integrazione e il fenomeno bellico apposto diciamo sul piano diverse criticità nuove fragilità alle quali non si era pensato diciamo fino al recente passato questa diciamo esigenza di interazione deve comunque essere adeguatamente bilanciata con da una parte il mantenimento del livello diciamo di progresso nella garanzia dei diritti che non può essere comunque soppresso dall'altro con il rispetto del ruolo delle costituzioni nazionali che non possono essere degradate a mere carte locali ma che devono comunque assolvere una funzione essenziale nell'implementazione delle tradizioni costituzionali comuni a livello europeo solo in questo modo ecco ho l'impressione che si possa garantire diciamo il pieno raggiungimento di due esigenze da una parte l'integrazione e quindi la coesione a livello europeo dall'altra e infine il rispetto dello stato di diritto quindi dimostrando che vi possa essere forza integrazione anche dove vi sia il diritto grazie 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 professor Locazzo per questa relazione molto chiara e molto convincente a mio avviso particolarmente convincente proprio nella parte conclusiva relativa alla solidarietà e al concetto di sovranità condivisa che dovrebbe guidare gli sviluppi dell'integrazione europea degli anni futuri cambiamo adesso il livello dell'esame con una relazione sull'impatto dell'emergenza sanitaria economica da covid-19 sul sistema delle fonti tra livello statale regionale e locale la reazione è affidata alla professoressa Sara Lieto dell'università Federico II di Napoli a cui passo la parola grazie grazie professor Kelly prima di iniziare desidero ringraziare il direttivo del gruppo di Pisa la presidente professoressa D'Amico per l'invito ringrazio la professoressa Nicotra che per il costante diciamo confronto in questi mesi di preparazione del convegno e naturalmente ringrazio l'università di Firenze per l'ospitalità allora entro subito nel vivo delle mie riflessioni diciamo da una constatazione insomma anche ovvia e cioè la tendenza appunto connaturata agli stati di emergenza che appunto la necessità di intervenire tempestivamente no questa è la ragione per cui essi vengono affrontati in genere con degli strumenti alternativi alla legge formale sia pur nell'alveo appunto delle garanzie costituzionali della riserva di legge e del principio di legalità tuttavia prima di entrare nel merito di come il sistema delle fonti nel nostro ordinamento diciamo ha reagito all'emergenza sanitaria ed economica da covid vorrei insomma fare una riflessione un po' più ampia partendo diciamo dal titolo del convegno che contiene due termini molto evocativi emergenza e crisi concetti che vengono spesso utilizzati come sinonimi per definire in generale accadimenti eccezionali che impongono appunto delle modalità in deroga agli ordinari strumenti di intervento riproponendo quindi il tema fondamentale del diritto costituzionale dei poteri e dei loro limiti ora emergenza e crisi possono essere diciamo intesi sia come concetti che come fenomeni nel primo caso quindi in quanto esistenti in se stessi quindi al di là diciamo del dato sensibile e invece nel secondo caso appunto in quanto fatti o eventi peculiari suscettibili di osservazione dal punto di vista giuridico in particolare l'emergenza rileverebbe non solo come fenomeno ma anche come concetto mentre la crisi è in realtà diciamo qualcosa che rileva come fenomeno entrambi appunto hanno comunque un'incisiva ricaduta sul sistema delle fonti anche se a differenza dell'emergenza la crisi è un fenomeno di transizione cioè qualcosa che determina un cambiamento dello status quo in realtà in realtà questa soluzione interpretativa che proposta sembra venire in sostegno anche la stessa etimologia della parola crisi discernimento separazione punto di svolta scelta quindi in realtà rimanda diciamo un processo di separazione presuppone in qualche misura una discontinuità emergenze e crisi possono avere dei punti di contatto nel senso che un fenomeno emergenziale che solitamente è un fenomeno che termina e quindi permette che si riconfiguri diciamo lo status precedente può in realtà assumere esso stesso delle caratteristiche tali da produrre una vera e propria transizione quindi un assetto nuovo e quindi in questo senso produrre crisi ora dal punto di vista delle fonti del diritto nel caso appunto dell'emergenza che tendenzialmente è un fenomeno che si apre e che si chiude il suo diciamo il suo impatto sul sistema che solitamente dispone di dispositivi per gestirla è un impatto minimo mentre invece nel caso della crisi che non si risolve nel ripristino delle condizioni originarie l'impatto è massimo quindi in altri termini mentre l'emergenza è contenuta in un contesto normativo che la governa e che quindi resta diciamo un fattore di riferimento costante la crisi invece si pone al di fuori e produce effetti sullo stesso sistema mettendone quindi in discussione appunto istituti e categorie ora la dimensione globale dell'emergenza pandemica io direi che la dimensione globale è già di per sé un carattere tale da far pensare ad un fenomeno destinato diciamo coincidere piuttosto profondamente sugli equilibri di produzione normativa del resto questo è emerso già con chiarezza all'indomani della dichiarazione dello stato di emergenza è emersa appunto la necessità di definire nuovi statuti dell'emergenza anche a livello costituzionale da diciamo affiancare o da sostituire a quelli preesistenti che evidentemente per tutta una serie di ragioni non si sono rivelati del tutto idonei molte sono le questioni naturalmente emerse molte delle quali strettamente legate alle diciamo esigenze di coordinamento tra i diversi livelli di produzione normativa locale nazionale e sovranazionale che quindi credo rendano necessaria la messa a punto di un modello integrato quindi di un modello che sia in grado di coniugare diciamo sia le esigenze di un coordinamento centralizzato che è un'esigenza direi imprescindibile appunto nei contesti emergenziali ma anche le istanze appunto di differenziazione a livello locale veniamo ora alla cornice costituzionale perché ora al di là delle precisazioni che ho fatto su questi due termini appunto molto significativi contenuti nel titolo del convegno io direi che è anche utile richiamare la scelta fatta in costituzione dei termini o comunque delle espressioni per indicare accadimenti fenomeni eccezionali che giustifichino appunto delle modalità di intervento più veloci o comunque inderoga alla disciplina ordinaria molto rapidamente l'articolo 77 casi straordinari di necessità e d'urgenza articolo 78 stato di guerra 81 eventi eccezionali 119 interventi speciali 120 pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica il tema della necessità di rendere più rapido l'iter decisionale si riscontra poi nel 72 comma 2 nel 73 un tema di promulgazione sulla base appunto di una dichiarazione di urgenza quindi vediamo che la costituzione contiene non diciamo non pochi dispositivi idonei ad affrontare casi piuttosto vari fornendo in questo modo ai fatti eccezionali attraverso la loro espressa previsione una copertura tale da impedire che gli stessi possano essere appunto inquadrati extra ordine però tra i tanti termini impiegati in costituzione non emerge né quello di crisi né quello di emergenza non è contemplato espressamente uno statuto costituzionale dell'emergenza quindi l'emergenza ritornando alla precisazione che facevo prima resta almeno sul piano costituzionale nella dimensione fattuale mentre rileva chiaramente sul piano costituzionale lo statuto giuridico dell'urgenza con il quale appunto si interviene sull'emergenza ora se il termine emergenza diciamo pur non comparendo comunque presenta diciamo delle evidenti assonanze con urgenza pericolo eccetera un discorso diverso va fatto per il termine crisi perché il termine crisi il concetto di crisi si colloca in evidente contrapposizione proprio con quello di costituzione perché mentre quest'ultimo rimanda appunto all'idea della stabilità dell'ordine costituito quello di crisi come abbiamo prima precisato invece indica un cambiamento beh si dirà anche le costituzioni cambiano no no andando incontro attraverso le loro revisioni attraverso l'azione degli interpreti a quelle che sono le trasformazioni e le nuove istanze della società però si tratta di esigenze di adattamento riconducibili a processi fisiologici quindi non traumatici che in ogni caso non sovvertono le fondamenta dell'impianto costituzionale quindi in altre parole c'è nella costituzione una istanza conservativa intangibile che è rappresentata proprio dall'ossatura del sistema costituzionale con particolare riguardo ai meccanismi di garanzia che corredano il nucleo fondamentale dei diritti e dell'organizzazione dei poteri quindi da questa prospettiva quanto più gli eventi sono ascrivibili al concetto di crisi tanto più essi rappresentano un problema proprio per la discontinuità che potrebbero produrre rispetto all'assetto costituzionale e alla produzione del diritto ora però in realtà la crisi è comunque presente in costituzione in qualche modo la crisi di governo in particolare quindi vediamo che la crisi di governo ha una sua disciplina in costituzione che contempla non solo le condizioni che la determinano ma anche i relativi strumenti di soluzione da parte del Presidente della Repubblica dimostrazione che i costituenti si preoccuparono e come di normare appunto la crisi quindi di normare in qualche misura questo fenomeno di passaggio ad un altro assetto di governo basato su nuovi equilibri appunto tra le forze politiche nel caso dell'emergenza invece come prima ho anticipato in realtà si tratta di un fenomeno destinato tendenzialmente a chiudersi e quindi un fenomeno rispetto al quale la Costituzione contiene diciamo gli strumenti per fronteggiarla certamente si può discutere se ampliare o rafforzare questi dispositivi di gestione dell'emergenza ed è quello che insomma oggi in qualche modo stiamo tentando di fare però certamente diciamo gli strumenti che sono stati diciamo utilizzati per fronteggiare la pandemia in qualche modo hanno retto anche superando diciamo lo scrutinio di costituzionalità ed è questo diciamo un dato con il quale ci dobbiamo misurare anche se naturalmente sopravvive la preoccupazione di chi nonostante appunto anche le recenti decisioni della Corte mi riferisco in particolare alla 198 e alla 37 comunque intravisto in questa modalità complessiva di produzione normativa non pochi strumenti diciamo non pochi elementi di incostituzionalità e quindi teme che appunto tale modello di intervento si possa diciamo in qualche modo stabilizzare e quindi riproporsi in futuro al di fuori del solco delle garanzie costituzionali ed è per questo che naturalmente diciamo è necessario che tutte le disfunzioni tutte le incompatibilità che comunque si sono registrate in questo periodo vengano rimeditate rimediate quindi anticipando quanto prima la messa a punto di un sistema di intervento più adeguato evidentemente a dei nuovi standard emergenziali che come abbiamo detto insomma travalicano i confini locali e che quindi richiedono un approccio che tenga conto anche delle differenze territoriali e allo stesso tempo naturalmente garantire adeguati livelli di coordinamento centralizzato del resto diciamo lo statuto costituzionale dell'urgenza è un modello che si definisce in un sistema delle fonti molto più semplificato rispetto a quello attuale che è un sistema molto più complesso molto più poroso molto più eterogeneo e soprattutto in un sistema in cui il riparto di competenze tra Stato e Regioni era un progetto ancora tutto da realizzare quindi ciò che si è riverificato durante la stagione pandemica deve rappresentare un monito per riflettere sui modelli di gestione nel rispetto soprattutto di alcuni principi quello di legalità della riserva di legge della forma di governo parlamentare e del principio di leale collaborazione quindi alcuni diciamo tra i principali principi che sono stati posti sotto tensione dal tipo di intervento normativo diciamo messo in atto in questo frangente ora rinvio naturalmente al testo scritto diciamo l'approfondimento di diverse questioni ne ricordo alcune quelle principali di cui molto si è discusso a livello dottrinario innanzitutto la scelta di intervenire con il modello di LDPCM quindi in deroga alla disciplina di protezione civile poi la natura dei DPCM su cui già sono state dette delle cose da Antonello Localzo il principio di leale collaborazione quindi e i sistemi di raccordo il ruolo dei presidenti delle regioni e la forma di governo regionale il riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni e il ruolo del Parlamento la perdita di centralità della legge sarò naturalmente rapidissima per quanto riguarda la prima questione appunto il modello di intervento prescelto a livello centrale per fronteggiare l'emergenza pandemica è stato appunto questo modulo decreto legge di PCM che non ha però rappresentato un inedito perché si era ricorsi insomma a questa soluzione anche in passato in particolare per quanto riguarda la gestione dell'emergenza economica del bienio 2008-2009 modulo che viene riproposto recentemente per quanto riguarda appunto la gestione dell'emergenza causata dall'attacco russo all'Ucraina codice di protezione civile ha offerto naturalmente in una fase iniziale uno strumento molto importante a partire dalla dichiarazione dalla delibera dello stato di emergenza però poi è una disciplina che è stata rapidamente accantonata le ragioni direi almeno due la prima ragione è legata alla evidentemente inadeguatezza diciamo complessiva della disciplina di protezione civile affronteggiare questo tipo di emergenza essendo una disciplina tarata su altre tipologie di emergenze e poi direi che un'altra ragione ha a che fare con gli strumenti di intervento dalla stessa previsti quindi le ordinanze contingibili e urgenti una tipologia normativa molto discussa molto complessa sia sul versante dottrinario che giurisprudenziale possono diciamo questi atti appunto derogare alle leggi vigenti ma entro certi limiti con le opportune garanzie e quindi si tratta diciamo di un perimetro molto difficile da tracciare che ha impegnato moltissimo la Corte Costituzionale a partire dalla sentenza numero 8 del 56 la 26 del 61 insomma quindi atti normativi come dire di difficile diciamo utilizzo quindi da questo punto di vista non sorprende che rispetto all'emergenza pandemica questi strumenti siano stati diciamo accantonati a livello statale e si sia preferito naturalmente operare direttamente con una fonte di rango primario come il decreto legge anche se però questo non ha impedito alle ordinanze di essere utilizzate ad altri livelli di governo altra questione anche qui molto rapidamente questi famosi DPCM di cui si è tanto discusso come sappiamo i decreti legge hanno avuto bisogno di essere supportati da atti di natura appunto attuativa di questi DPCM soprattutto di quelli adottati a valle del primo decreto legge si è molto discusso c'è stata appunto poi una pronuncia della Corte Costituzionale che però non si è occupata propriamente diciamo dei DPCM incriminati in realtà qual è la questione questi atti in realtà avrebbero diciamo contenuto avrebbero presentato un carattere innovativo che non avrebbero potuto appunto avere e quindi in questo senso appunto l'innovatività ha rappresentato dei primi DPCM rappresentato un po' la vexata questio dicevo la Corte se ne è occupata a fronte di un'ordinanza di rimessione del giudice di Frosinone e sappiamo anche però che per questioni di carattere processuale essendo stata diciamo accolta l'eccezione di carenza di rilevanza relativamente appunto al primo decreto legge in realtà la Corte non si è occupata di quella diciamo di quella di quel modulo di intervento e in ogni caso ha diciamo risolto la questione attribuendo riconducendo genericamente questa tipologia di atti a quella degli atti amministrativi necessitati probabilmente e questo la Corte lo dice tra le righe se fosse entrata nel merito forse insomma la soluzione non sarebbe stata così scontata veniamo al terzo punto il problema legato alle esigenze di coordinamento tra i diversi livelli di governo in generale direi che la complessità dei fenomeni insomma come quello che abbiamo vissuto richiede non solo diciamo un efficiente grado di coordinamento ma anche un'adeguata differenziazione nella predisposizione delle misure emergenziali in linea con il principio appunto pluralista che si declina in diciamo su diversi piani in primis su quello appunto istituzionale quindi questo trova ovviamente diciamo trova riscontro nella nella struttura quindi composita del nostro del nostro Stato in realtà tutti questi problemi di cui si è molto discusso in concomitanza della pandemia in realtà sono dei problemi risalenti come pure è stato osservato appunto nella relazione precedente quindi in un certo senso costituiscono l'amplificazione nell'emergenza di questioni da tempo connaturate all'organizzazione territoriale e alle inefficienze evidentemente delle infrastrutture di dialogo tra centro e periferia sempre nell'ambito appunto delle esigenze diciamo di coordinamento di confronto un altro tema emerso in concomitanza dell'emergenza pandemica è quello del bicameralismo tenuto conto diciamo dei problemi di sovrapposizione e confusione nella modalità diciamo di produzione normativa dovuti all'accavallarsi di ambiti competenziali di diversa aspettanza statale e regionale la questione diciamo della differenziazione del bicameralismo è emersa è emersa insomma con diciamo con nuovo vigore e quindi la necessità insomma di come dire di affrontare la questione per rendere diciamo il modello camerale appunto più adeguato alla forma di organizzazione statale altra questione molto sulla quale andrò rapidamente perché il tempo è tiranno e quella relativa alla produzione normativa degli esecutivi regionali il fenomeno che è stato poi anche diciamo etichettato come protagonismo degli esecutivi regionali direi che insomma sì certo c'è stato sicuramente un protagonismo c'è stato sicuramente c'è stata una tendenza magari anche nell'approfittare delle circostanze per avere una maggiore diciamo visibilità però c'è secondo me un dato che comunque va diciamo tenuto presente che la forma di governo appunto regionale quindi l'assetto diciamo improntato ad un semipresidenzialismo ha contribuito a incrementare ovviamente la visibilità dei presidenti di regione sul versante sul versante invece della produzione normativa dei consigli regionali beh qui assistiamo diciamo a un fenomeno esattamente identico a quello che osserviamo per il Parlamento quindi a un processo diciamo generalmente involutivo delle assemblee legislative e su questo non mi soffermo perché appunto Andrea Cardone insomma ha fatto una bellissima relazione su questo tema l'unica notazione a proposito insomma della circostanza pandemica come sappiamo è rappresentata dalla legge regionale della Valle d'Aosta anche qui c'è stata una sentenza la sentenza 37 che diciamo ha proposto come dire soluzione quella di ricondurre praticamente quasi tutte le misure contenute nella legge regionale alla materia di competenza legislativa esclusiva che è appunto la profilassi internazionale anche qui non sorprende tanto il risultato cui è divenuta la Corte ma insomma i più attenti commentatori hanno giustamente come dire criticato l'impianto argomentativo della sentenza perché la scelta di ricondurre tutto alla materia profilassi internazionale in realtà ha diciamo concesso non ha concesso nulla direi alle esigenze della leale collaborazione mentre invece se l'impianto argomentativo fosse stato un po' diverso naturalmente la Corte avrebbe potuto diciamo attingere a dei dispositivi interpretativi come la trasversalità la chiamata insussidiarietà che insomma avrebbero maggiormente valorizzato le autonomie sulla posizione del Parlamento e sulla sua diciamo marginalizzazione ripeto non mi soffermo perché appunto la relazione insomma introduttiva è stata come dire non esaustiva di più e quindi vengo rapidamente appunto alle conclusioni a voler diciamo tracciare un riepilogo e qualche considerazione conclusiva diciamo tutto quanto osservato durante l'emergenza covid nel sistema di produzione normativa in realtà sembra confermare una tendenza diciamo a fatto nuova di progressiva perdita di centralità della legge nell'ambito delle fonti allora due sono i concetti su cui mi vorrei soffermare il primo è il concetto della complessità che è un carattere ineludibile del nostro tempo quindi qualsiasi tentativo di semplificazione della stessa poi corre il rischio di incorrere diciamo in banalizzazioni e quindi anche nell'elaborazione di soluzioni insoddisfacenti e parziali l'altro elemento è la collegialità però vorrei dire innanzitutto diciamo la consapevolezza della complessità è una consapevolezza che trova particolare eco nel modello nel modello democratico che costituisce la sintesi di più interessi da voce canalizza istanze molteplici e quindi rappresenta tuttora nonostante i suoi limiti il solo modello possibile di espressione del pluralismo dicevo la collegialità che è un altro concetto importante la legge è espressione di un organo collegiale questo rappresenta un'ulteriore garanzia di pluralismo rispetto a delle decisioni che vengono invece adottate o assunte da organi monocratici in questo senso complessità e collegialità si diciamo rivelano dei concetti correlati quindi più i fenomeni da governare sono complessi più ad essi risulta adeguato un decisore plurale la chiave di volta diciamo di tutte queste considerazioni insomma direi il tempo il fattore il fattore che rappresenta la chiave di volta di tutte le tematiche che sono state finora affrontate quindi la risoluzione di questioni complesse necessita di tempo quindi di un tempo adeguato però la realtà ci pone di fronte anche a delle esigenze di velocità e di rapidità che sono e quindi si tratta naturalmente complessità e rapidità di due concetti non facilmente conciliabili non mi riferisco naturalmente alle sole diciamo situazioni emergenziali che ovviamente per loro natura richiedono soluzioni tempestive ma anche a quelle ordinarie dove pure attecchito l'idea appunto incontrovertibile che certi processi debbano necessariamente essere rapidi e veloci quindi tempo e complessità che generano un paradosso che si riflette naturalmente sul sistema di produzione del diritto e naturalmente io non mi espongo insomma in questa sede in diciamo impossibili soluzioni perché si tratta veramente di questioni insomma troppo impegnative vorrei concludere con una domanda cosa sia il progresso che appunto è la domanda con cui terminare probabilmente esso non è sempre da intendere diciamo in un senso lineare quindi come qualcosa di nuovo che si proietta nel futuro ma è anche un guardarsi indietro come l'Angelus Novus di Benjamin l'angelo redentore della storia così potentemente raffigurato in un quadro di Paul Klee e quindi guardarsi indietro per recuperare quello che si è perduto e quindi se la complessità è la cifra dei nostri giorni ad essa va probabilmente sacrificata almeno in parte la rapidità della decisione confinandola alle sole ipotesi in cui essa è effettivamente necessaria interrompendo quindi questa tendenza che da eccezione ne ha fatto la regola vi ringrazio grazie 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 alla professoressa dietro la cui relazione credo tutti abbiamo apprezzato per chiarezza ed equilibrio la professoressa dietro ha toccato mi pare i due punti più critici che la vicenda della pandemia ha determinato a livello delle fonti cioè il tema del rapporto decreto-legge decreto del presidente del consiglio dei ministri su cui tanto si è discusso e su cui poi alla fine la corte costituzionale ha dato una soluzione a mio avviso ragionevole e il tema del rapporto stato-regioni su cui invece le insoddisfazioni rimane molto alte la dottrina ma anche l'opinione pubblica ha avvertito specie nei primi mesi dell'emergenza una forte sconnessione nelle modalità di funzionamento del nostro stato regionale perciò si è aperta anche tra i giuristi una riflessione su come intervenire su questa sconnessione se c'è proprio un difetto di modello sono stati invece un difetto inevitabile per la rapidità con cui l'emergenza veniva a verificarsi io credo che questa materia debba lasciare delle tracce sul futuro del nostro stato regionale forse il problema non è tanto la ridefinizione delle materie su cui poi la corte ha lavorato adeguatamente ma sulla previsione di adeguati strumenti di coordinamento qui bisogna trovare a me ad esempio ha sorpreso molto perché il governo non abbia usato abbastanza il potere del 120 non so quale sia se è stata una ragione politica se è stata una ragione di inadeguatezza dello strumento che il governo riteneva di avere tra le mani che invece era uno strumento di notevole efficacia che avrebbe potuto risolvere a monte molti dei problemi che si sono verificati grazie professore Salieto passiamo alla terza e ultima relazione che affronta i confini della materia i confini della normatività è forse il tema più sfuggente e su questo tema hard law e soft law in tempi difficili ascoltiamo la relazione di Fabio Pacini dell'università della Tuscia prego grazie ringrazio il professor Kelly ringrazio il si si prego subito volevo quindi comunicazione di servizio c'è un coffee pre mi dicono che è aperto e chi desidera usarlo può andare ma proseguiamo i lavori prego dalle 13 dalle 13 dalle 13 alle 14 alle 16 e 30 dalle 13 alle 16 e 30 votazioni bene grazie prego grazie grazie di nuovo al professor Kelly grazie grazie al direttivo dell'associazione per questa occasione e per il supporto grazie alla professoressa Nicotra grazie naturalmente al dipartimento di scienze giuridiche dell'università di Firenze per questa organizzazione ora come accennava appunto il professor Kelly la perimetrazione stessa del concetto di soft law è tutt'altro che pacifica e confesso mi appare lecito chiedersi se sia utile anche solo a fini ricostruttivi utilizzare una categoria così vasta e così eterogenea una categoria della quale peraltro alcuni autori negano l'esistenza stessa in ogni caso quello che intendo fare in questa relazione è di servirmene comunque per alcune considerazioni sia di carattere specifico sia generale per con riguardo al sistema delle fonti come delineato poco fa dal professor Cardone in particolare col suo rapportarsi a dati di natura e provenienza disparate e da questo punto di vista coerentemente col tema del convegno i momenti i periodi di particolare tensione per l'ordinamento giuridico costituiscono sicuramente banchi di prova significativi per riflessioni di questo tipo brevemente quello di soft law è un concetto di ascendenza internazionalistica utilizzato in origine per ricomprendere fenomeni che sfuggivano alla rigidità delle fonti del diritto internazionale in senso proprio i trattati su tutte moltiplicarsi da qui di risoluzioni programmi d'azione all'interno delle organizzazioni internazionali dichiarazioni accordi non vincolanti si tratta cioè di strumenti di varia natura con i quali gli stati graduano l'assunzione di obblighi internazionali soprattutto in alcune materie tra le quali a titolo esemplificativo il diritto internazionale dell'ambiente il diritto internazionale dell'economia ma anche l'ambito dei diritti umani sempre a livello sovranazionale è noto e nell'ambito dell'unione europea che da decenni si sono diffuse secondo la definizione di linda senden norme di comportamento stabilite strumenti ai quali non è stata attribuita forza giuridicamente vincolante in quanto tali e che tuttavia possono avere determinati effetti giuridici indiretti peraltro sottolineo avendo lo scopo di produrre questi effetti giuridici ancorché indiretti dunque in primo luogo torneremo a più riprese sul punto comunicazioni raccomandazioni dichiarazioni codici di condotta e tra le ragioni che spingono all'adozione di questi strumenti vado molto velocemente vi sono le tensioni chiaramente sulle competenze stesse attribuite all'unione europea la difficile attuazione del principio di sussidiarietà la diversità ci tengo a specificarlo dei modelli sociali europei un ambito nel quale appunto c'è stata tutta una produzione in termini di soft law quindi questi strumenti dal punto di vista dell'unione europea questi strumenti diciamo di soft law sono sicuramente al crocevia di alcuni se non tutti i principali nodi problematici dell'unione stessa e quindi costituiscono una cartina di tornasole interessante e meritevole di attenzione ed è del resto mi limito a un accenno proprio a commento della matrice europea del soft law che troviamo la ripartizione utile spesso citata anche in altri ambiti tra funzioni del soft law come potenzialmente di pre law post law e paral law ormai però il concetto di soft law è comunemente esteso anche all'ordinamento interno e questa estensione significa forse inevitabilmente porsi almeno come problema l'ottica di una insoddisfazione o non completa soddisfazione per gli atti normativi come classicamente intesi quanto alla loro capacità di esplicare efficacemente la funzione normativa verso ogni aspetto socio-economico e le relative richieste questo si segnala spesso a commento di questi strumenti non è peraltro scevero di una componente più o meno velata di critica alla democrazia rappresentativa e dai procedimenti normativi più strettamente ad essa legati su tutti è stato più volte ricordato il procedimento legislativo parlamentare e tornerò su questi aspetti nell'ultima parte della relazione ecco con riferimento all'ordinamento italiano fermo restando anche in questo caso il proliferare di atti non tipizzati e non riconducibili entro le tradizionali fonti del diritto ad esempio dichiarazioni di principi raccomandazioni risoluzioni carte codici di condotta buona parte del discorso per così dire dottrinale giurisprudenziale sul soft law è stato legato e noto all'affermarsi del ruolo delle autorità indipendenti e con esse al dibattito su forme di legalità procedurale mi limito a ricordare il caso delle linee guida vincolanti ANAC e dal dibattito vivace che ne è sorto più in generale ma mi limito appunto anche qui ad accenni perché sono questioni note ci si muove nell'ambito del concetto di regolazione un concetto ampio e a sua volta di difficile perimetrazione derivato dall'administrative regulation come ampliamento di atti con effetti latamente normativi di nuovo rispetto al sistema delle fonti classicamente inteso spesso in rapporto va ribadito con l'idea di un mutamento del ruolo dello Stato segnatamente nei suoi rapporti con l'economia ecco così rapidamente tracciato il contesto come si ha detto i momenti di tensione imprevedibile dell'ordinamento giuridico che qui riassuntivamente indico come tempi difficili rimandando ad altre relazioni dedicate per una tassonomia costituiscono delle fasi in cui è interessante riflettere sulla tenuta delle categorie giuridiche resistendo mi permetto di dirlo alla tentazione di moltiplicarle ma sfruttando o provando a sfruttare questa prassi inedita per provare a raffinarle occorre quindi ripercorrere la risposta in termini di rapporto tra hard e soft law dell'ordinamento italiano all'interno della rete di rapporti più ampia nella quale si trova ad operare senza anticipo indulgere in catalogazioni ma provando a identificare alcune linee di fondo nel tentativo di mantenere quella necessaria visione sintetica integrale anche a fronte di uno strumentario lo ripeto frammentario e rapsodico ecco nello spirito del doppio triplo titolo del convegno partendo dal versante economico a livello sovranazionale la risposta alle crisi appunto economiche degli anni 90 era stata volta proprio a incentivare modelli di regolazione flessibile identificandosi nella creazione a livello internazionale di standard guidelines codici di condotta raccomandazioni corredate da forme di adeguamento spontaneo volontario e occasionale senza nessuna garanzia di una puntuale applicazione delle regole applicate a livello globale e quindi poi in seguito con la crisi del 2008 le istituzioni a livello sovranazionale coinvolte hanno avuto un approccio almeno in parte diverso proprio per cercare di rimediare alle carenze evidenti anche di regolazione che avevano causato la stessa crisi del 2008 quindi si è affiancata quantomeno la soft regulation che spesso assumeva tratti di de-regulation con una hard regulation che detasse almeno in parte nuove restrizioni e vincoli in un contesto nel quale è stata ridisegnata l'architettura istituzionale dei sistemi di vigilanza su tutti pensiamo agli accentramenti di funzione a livello di unione europea questa maggiore ibridazione però attenzione non ha assolutamente comportato il superamento del soft law nell'ambito dei mercati finanziari che anzi continua a mostrare una capacità espansiva come testimonia su tutti il fatto che il regolamento sul meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie prevede per l'autorità bancaria europea il potere proprio di occupare spazi non coperti dalla disciplina tradizionale tramite orientamenti raccomandazioni e altri atti i soft law del resto proprio per fronteggiare la crisi del 2008 la commissione ha emanato una lunga serie di comunicazioni partendo dagli aiuti di stato ed estendendo progressivamente il suo raggio d'azione ecco dati quindi questi precedenti in se mi permettete tempi difficili non stupisce che per la risposta all'epidemia l'unione europea e in particolare la commissione che è stata protagonista della prima fase di risposta si sia attivata in larga parte proprio con strumenti di soft law a partire dalla comunicazione per una risposta economica coordinata all'epidemia di covid-19 già del 13 marzo 2020 nella quale oltre a considerazioni e misure di coordinamento viene in qualche modo teorizzato per così dire lo shock cito di grande portata per l'economia europea e mondiale e si anticipano le risposte della commissione pochi giorni dopo con un'altra comunicazione abbiamo il quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia europea nell'attuale emergenza covid-19 e gli stati membri sono stati autorizzati all'adozione di misure in ausilio del tessuto economico anche in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di stato ebbene questo quadro temporaneo in materia di aiuti di stato è stato esteso e integrato in circa due anni per ben sei volte strumenti di soft law in particolare ripeto comunicazioni della commissione hanno peraltro contraddistinto non solo la primissima fase di risposta ma anche la sua gestione nel tempo ad esempio con riferimento alla revoca poi successiva delle misure di contenimento oggetto anche in questo caso di comunicazione della commissione più di recente anche nel caso della guerra in ucraina o meglio delle sue ripercussioni pesanti in ambito economico si è avuta una risposta da parte della commissione in termini soft law nuovamente sotto la forma del quadro temporaneo da questo punto di vista è stato subito sottolineato che mentre di solito in quest'ottica di legalità procedurale gli atti di soft law della commissione in materia di aiuti di stato quantomeno sono sottoposti a consultazione pubblica ecco per questo quadro temporaneo relativo alle conseguenze economiche della guerra in ucraina non si sono previste consultazioni e non è stata pubblicata nessuna interlocuzione a vario titolo con gli stati membri e quindi emerge un contesto di largo utilizzo di un soft law per così dire emergenziale che consente sicuramente una risposta veloce e flessibile tuttavia questo rischia fortemente di porre in sofferenza i procedimenti decisionali delineati dai trattati ma addirittura appunto in quest'ultimo caso della risposta alla guerra in ucraina si getta un'ombra anche su quel livello minimo di coinvolgimento trasparente mediante le consultazioni pubbliche è pur vero quindi che queste comunicazioni a commissione permettono di fornire agli operatori economici un quadro diciamo anche di prevedibilità per così dire velocemente però proprio perché questi strumenti finiscono per acquisire una importanza notevolissima specialmente nei settori dove le competenze della commissione sono più ampia aiuti di stato su tutte beh questa capacità di influenza pone con forza il problema della legittimazione sono i tali atti sia dal punto di vista del procedimento di adozione ma più ancora del coinvolgimento degli altri organi su tutti il Parlamento Europeo con riferimento invece specifico all'esperienza italiana per la risposta all'epidemia il contesto è stato quello ben noto che è stato appunto ripercorso da Saralieto poco fa di numerosi fattori di tensione del sistema delle fonti ma anche per quanto qui rileva di un utilizzo particolarmente intenso di strumenti latamente di soft law oltre al rilievo inedito di strumenti che solo con difficoltà lo dirò sono ascrivibili anche alla categoria del soft law e le direttrici di questo sviluppo appaiono in primo luogo due da un lato il rilievo inedito a livello esterno rispetto all'amministrazione di atti come le circolari su tutte un esempio che probabilmente in molti ricordano quella del ministero dell'interno dedicata a chiarire la nozione di congiunti infelicemente inserita nel dpcm il 16 aprile 2020 e altra linea interessante in questo caso il ruolo cruciale di atti col nomen di linea guida dall'altro lato va considerato il peso che di fatto ci tornerò tra poco hanno finito per ottenere documenti nati con scopi puramente comunicativi come le fac le domande frequenti non solo come ulteriore linea di tendenza e sempre con l'idea appunto di spingersi ai confini della normatività come tale occorre segnalare la flessibilizzazione per così dire anche di parti dei dpcm che dichiaratamente contengono mere raccomandazioni in ogni caso come si è detto un rilievo particolare lo hanno avuto le linee guida variamente declinate quanto alla loro veste giuridica peraltro alcune tra le più rilevanti sono state allegate ai dpcm quindi quanto meno questo ci dà degli indici di rilievo quanto alla loro efficacia in termini analoghi alla fonte che le incorpora questo peraltro nel contesto di un gioco di sponda interessante tra hard e soft regulation per cui il diritto hard diciamo dell'emergenza esplicita per esempio a più riprese il carattere vincolante delle linee guida su tutte le linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze oltre a rafforzare spesso gli obblighi di rispetto delle misure di sicurezza contenute nelle linee guida stessa e nei protocolli in particolare mi limito ad accennarlo l'utilizzo delle linee guida è esploso se mi consentite con le prime riaperture per esempio al dpcm del 17 maggio del 2020 sono allegati ben tre documenti corposissimi contenenti linee guida su vari temi qui la cifra e questo è rilevante è quella del coinvolgimento anche di altri soggetti a partire delle regioni ma anche associazioni categoria soggetti privati però si tratta di atti del tutto eterogenei quanto a contenuti dai quali è difficilissimo ricavare un disegno unitario e che infatti sono stati criticamente commentati in dottrina non si può non compiere poi un accenno a una tematica liminare rispetto a quella qui ad oggetto accennavo prima ovvero l'esplicazione di fatto di effetti sulla vita dei consociati di meri chiamiamoli così fatti comunicativi conferenze stampa slide ma più ancora come si è detto raccolte di domande frequenti sui siti istituzionali spesso quando è in attesa della pubblicazione di provvedimenti annunciati oppure ho citato prima un esempio in presenza di aspetti non chiari nei testi ecco un fattore non secondario il discorso sarebbe lungo e mi limito a un brevissimo cenno rispetto all'espansione di questi strumenti comunicativi è ovviamente dato dalla natura intrinsecamente permeata di comunicazione della società e della politica aspetti ben noti già prima del covid e mi limito a citare a proposito di questa interazione forzata tra effetti comunicativi e giuridici a una pronuncia del consiglio di stato del 2015 che ha risolto una controversia circa la natura di atto amministrativo del tweet di un ministro una natura che è stata esclusa rassicuro del resto è notissimo ormai studiato il fenomeno della politica come intrattenimento con ampi versanti di spettacolarizzazione dell'attività istituzionale il che ha ricadute pesanti sul sistema delle fonti e questo comporta a tacere d'altro ulteriore rumore di fondo per ogni tentativo di sistematizzare quanto è accaduto del resto questo è un aspetto importante del quale tutti credo ci siamo resi conto ma va sottolineato è lo stesso linguaggio del hard law dell'emergenza a far trasparire più che uno spirito soft un'ispirazione direttamente extra giuridica cioè l'utilizzo frequentissimo nei dpcm delle espressioni è raccomandato è fortemente raccomandato si raccomanda eccetera e qui un caso paradigmatico è dato dal dpcm il 13 ottobre 2020 a norma del quale cito con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare feste nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6 immediatamente dopo la firma nella conferenza stampa che è seguita come da prassi alla firma il presidente del consiglio affermava testualmente ovviamente non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private però tutti dobbiamo predisporci ad assumere comportamenti prudenti e quindi è proprio il paradigma della raccomandazione senza sanzione però contenuta in uno strumento normativo ancorché peculiare come ci è stato detto a più riprese anche stamattina ecco per un esempio interessante vi è un settore nel quale c'è stato un intreccio del ruolo del soft law e dell'hard law che segnalo cioè quello delle app dei software di tracciamento dei contatti immuni prescindendo dal come dire dall'utilità poi pratica che può aver avuto meno nel contenimento dell'epidemia però ecco le istituzioni europee le autorità indipendenti di settore hanno fornito un notevole quadro di strumenti di soft law raccomandazioni toolbox e quant'altro per evitare che gli stati membri procedessero diciamo in ordine sparso e qui in Italia noi abbiamo avuto tutta una prima fase vado velocemente arrivando al testo scritto abbiamo avuto tutta una prima fase di diciamo aggiudicazione e scelta del della società poi che doveva sviluppare queste questa applicazione che sostanzialmente non aveva ancora una copertura a livello di hard law di più alto diciamo rango segnatamente una copertura primaria copertura di rango primario che è arrivata solo dopo anche su pressione diciamo di ampi settori della politica e della dottrina col decreto legge 28 del 2020 e si è avuto una base giuridica compiuta di livello primario per l'operazione e qui è interessante perché abbiamo sicuramente strumenti di hard law discendenti anche da discendenti diciamo comunque assai influenzati da strumenti soft law e peraltro però mi limito ad accennare che questa copertura diciamo di rango primario è stata tramite decreto legge e peraltro un decreto legge convertito adesso non posso dettagliare la cosa in questa sede ma convertito con in pratica un'espressione di monocameralismo alternato come si suol dire maxi emendamento governativo con questione di fiducia quindi diciamo non è che ci sia stato un apporto saluto positivamente l'utilizzo dello strumento primario ma non è che ci sia stato un apporto parlamentare così significativo e questo caso quindi mi introduce all'ultima parte della relazione ecco anche alla luce quindi del rilevo che il soft law ha avuto nella risposta all'emergenza sanitaria nella sua fase iniziale ma anche per così dire a regime appare quindi ancora più pressante l'interrogativo sul suo ruolo nella regolazione di fenomeni destinati ad avere una grande crescente influenza sui sistemi sociali ed economici quindi ribaltando l'angolo visuale è rilevante chiedersi quale sia e possa essere il ruolo delle fonti del diritto come tradizionalmente intese non risultando ammissibile né come dirò rispondente peraltro alle tendenze più recenti preconizzarne un'abdicazione o confinarle a una posizione di retroguardia sbrigativamente qui non si intende contestare l'utilizzo di strumenti soft law a tutto tondo specialmente in ambiti della regolazione spiccatamente caratterizzati da un contenuto tecnico scientifico lo accennava prima il professor Kelly si intende però muovere dalla considerazione per la quale non sempre è possibile una scissione netta tra i bilanciamenti contenuti nella politicità diciamo così di strumenti di hard law nella legge in primo luogo e normazione tecnico scientifica di altra provenienza no nel sistema italiano è il legislatore ad essere attore primario dell'opera di bilanciamento quale tecnica di composizione di interesse o di diritti in conflitto e anche dal punto di vista del bilanciamento un caso come quello dell'app immuni ci fa capire come il bilanciamento assai spesso con questi fenomeni si compie con le scelte di infrastruttura tecnica nel caso di un'app di tracciamento dei contatti con i rischi che comporta qui il bilanciamento non si fa con una riga di finalità ma si fa dicendo usa una certa soluzione tecnica il bluetooth low energy così anziché un'altra soluzione per esempio centralizzata quindi alla luce di questo si anticipa che sarebbe riduttivo immaginare un legislatore hard law in generale ma mi concentro sul legislatore del tutto disinteressato a porre dei punti fermi di natura tecnico scientifica consegnandoli all'universo soft certo di fronte ai rischi che questo può proporre anche per la salute di fronte al rischio che vengano approvate soluzioni che confliggono con i più elementari dati tecnici capisco bene che vi siano spazi per il legislatore nel quale deve lasciare spazio a dati di altra provenienza però intendo porre l'accento sul fatto che una troppo netta distinzione tra momento politico e momento tecnico scientifico rischia di depauperare irrimediabilmente la capacità incisiva degli organi rappresentativi oltre che mi limita un accenno veicolare una visione del tutto stereotipata di una scienza e tecnica oggettiva appare qui negativo la prospettiva di un legislatore o più in generale del hard law che invece dovesse rimanere inerte mi limita un accenno ad adombrarlo però fa riflettere il fatto che proprio due rilevanti sentenze per le quali di recente si è applicato il nuovo metodo diciamo così decisorio del più stringente monito quindi di quella che appare come una delle frontiere più avanzate dell'intervento della corte nella discrezionalità legislativa ecco due di queste siano proprio collegate a fattori di sviluppo tecnico scientifico e mi riferisco sia al caso cappato sia all'ordinanza 132 del 2020 sulla legittimità della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa ma anche in passato si pensi su tutte già negli anni 70 alla cosiddetta sentenza delega sulla disciplina del sistema radio televisivo che fondava questo dialogo diciamo con il legislatore proprio sullo sviluppo tecnico scientifico dunque per concludere in prima approssimazione appaiono diversi elementi a supporto dell'idea di un legislatore che non può sottrarsi a regolare certi tipi di rischi senza potersene sottrarre in presenza di una possibilità di lesione di diritti in particolare costituzionalmente tutelati così per esempio per il caso di Immuni la realizzazione di un software di mano pubblica presenta in sé evidenti rischi di lesione di diritti da gestire e mitigare attraverso precise scelte della sua architettura ecco scelte che appare del tutto opportuno sia il legislatore a fissarle qui entro specificamente sul versante interno del legislatore certo qui si può guardare al sistema delle riserve di legge però rimandando al testo scritto per approfondimenti difficilmente esso risulta di rimente dal punto di vista di obblighi diciamo di provvedere per così dire per il legislatore sia per le interpretazioni spesso riduttive da parte della corte costituzionale sia perché non è sempre agevole la riconduzione di fenomeni nuovi a una riserva esplicita e la ricerca di riserve implicite è come è noto contestata quindi la soluzione preferibile nel complesso a fronte di questa riflessione appare quella di lasciare sullo sfondo il sistema delle riserve di legge e concentrarsi sul procedimento e le garanzie connessi alla forza di legge come fondante un obbligo per il legislatore di provvedere di fronte a situazioni nuove che lo sviluppo tecnico-scientifico genera proprio in virtù dei rischi che esse possono porre provando a portare a livello di sistema e le fonti interno l'approccio basato sul rischio che è notoriamente proprio del diritto dell'Unione Europea però diversamente modulato nei suoi diversi atti e nei suoi diversi momenti ecco chiudendo con un esempio proprio di recente guardando alla proposta di regolamento dell'Unione Europea sull'intelligenza artificiale lì a livello di hard law troviamo un approccio ampio di strumenti appunto incisivi su architetture tecniche di hard law in un quadro di allontanamento dall'approccio invece del GDPR che rinunciava in buona parte a dettare autoritativamente rischi e misure affidandosi in ampia misura alla compliance dei soggetti regolati mentre il cosiddetto digital services act sta in qualche modo in mezzo ecco quindi a differenza di quanto avvenuto nel recente passato guardando all'Unione Europea vi è una rinnovata presa di posizione dell'hard law per cui la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale opera una definizione dei rischi e delle contromisure direttamente al suo interno quindi lo strumentario dell'hard law e della sua politicità non è in sé inadatto a compiere anche valutazioni di rischio ed anzi soprattutto quando tale rischio è maggiore permette un ampio e trasparente coinvolgimento di interessi diversi non solo può garantire un significativo apporto parlamentare stando è notizia di qualche settimana fa ai più di 3.000 emendamenti presentati in sede di Parlamento Europeo a questa proposta naturalmente bisognerà vedere come questo dibattito poi in pratica evolverà quindi a questo proposito si è detto per inciso dobbiamo anche considerare le opportunità che le tecniche dell'informazione e della comunicazione stesse danno oggi agli stessi lavori parlamentari rendendoli potenzialmente in grado di operare sui testi in modo meno legato ai limiti storici di un sistema basato sulla carta è molto stimolante ma mi limita un accenno del resto e chiudo specialmente sull'intelligenza artificiale ma il ragionamento si presta ad estendersi analisi di diversa provenienza convergono sul fatto che non si tratta di una tecnica computazionale oggettiva universale o neutrale ma di sistemi profondamente incorporati nel mondo sociale politico culturale ed economico quali espressioni di potere quindi così impostato il tema davvero non si vede perché la questione non risulti intrinsecamente politica anzi l'idea è che le connesse caratteristiche all'hard law e specificamente alla forza di legge risultino funzionali anche appunto a compiere scelte di natura tecnico-scientifica che consentono la gestione di rischi elevati sempre all'interno del quadro dei principi costituzionali grazie 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 professor Pacini per questa efficace stimolante relazione una relazione che mi pare ci ha condotto per mano ai confini e anche oltre i confini del modello costituzionale ma su un terreno poco conosciuto ancora dai giuristi forse conosciuto più dagli economisti che dai giuristi ma che deve interessare dovrà interessare sempre di più il mondo del diritto il mondo dei giuristi perché apre nella prospettiva dell'evoluzione del sistema delle fonti sotto i condizionamenti del diritto internazionale e sotto i condizionamenti delle regolazioni tecniche che nascono dall'autorità amministrativa indipendente vi propongo solo un problema il PNRR è è una soft draw o è qualcosa di diverso? che risposta darebbe lei avendo studiato il problema sì mi ero posto questo problema e direi che lì c'è una matrice diciamo a livello di regolamento europeo una matrice hard diciamo di hard law molto forte che poi esplica i suoi condizionamenti anche tramite strumenti diciamo quantomeno ibridi però di base io lì ho visto una forte componente di hard law e quindi l'ho tenuto diciamo ai margini dell'analisi però in vista del definitivo visto che saranno passati anche un po' più di tempo sarà passato un po' più di tempo e vedremo anche poi certi condizionamenti in legge dei prossimi mesi mi riservo appunto di integrare proprio con questa parte grazie per lo spunto una piccola una piccola finale osservazione critica che nasce dall'esperienza app immuni ho avuto la sfortuna di partecipare alla fase iniziale di costruzione di questo strumento e devo dire che è stato un colossale fallimento non si è avuto il coraggio di dirlo e forse proprio un colossale fallimento che induce a spiegare come devono nascere le norme giuridiche il fallimento è nato da l'euforia del mondo informatico non controbilanciato abbastanza dal realismo dei giuristi che devono capire qual è l'efficacia delle norme cioè si costruiva un sistema che in realtà poi non ha avuto base ha creato solo a mio avviso confusione ma posso esagerare su questo punto anche perché sono rimasto molto deluso da questa esperienza allora è arrivato il momento di ascoltare le osservazioni conclusive della professoressa Ida Angela Nicotra dell'università di Catania che ha il compito di discussion di queste relazioni prego grazie grazie presidente un ringraziamento innanzitutto al direttivo dell'associazione del gruppo di Pisa alla sua presidente la professoressa D'Amico per avermi coinvolto e riportato all'interno di queste aule la prima volta a ricordo è stato nel lontano 1994 il gruppo di Pisa si svolgeva ad Imperia e nel tavolo insieme a me che presiedeva vi era il professore Mario Dogliani quindi un ricordo di quei tempi ormai lontani allora innanzitutto il titolo il titolo di questo incontro è un titolo diciamo molto stimolante perché prova a mettere insieme tutte le tematiche che sono possiamo dire emerse con forza proprio nell'era possiamo ormai dire delle crisi innanzitutto questa distinzione che viene affrontata da due delle relazioni innanzitutto da Sara Alieto ma anche da da Antonello Localzo con riferimento alla differenza fra crisi ed emergenza è vero che queste due locuzioni queste due questi due lemmi non sono indicati nella Costituzione è vero anche che quando si parla di emergenza si tende ad individuare a descrivere un fenomeno che va posto fra parentesi un fenomeno appunto di carattere straordinario e imprevedibile che ha un inizio e una fine la crisi invece è qualcosa di più duraturo e quindi si proietta nel futuro ma è sempre così allora io ho l'impressione guardando osservando il panorama normativo di questi ultimi anni che in realtà quando facciamo riferimento alla crisi economica e quindi alla crisi iniziata nel 2008 che poi in Italia come dire arriva un po' in ritardo rispetto alla sua origine statunitense è la crisi pandemica molto più recente questi due momenti di crisi che in realtà sono due momenti di emergenza perché anche la crisi economica è un momento emergenziale ricordiamo addirittura la lettera della BCE ricordiamo la necessità che l'ordinamento italiano si adegua a queste indicazioni a queste direttive ricordiamo il cambio del governo con lo spread il differenziale quindi fra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi che arriva a sionare quota 600 tutte queste condizioni sono certamente condizioni di emergenza ma diventano crisi cioè diventano opportunità di un sistema che cambia anche a livello di fonti del diritto penso che la risposta possa essere tranquillamente sì almeno per un dato riguardando la Costituzione italiana e cito due disposizioni l'articolo 81 che cambia proprio con riferimento alla crisi economica si inserisce il principio del pareggio o equilibrio di bilancio e naturalmente nell'attuazione di quella riforma la legge di riferimento parla anche della possibilità di politiche di scostamento di bilancio molto lungimirante in questo caso quando vi sono momenti di recessione momenti anticiclici e ce la siamo poi trovata in fondo nella pandemia con la legge diciamo rinforzata per lo scostamento di bilancio che è servito a come dire contenere la crisi economica derivante proprio dall'emergenza pandemica la seconda crisi che diventa opportunità e quindi che diventa transizione direi definitiva è legata ancora una volta all'emergenza sanitaria perché si ricorderà che nel discorso programmatico l'attuale presidente del consiglio il discorso con il quale ebbe poi la fiducia delle camere individua l'aspetto quindi un aspetto fondamentale di quel governo e quindi del suo indirizzo politico di attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza cosa dice in quell'occasione il presidente del consiglio in sede di repliche dice forse è arrivato il momento visto che non è certo ma è probabile che la pandemia sia dovuta ad un salto di specie dall'animale all'uomo e dal deterioramento delle condizioni ambientali ebbene forse è arrivato il momento anche in Italia di pensare a una costituzione che preveda il diritto dell'ambiente il diritto la tutela dell'ecosistema anche nell'interesse delle generazioni future il diritto degli animali con legge è una modifica anche dell'articolo 41 in cui l'attività di iniziativa economica privata si deve sposare si deve coniugare ancora una volta con la tutela alla salute quindi direi che da questo punto di vista l'emergenza economica e l'emergenza pandemica hanno prodotto certamente un risultato di cambiamento nella costituzione italiana è chiaro che tutto questo se lo riguardiamo invece a livello di unione europea ha avuto delle conseguenze differenti anche dal punto di vista ovviamente del sistema delle fonti oltre che dell'indirizzo della direzione insomma che prendeva la politica nazionale perché con riferimento alla crisi economica l'input dell'unione europea è stato facciamo rigore facciamo austerità conteniamo la spesa e quindi tutto questo ha impattato come sappiamo negativamente sui diritti sociali e quindi la prova ancora una volta che la forma di governo il sistema delle fonti e i diritti sono assolutamente come dire correlati intrecciati come dice bene nella sua intensa relazione Andrea Cardone e quindi tutto questo impatta sui diritti sociali fino a fare dire alla corte costituzionale attenzione perché l'equilibrio di bilancio non può essere un valore tiranno non può come dire limitare i diritti che costano i diritti sociali ovviamente questo anche a scapito bisogna dirlo dei doveri che vengono come dire in qualche misura nelle spalle delle generazioni future a livello appunto di aspetti economici e finanziari cosa invece succede con l'emergenza pandemica che se è pure vero quello che è stato detto che a livello dell'unione europea non c'è una diciamo un sistema delle fonti organico perché la tutela della salute è comunque una competenza nazionale non c'è dubbio che con il piano nazionale di ripresa e resilienza l'Europa cambia verso e dice innanzitutto la solidarietà ritorna ai trattati ritorna all'origine diciamo della sua costituzione perché col piano nazionale di ripresa e resilienza che anche quella una fonte del diritto è stato detto importante cambiano le coordinate fondamentali della politica economica nazionale con un'attenzione rivolta all'inclusione sociale alla transizione digitale e alla transizione appunto verde ecologica quindi anche da questo punto di vista diciamo ci sono delle conseguenze importanti sul sistema delle fonti sistema delle fonti che andando diciamo nell'ordinamento italiano sconta qualcosa che in realtà non era assolutamente nuova che chi studia queste materie conosce magari per la gente comune meno come dire meno evidente che è legata e anche questo è stato detto alla trasformazione della forma di governo alla trasformazione del sistema elettorale quindi agli anni 90 e alla marginalizzazione della legge la legge che diventa uno strumento diciamo più che più di controllo che di adozione di politiche pubbliche e al centro del nostro sistema in realtà da tempo vi è il decreto legge che si scolla che si allontana dal parametro costituzionale dall'articolo 77 e che è dominante anche nella gestione delle emergenze è stato detto di tutte le emergenze di quella pandemica ma anche oggi alla luce dell'ultimo disastro bellico a causa dell'aggressione russa ci troviamo ancora una volta a gestire un'emergenza con la fonte del decreto legge fonte del decreto legge che in qualche misura trova diciamo la sua origine proprio nelle dichiarazioni degli stati perché ormai possiamo dire degli stati di emergenza senza soluzione di continuità il 30 marzo finisce quella sanitaria il 24 di marzo dello stesso anno l'emergenza la dichiarazione di emergenza per risolvere le questioni che sono a margine della guerra in Ucraina e quindi il decreto legge in qualche misura oggi probabilmente si può dire che esistono nel nostro paese due decreti legge uno che ha a che fare con l'attuazione dell'indirizzo politico quindi un decreto legge ordinario e dall'altra parte un decreto legge straordinario che diciamo ritorna nell'alvio della costituzione dell'articolo 77 devo dire che quando si è posto il problema della gestione della pandemia ci siamo interrogati in molti e anche io con riferimento alla possibilità di estendere quanto dice l'articolo 78 che comunque è un'emergenza anche al fatto pandemico e sanitario e allora arrivare alla conclusione adesso penso di non essere mi sbagliata che quello strumento è uno strumento assai tipico che è difficile poter estendere a situazioni diverse dalla guerra e quindi all'emergenza e ritengo anche che a chiusura di questi due anni di pandemia o perlomeno della fase più acuta della pandemia lo strumento del decreto legge abbia retto diciamo nella sistematica ordinamentale proprio perché comunque è uno strumento che rimette al centro in qualche modo la legge quindi la parlamentarizzazione del dibattito proprio sui contenuti di un provvedimento che deve essere emergenziale straordinario cosa che invece ahimè non si può dire con riferimento al DPCM DPCM che esalta ecco questa mi sembra la parola giusta esalta una dimensione della forma di governo sempre più proiettata nella come dire nella centralità dell'esecutivo e per questo rassomiglia molto se vediamo bene le cose a quanto avviene nel modello costituzionale degli enti locali perché come ci ricordava Sara Lieto cosa accade a livello a livello regionale a livello locale che i provvedimenti anche in quel caso diventano provvedimenti monocratici quindi presidente della regione sindaco e presidente del consiglio quindi a dispetto di forme di governo costituzionali differente a livello centrale e a livello periferico noi assistiamo alla stessa risposta diciamo delle fonti all'emergenza e probabilmente questo è dato dal fatto che mentre a livello regionale e locale la forma di governo è la forma pensata dal costituente o dal legislatore a livello nazionale la forma di governo è frutto ormai di una prassi che si allontana diciamo dal modello costituzionale come dire in cui le camere dovevano avere un ruolo di centralità e questo per una serie per una serie di ragioni che sono legate alla crisi della legge crisi della legge lo voglio dire che dipende anche dal fatto che in molte circostanze il legislatore a prescindere dalle emergenze si è sfilato da decisioni fondamentali pensiamo a tutti i temi che la politica ritiene essere divisivi tanto divisivi che ha delegato in qualche modo alla corte costituzionale di fare il lavoro del Parlamento penso al caso Cappato ma non solo penso anche alla vicenda del doppio cognome da dieci anni almeno la corte costituzionale come dire stimola le camere a fare una riforma che sia in linea anche con l'idea appunto della pari dignità dell'uomo e della donna all'interno del quadro familiare quindi la crisi della legge è determinata anche da una crisi dei partiti e quindi da una crisi anche che riguarda la capacità di scegliere di fare scelte anche scelte che possono sembrare possono apparire divisive che non trovano in tutta la collettività una piena aderenza e il tema l'altro tema fondamentale è proprio quello del rapporto tra Stato e Regioni su questo vorrei spendere qualche parola in più perché questa dinamica statale e regionale emerge in tutta la sua evidenza di fragilità proprio nel contesto pandemico si è parlato di assenza di strumenti di concertazione o di intesa che non sono stati utilizzati si sarebbe potuto far riferimento all'articolo 120 eppure in altri casi lo si è fatto penso alla vicenda della sostituzione con decreto legge della legge regionale Umbra con riferimento alla preferenza di genere ad esempio mi sembra che sia l'unico caso in cui è stato adottato il 120 per questioni che riguardano appunto i livelli essenziali e le prestazioni non si è fatto invece nel rapporto fra Stato e Regioni e questo ha creato una grande conflittualità la Corte Costituzionale da far suo ha cercato di mettere ordine diciamo e si è salvato un po' in corner nel senso che l'idea di dire e profilassi internazionale questa materia dell'emergenza pandemica diciamo ha evitato che entrasse nel merito di alcune questioni che sono certamente le materie di competenza anche regionale penso alla tutela della salute penso alla protezione civile quindi mi viene in mente e forse qualche ritocco all'articolo 117 sarebbe stato a questo punto di vista importante però io alla fine penso che il tema veramente centrale sia un altro e sia legato al fatto che il titolo quinto della Costituzione non ha funzionato bene né prima la pandemia e neanche in corso di emergenza pandemica perché a quella riforma organica è mancato sempre un pezzo fondamentale e si voleva un po' supplire con la bicameralina cosa che poi non è stata fatta lo dice Sara Lieto nella sua relazione non ha avuto il tempo di come dire illustrare pienamente ma probabilmente il tassello fondamentale che manca in questa ricostruzione dei rapporti tra Stato e Regione perché possano davvero essere in sintonia con la Costituzione e funzionare era proprio il fatto che una camera rappresentativa dovesse in qualche modo come dire tenere presente l'elemento regionale o locale anche su questo alcuni sforzi sono stati fatti ma non sono andati a buon fine quindi penso che l'aspetto veramente centrale che questa emergenza pandemica e non solo ci deve lasciare che probabilmente un ripensamento di una camera che sia rappresentativa anche delle regioni e degli enti locali possa essere proprio quella camera di compensazione che ha invece che è mancata e che ha creato tutte le questioni di conflittualità di soggetti che alla fine diciamo agiscono in solitudine il Presidente del Consiglio il Presidente delle Regioni i sindaci ce lo raccontava prima anche il Sindaco di Firenze Nardella e ancora da ultimo ma non per ultima per importanza da ultimo il tema delle Soft Law tema delle Soft Law che sono diciamo che rappresentano un punto fondamentale di questo sistema delle fonti che mi sembra essere più reticolare più orizzontale che verticale così almeno si sviluppa perché è importante Vecini ce lo raccontava ci diceva guardate le Soft Law nascono a livello internazionale nascono a livello internazionale perché diciamo la caratteristica di quell'ordinamento è di essere un ordinamento fra uguali e quindi c'è questa idea della regolazione morbida flessibile che si in qualche modo rimanda alla volontà degli stati però poi lo abbiamo ereditato questo sistema nel nostro ordinamento e non c'è dubbio che le rompere questa parola bellissima di Alberto Fredieri delle autorità indipendenti non sono scritto l'80 delle autorità indipendenti nel sistema giuridico italiano abbia prodotto una diciamo un sistema di linee guida e quindi di regolazione flessibile Soft Law e però quando noi parliamo di questo sistema che è un sistema però molto strutturato perché su queste sulle linee guida sulla Soft Law delle autorità amministrative indipendenti che significa un po' il trionfo della tecnica e della competenza quindi di un Parlamento che si mette da parte e dice alle autorità indipendenti su questo devi regolare tu perché hai le competenze ecco questo questa queste Soft Law queste linee guida molto strutturate e strutturate perché ce lo dice bene nelle sue sentenze il Consiglio di Stato cioè le Soft Law devono recuperare quella quella legalità quel principio di legalità quella legittimazione che non hanno dal basso perché le autorità indipendenti non sono elette dal corpo elettorale questa legittimazione deve essere recuperata nella nell'attività procedurale dal basso e quindi ci dice ci sono delle fasi le autorità indipendenti mettono il il modello di linea guida in consultazione i portatori di interessi i cosiddetti stakeholders devono avere il tempo per decidere per suggerire delle modifiche quindi il sistema diventa un sistema circolare dal basso in cui però i rappresentanti di interessi portatori di interessi hanno un ruolo molto forte il Consiglio di Stato dice solo così noi appunto possiamo rimettere nella legittimazione del sistema delle fonti anche le linee guida delle autorità indipendenti ebbene tutto questo lo ritroviamo a livello di soft law mi sembra diciamo che forse questo nome non dovrebbe essere utilizzato nel caso delle comunicazioni dell'Unione Europea che dice ad esempio sospendiamo il divieto degli aiuti di Stato con riferimento all'emergenza economica che deriva dalla pandemia o con riferimento lo si è detto alle comunicazioni alle fac che in qualche modo riempivano di significato o di spiegazioni anche i DPCM ecco io non so se sia proprio vero che in questo caso si possa parlare di soft law almeno non nel senso in cui lo delinea lo struttura il Consiglio di Stato nelle sue decisioni proprio perché manca il tema della governance cioè chi dal basso diciamo partecipa alla decisione politica alla decisione pubblica e quindi questo mi pare un aspetto molto importante molto importante da indagare e l'ultimo l'ultimo secondo lo vorrei dedicare al tempo io penso che il tempo nel diritto ormai sia una variabile fondamentale il tempo nei decreti legge quindi l'importanza di decidere subito il tempo nella attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza il tempo nella strozzatura del dibattito parlamentare perché l'Unione Europea non può aspettare i tempi lunghi dell'Italia con riferimento all'approvazione della legge di bilancio ricordo l'ordinanza numero 17 della Corte Costituzionale del 2019 che pure su questo si intrattiene e dice insomma la se la deve cavare la Corte Costituzionale avevamo come dire un impegno con l'Unione Europea quindi il tempo è una dimensione fondamentale per capire come mettere a sistema la complessità e ritengo che questi anni di emergenza abbiano anche dato dei segnali importanti sulla crisi del nostro sistema delle fonti e non solo ma anche sulla crisi poi alla fine della sovranità e del sistema dei partiti e quindi per il futuro penso che appena questa emergenza sarà del tutto finita ma penso che siamo vicini voglio essere ottimista su questo probabilmente tutto questo strumentario tutte queste come dire situazioni fattuali e giuridiche che si sono verificate nei tempi pandemici possono essere anche una lezione importante da prendere in considerazione per rivisitare il sistema delle fonti la forma di governo nell'ordinamento italiano grazie 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 alla professoressa Nicotra per queste penetranti osservazioni conclusive in chiusura io mi limito soltanto a rilevare che abbiamo assistito a una mattinata di lavoro molto intensa che ci ha consentito di ascoltare relazioni da cui abbiamo imparato molto veramente molte cose anche nuove e per questo penso che dobbiamo essere grati riconoscenti ai relatori che si sono impegnati così a fondo e a tutti consiglierei di leggere anche le relazioni scritte che sono veramente molto più ricche dense di osservazione di quello che abbiamo sia pure importantissimo ascoltato dagli interventi orali mi pare che questa mattinata di intenso lavoro lasci sul tavolo tre problemi di fondo che non so se verranno poi affrontati nelle sessioni successive il primo problema di fondo è quello del coordinamento più chiaro migliore più approfondito tra fonti nazionali e fonti europee seguitiamo ancora la linea giurisprudenziale che abbiamo seguito sinora ma si cominciano ad avere delle smagliature forti pensate alla posizione della corte costituzionale polacca ad esempio oppure è arrivato il momento se vogliamo imboccare una strada veramente federale di ritoccare anche i trattati su questo punto punto estremamente delicato che mette in gioco il concetto e l'esistenza o meno di un popolo europeo che sia in grado di dare degli strumenti rappresentativi investiti dal basso in grado perciò di esprimere una volontà assolutamente superiore alla volontà delle costituzioni nazionali secondo tema di fondo in una situazione di progressiva crisi lo diciamo ormai da tanto delle istituzioni rappresentative in particolare dei parlamenti dell'espansione progressiva nella forma di stato del ruolo degli esecutivi rispetto al ruolo dei parlamenti come garantire ancora la supremazia della legge formale del parlamento che è lo strumento essenziale della manifestazione di volontà all'interno delle democrazie non si può diciamo allargando il sistema delle fonti articolando sempre di più questo sistema in direzione di interventi sovranazionali e substatuali mettere in crisi questo concetto che è appunto la chiave è chiaro che la situazione è legata a una crisi più profonda che è quella della crisi della sovranità degli stati nazionali e anche delle costituzioni dei stati nazionali ma finché un sistema di livello più alto non si è consolidato e penso all'Europa federale bisogna che la supremazia della legge nazionale non sia messa in discussione per quelle ragioni che sono state dette ragioni di tempi nella nella maturazione regioni di collegialità regioni di pluralismo che va rispettato terzo punto che è emerso proprio fin dall'inizio della crisi epidemica conviene o no introdurre nella costituzione italiana una disciplina speciale dell'emergenza sul modello portoghese tedesco spagnolo anche francese qui le opinioni sono molto diverse io credo che gli strumenti che abbiamo siano sufficienti e che andare a fare passi ulteriori invece possa presentare in una situazione politicamente fluida qual è quella oggi la situazione italiana per presentare invece effettivamente dei rischi ma anche questo è un problema che sul tappeto esiste e che penso andrebbe affrontato grazie a tutti grazie ai relatori agli organizzatori perfetta l'organizzazione e al pubblico grazie grazie a tutti grazie a tutti due state tranquilli cose iniziali che mi rendono contento oggi di essere intanto di essere contento per essere qui in una sedia universitaria poi con tanti amici per lo più più giovani ci vuol poco insomma per essere più giovani ma e quindi tutto bene perché i motivi di contentezza ma perché siamo senza essere combattenti e reduci siamo reduci siamo studiosi reduci rispetto all'aver affrontato una grande imprevista e difficile prova istituzionale concettuale istituzionale che prima era inimmaginabile perché nessuno di noi sinceramente fino a qualche anno fa pensava che ci si trovasse che ci si trovasse dinanzi a emergenze e a emergenze di questo rilievo la contendenza deriva dal fatto che in fondo siamo riusciti malgrado tutti i nostri limiti e ne dirò qualcuno accennerò a qualcuno malgrado tutti i nostri limiti professionali siamo riusciti a superare una fase difficile in parte siamo riusciti pur non disponendo di un quadro minimo istituzionale completo e stabilizzato caso concreto è quello appunto della mancata disciplina delle situazioni di emergenza perché noi ci siamo resi conto che l'emergenza bellica non è disciplinata malgrado l'articolo 78 Costituzione che gli dà una base costituzionale importante ma tanto più non era disciplinata l'emergenza di tipo sanitaria non era disciplinata appunto e basta perché se c'è un dato che un po' di approfondimenti sul contenuto normativo dei nostri sistemi istituzionali ci ha dato è che la stessa protezione legislazione sulla protezione civile il testo unico sulla protezione civile quindi un testo che in teoria doveva coprire l'intero spettro diciamo delle situazioni emergenziali non era stato scritto minimamente per le emergenze sanitarie per le gravi emergenze sanitarie vari di noi hanno potuto notare e mettere in evidenza che tutti i poteri straordinari di intervento per le ordinanze di protezione civile riguardano eventi calamitosi classici dal terremoto alla frana all'alluvione altre cose di questo genere ma tutte situazioni emergenziali che la cui emergenza fisica è la non funzionalità di territori di apparati ma nella tutela dell'emergenza nella protezione civile non c'era e non c'è tuttora in termini analitici poteri preventivi di riduzione del rischio sanitario non ci sono non c'erano poteri sulla sul contenimento delle situazioni di rischio sul mutamento dei costumi di comportamentali cioè in pratica noi non siamo resi conto che la situazione emergenziale non era disciplinare non era prevista è quello che in cui secondo me ha lavorato fortemente all'inizio molto confusamente devo dire anche con qualche rischio ha lavorato il grappolo di decreti legge dal decreto legge famigerato numero 6 che poi è stato che ha provato attenzione con maggioranza bulgara in 15 giorni tra camera e senato perché questo bisogna dire che il nostro sistema politico non aveva capito niente tant'è vero che il decreto legge numero 6 che poi sarà la base di tutte le contestazioni era in realtà stato votato da maggioranza opposizione in pochi giorni poi ci si rende conto dinanzi ai rilievi presidenziali che erano stati anticipati come fosse indispensabile modificare lei e quindi subito c'è il decreto legge 19 che si sostituisce integra si sostituisce e abroga il decreto legge numero 6 e poi tutto questo verrà implementato successivamente allora noi non avevamo una legislazione sull'emergenza questa legislazione sull'emergenza ce la siamo data ce la siamo data ed è una legislazione pesante non per i dpcm devo dire mi sono dovuto purtroppo occupare perfino di smentire molti di noi perché molti giuristi alcuni dei quali si reputano molto importanti e molto significativi hanno sparacchiato un giorno sì e l'altro pure sui pessimi dpcm che avrebbero preteso loro di modificare la costituzione il che non era vero era semplicemente non vero non vero perché le modifiche di tipo costituzionale anche pesantissime erano previste nei decreti legge la misura della deroga costituzionale era rinviato al dpcm il dpcm era ed è uno strumento scusate il termine esecutivo meramente esecutivo ma certo la previsione del contenimento e di questo bisogna esserne consapevole forse anche di più di quanto lo si sia adesso almeno il contenimento dei diritti costituzionali nel decreto 6 ma soprattutto nel decreto 19 in quelli che hanno implementato il decreto 19 è pesantissimo è pesantissimo anche qui questa è un'esperienza che abbiamo fatto e che dobbiamo mettere mettere nella nostra memoria istituzionale noi abbiamo avuto e in parte abbiamo autorizzazioni a disapplicare in modo incostituzionale una serie di principi costituzionali dall'assembramento dal divieto di assembramento dal divieto di riunione in luogo privato tutte cose vietate dalla costituzione repubblicana non permesse lateralmente no vietate la norma su le cerimonie religiose noi abbiamo tali poi su questa bisogna si entra sempre leggermente perché tutti temono allora sei un clericale no sei un anticlericale insomma nella nostra costituzione c'è scritto che la libertà di culto è una libertà e che non si può limitare la libertà di culto e invece alcuni decreti legge hanno legittimato il fatto che per varie settimane non si sono fatte non si sono dette messe cattoliche o svolte cerimonie religiose di altri culti religiosi tutto questo abbiamo incamerato cioè attenzione abbiamo incamerato nel nostro nella nostra memoria istituzionale ma non è che è scomparso noi ormai abbiamo tra i nostri precedenti sono precedenti anche gravi devo dire sinceramente la possibilità di derogare certo per pandemie non per altre cose per quella pandemia non per altre cose a norme che erano norme che erano e sono norme costituzionali importanti ma lasciamo fare quindi questa è in fondo malgrado tutto ciò ne siamo usciti ne siamo usciti ottimisti in positivo ormai chi si ricorda del fatto che non si può andare a messa no è stato poi corretto integrato sono fatti gli accordi i micro accordi le riunioni non più di otto persone a casa propria intorno al tavolo no voglio dire la cosa in sé è una cosa piccola non si possono fare gli assembramenti ma da quando in qua vi è stata una disciplina di questo genere a costituzione ricordo Paolo Barile quando io ero giovane e bello che seguivo le lezioni di Paolo Barile che un po' ridacchiando ci la distinzione tra riunione e assembramento ma l'assembramento era molto meno della riunione era molto meno era casuale era momentaneo poi a volte non è vero non è vero di fatto ma invece siamo arrivati ad avere una legislazione che in quel contesto per quello scopo vieta potrà ancora vietare a mio parere in caso di altre pandemie l'assembramento e insomma allora in fondo abbiamo avuto una legislazione che si è implementata curiosamente in un modo molto confuso molto confuso ma si è implementata seconda cosa è ultima state tranquilli sono contento perché io sulle fonti ho sempre avuto vecchi amori cioè ho sempre detto ho invitato molti di noi a studiare abbiamo messo in piedi qualcosa che per fortuna vive ancora a Firenze e non solo a Firenze per merito di tutti quelli che ci hanno lavorato ma una delle raccomandazioni base che io mi permettevo di dare e mi permetterei di darla tuttora è che le fonti vanno studiate nella loro positività in quello che sono non in quello che è nelle ricostruzioni teoretiche occorre leggerle capire decrittare l'impatto reale della fonte dopodiché ci si ragiona sopra in termini giuridici questo non sempre lo si è fatto e lo si fa vi facevo l'esempio dei DPCM la gente ha polemizzato con i DPCM senza rendersi conto che doveva polemizzare col decreto legge che le eccitimava i DPCM quindi occorre leggerle attentamente ma come occorre pure leggere a mio parere la Costituzione e gli istituti a cui la Costituzione fa riferimento scusate ad esempio l'articolo 78 della Costituzione che prevede la possibilità a certe condizioni che speriamo non si verifichino mai della disciplina emergenziale bellica allora non si può però parlare adesso di emergenza bellica attenzione è scorretto è una forzatura concettuale linguistica si può parlare di situazioni di emergenza in una situazione pre-bellica ma se noi parliamo di emergenza bellica ci dobbiamo riferire dal 78 costituzione mentre invece l'emergenza non bellica poi qui noi abbiamo alcuni molto esperti della materia legittimano la protezione civile legittimano la legislazione che deve essere fortemente implementata fortemente deburocratizzata ma è lì che noi dobbiamo costruire a regime le situazioni emergenziali civili chiamiamola così per differenziarle da quelle militari da quelle belliche ecco per questo quindi io sono venuto con grandissima curiosità curiosità e interesse proprio a sentire a sentire quello che ci possono illustrare i nostri giovani e brillanti studiosi allora diamo la parola a Giuliano Serges Università degli Studi Roma 3 l'emergenza fattore esogeno di condizionamento della produzione normativa in tempo di crisi punto interrogativo grazie per la parola Presidente De Siervo grazie anche ovviamente al direttivo del gruppo di Pisa a cominciare dalla Presidente D'Amico Vice Presidente Colapietro agli amici dell'Università di Firenze sia per l'invito a intervenire che per devo dire l'impeccabile organizzazione della macchina convennistica ricordavo ieri a cena con il professor Simoncini che per me questo è un po' un cerchio che si chiude perché il mio primo intervento a convegno da neolaureato l'ho fatto proprio a Firenze sul suo invito un ringraziamento molto sentito da ultimo ma non per importanza anche alla professoressa Massapinto e al professor Carnevale oltre che per il costante e per il suo supporto ma soprattutto per l'infinita pazienza ecco dunque inizio subito facendo due precisazioni la prima la mia relazione rispetto alle altre avrà un approccio credo più teorico riprenderò senza peraltro avere assolutamente il tempo di argomentarle come si dovrebbe alcune tesi che avevo già proposto in sede monografica prima della pandemia altre che ho invece tentato di escogitare per questa occasione cercando di ricollegarle ove possibile ai temi della cosiddetta crisi finanziaria e dell'emergenza sanitaria ho ritenuto che dato il tema che mi è stato assegnato molto generale se non addirittura generico l'emergenza potesse essere più interessante un approccio di questo tipo diciamo dall'alto piuttosto che proporvi l'ennesima ricostruzione della catena normativa di decreti legge di PCM o l'ennesima rassegna delle decisioni della corte in materia di crisi finanziaria per poi giungere a conclusioni che per quanti sforzi di originalità io possa fare non potrebbero che iscriversi nel solco di una delle tante valide soluzioni già ampiamente riposte dalla dottrina essendo praticamente impossibile aggiungere qualcosa di davvero nuovo a un dibattito ormai saturo a dir poco seconda precitazione mi è stato chiesto di parlare dell'emergenza come fattore esogeno di condizionamento della produzione normativa in tempo di crisi io ho chiesto di volgere il titolo del contributo in forma interrogativa e di mettere la parola emergenza tra virgolette perché non sono tanto convinto che l'emergenza propriamente detta sia un fattore esogeno di condizionamento della produzione normativa o meglio dipende da cosa si intende per emergenza si riferisce all'emergenza come manifestazione della necessità intendendosi quest'ultima secondo un'impostazione risalente per non dire antica quale autonoma e indomabile fonte del diritto ex ordinem e contra legge ma allora si certo l'emergenza è un fattore di condizionamento della produzione normativa non credo però di essere stato invitato a parlare di questo anche perché trattare in questa sede della necessità come fonte del diritto sarebbe in contraddizione con il tema del convegno che stando al titolo è dedicato cito testualmente alla trasformazione del sistema delle fonti in relazione al modello costituzionale per cui andrei proprio fuori tema se mi occupassi di avvenimenti normogeni esterni al sistema delle fonti estranei rispetto al modello costituzionale mi pare allora anche riflettendo sugli altri elementi che sono stati indicati come esogeni dagli organizzatori del convegno vincoli finanziari la tecnica che il termine esogeno qui debba intendersi come riferito a elementi fattuali che provocano conseguenze sulla produzione normativa vuoi perché incidono sui procedimenti deliberativi del soggetto normatore che decida di assumere taluni elementi come diciamo parametro autoimposto di ragionevolezza dell'atto giuridico vuoi perché sono le stesse fonti del diritto a prevedere che quegli elementi fattuali influenzino l'evoluzione del sistema delle fonti ad esempio come avviene con la decretazione d'urgenza se così è allora il vero fattore esogeno di condizionamento del sistema delle fonti non è tanto l'emergenza ma piuttosto il fatto emergenziale inteso quindi non come fonte fatto esterna all'ordinamento bensì quale accadimento straordinario cui l'ordinamento consente a certe condizioni di influire nel processo deliberativo che conduce alla creazione o dall'applicazione di norme anche determinando esiti che rispetto all'ordinario svolgersi della produzione normativa possono essere definiti in qualche misura anomali l'emergenza semmai è la formula sintetica con la quale convenzionalmente si indica il regime giuridico del fatto emergenziale insomma a me pare che la domanda a cui sono chiamato a dare una risposta non è tanto se l'emergenza costituisca un fattore esogeno di condizionamento della produzione normativa quanto piuttosto in che modo il fatto emergenziale condiziona la produzione normativa ora la mia risposta a questa domanda si articola su alcune premesse che tuttavia non ho il tempo di illustrarvi in modo argomentato mi limito dunque a elencarle quasi per titoli rinviando lo farò più volte al testo scritto per la loro dimostrazione dunque prima premessa la distinzione tra emergenza e crisi già evocata più volte stamattina questa distinzione risiede nel fatto almeno per come la vedo io che l'emergenza corrisponde a una rottura repentina e provvisoria della normalità alla quale ben può seguire una volta cessata e se per l'appunto non determina una crisi un ritorno alla normalità solo provvisoriamente perduta mentre la crisi che può essere anche ma non necessariamente determinata da un accadimento emergenziale consiste invece nella fase di instabilità che consegue alla irrimediabile alterazione di una normalità che non potrà più essere riconquistata tale e quale sul piano delle fonti ne discende la necessaria provvisorietà delle misure emergenziali e di converso la non necessaria provvisorietà delle misure anticrisi seconda premessa la distinzione tra emergenza e urgenza nella mia ricostruzione la parola emergenza descrive un concetto appartenente alla medesima nozione di urgenza e si caratterizza per l'indicare quelle urgenze che si manifestano sotto forma di stato di cose stato d'emergenza pandemica stato d'emergenza terroristica eccetera sicché quando si verifica un'emergenza l'urgenza risulta presupposto non già per l'adozione di un singolo provvenimento o per lo svolgimento eccezionalmente rapido di una procedura come avviene per altri tipi di urgenza ma può divenire anche presupposto per l'instaurazione protempore di una sorta di ordinamento alternativo lo stato di emergenza lo stato di guerra eccetera ordinamento alternativo in cui i rapporti tra interessi diritti principi appaiono declinati in modo diverso dall'ordinario terza premessa la distinzione tra necessità e urgenza da molti negata in dottrina penso dalla maggioranza io invece ritengo non solo che essa sussissa sul piano concettuale ma che sia addirittura indispensabile in un'ottica costituzionalistica l'urgenza sostantivo corrisponde al fattore tempo quindi all'indifferibilità ed è un elemento di natura fattuale la necessità urgente qui l'urgenza diventa aggettivo corrisponde invece al fattore bisogno quindi alla scelta se intervenire o no e come intervenire in relazione all'urgenza nei fatti invece c'è una totale inversione dei piani dovuta proprio credo al fatto che non si distingue tra necessità e urgenza il fattore tempo viene spesso valutato sul piano giudidico ignorando quello fattuale ovverosia si ritiene secondo me sbagliando che presupposto dell'adozione dell'atto non sia la sussistenza di una situazione di indifferibilità ma la presenza di una dichiarazione d'urgenza sganciata da qualsivoglia dato fattuale con il risultato che l'urgenza viene riguardata soltanto come presupposto di attivazione di un potere straordinario e non già anche come limite all'esercizio di quel potere anche qui l'esempio più comprensibile è il decreto legge dall'altro lato il fattore bisogno viene invece spesso valutato solo sul piano fattuale trascurando quello giuridico qui c'è un autore francese il Guattin che diceva che l'urgenza non si definisce si constata e si afferma mi pare che sulla necessità urgente prevalga un po' la stessa idea si constata anzi forse addirittura si intuisce attentati terroristici recessione finanziaria terremoti eruzioni vulcaniche pandemie c'è davvero bisogno di andare oltre il macroscopico scusate aspetto fattuale e chiedersi quale sia il bene giuridico in gioco prima di intervenire secondo me sì perché per quanto la necessità di intervenire possa risultare auto evidente sul piano fattuale l'assenza di una riconversione dell'evento impidico in evento giuridico è esattamente ciò che apre le porte all'abuso dei poteri d'urgenza e allora dobbiamo chiederci sul piano giuridico qual è la necessità che giustifica l'adozione di un atto urgente secondo me la funzione tipica dell'atto urgente è quella di evitare che a causa del mancato intervento in una situazione di urgenza si produca una situazione di maggiore illegittimità la ragione d'essere dell'atto urgente viene individuata non nella necessità data da un fatto materiale ma in quella data da un fatto giuridico volendo semplificare si potrebbe dire che la necessità urgente così formulata consente il passaggio dalla vecchia concezione della necessità che fa legge a una nuova concezione per la quale è la legge fare la necessità urgente chiaramente però attenzione perché nel valutare la eventuale maggiore o minore illegittimità bisogna tenere in considerazione il fatto che trattandosi di urgenza entra in gioco il fattore tempo per questo io la funzione tipica dell'atto urgente in altra sede l'ho definita come funzione priorizzatrice perché il bilanciamento che viene fatto in questo caso non è quello classico chiamiamolo pre-prevalenza nel quale bisogna dire se tra due interessi ce n'è uno che pesa di più scusate la semplificazione l'obiettivo trattandosi di urgenza è quello di capire se tra due interessi in gioco ve ne sia uno dei due che risulta prioritario cioè che necessita di un soddisfacimento immediato questa è grossomodo la cornice teorica all'interno della quale ho sviluppato le mie riflessioni ora chiedersi in che modo il fatto emergenziale possa condizionare la produzione normativa significa chiedersi in buona sostanza se esistano limiti di carattere generale sull'uso dei poteri urgenti di fatto sull'urgenza come presupposto di attivazione come limite ho già detto tutto quanto il limitatissimo tempo a mia disposizione mi consente di dire indifferibilità fattualità eccetera nella relazione troverete anche una riflessione più approfondita sulla giurisprudenza costituzionale in materia di decretazione d'urgenza nonché qualche spunto di riflessione ulteriore su di un tema secondo me tanto importante quanto sottovalutato quello del dies a quo vale a dire del momento a partire dal quale si può effettivamente dire che il pericolo è diventato imminente che quindi la situazione è diventata urgente o emergenziale purtroppo non mi ci posso soffermare passo subito allora all'altro presupposto di attivazione abbiamo visto l'urgenza cioè l'altro è la necessità urgente che costituisce un bisogno qualificato dal fine per l'appunto quello di evitare situazioni di maggiore illegittimità dal mezzo il tipo di atto da adottare e dal modo le misure che vengono poste in essere per favorire il ritorno alla normalità tre elementi che ovviamente sono strettamente legati alle circostanze del momento rispetto ai quali è davvero difficile ma non impossibile trarre considerazioni di carattere generale ne faccio solo tre anche qui per sommissimi capi volti a dimostrare come la necessità urgente in quanto punto d'incontro tra fattore tempo e fattore bisogno richieda un controllo di ragionevolezza del tutto peculiare che tenga in debita considerazione la funzione priorizzatrice di cui ho detto poc'anzi in prima considerazione la sommarietà si tratta di un elemento spesso trascurato nelle riflessioni dei giuristi ma trascurato a torto diceva Menocchio che apparenzia rei sufficient inis que celeritate requirunt ecco quando il soggetto che deve adottare l'atto urgente deve decidere sul da farsi trovandosi in una situazione di reale urgenza le sue valutazioni non potranno che essere approssimative in quanto non c'è materialmente il tempo di svolgere analisi approfondite della situazione ora tale mancanza di tempo non può che avere secondo me conseguenze anche sul contenuto dell'atto urgente il quale è stato adottato se ripeto l'urgenza è reale ed è anche per questo che è importante che lo sia in condizioni di improvvisazione si deve cioè ritenere che eventuali errori di valutazione chiamiamoli così possano essere per così dire scusabili ma solo nella misura in cui si tratti effettivamente di errori vale a dire quando dall'analisi della circostanza urgente emerga che fosse plausibile che chi ha posto in essere l'atto abbia ritenuto in quel momento che la decisione presa fosse la migliore possibile e che essa non violasse alcun limite normativo si tratta insomma di compiere una delicatissima valutazione ex post non già sulla correttezza della misura adottata quanto piuttosto sulla correttezza cioè sulla ragionevolezza del giudizio prognostico compiuto da chi ha posto in essere l'atto tenendo conto che tale giudizio prognostico non poteva che essere un giudizio di parvenza e che come tale deve essere valutato è per questo d'altronde che la motivazione dell'atto urgente è indispensabile secondo elemento la provvitorietà nel valutare la legittimità del contenuto della misura urgente si dovrà tenere conto del fatto che essa è destinata a produrre i suoi effetti solamente per un limitato periodo di tempo la ragionevolezza della norma urgenziale o emergenziale che di si voglia deve essere in altri termini valutata anche in relazione alla sua ontologica ed inevitabile precarietà quindi un pensiero affettuoso e reclongo dovendo ritenersi la sua legittimità come una per così dire legittimità sincronica diciamo pure una straordinaria tolleranza a tempo destinata a progressivamente spegnersi cedendo il passo a una inizialmente latente illegittimità diacronica destinata poi a tramutarsi in vera e propria presunzione di illegittimità qui nella relazione scritta faccio due approfondimenti giurisprudenziali che non posso purtroppo proporvi all'orale sulla giurisprudenza costituzionale in materia di crisi economiche sulla giurisprudenza francese in materia di terrorismo giadista che dimostrano secondo me quanto ho appena affermato terzo elemento gli stati d'emergenza dunque se accogliamo la distinzione prima proposta tra provvedimenti d'urgenza e stati d'emergenza è chiaro che la ragionevolezza di questi ultimi deve essere valutata in modo diverso gli stati emergenziali infatti possiedono due peculiarità secondo me la prima è che essendo rivolti a dominare come dicevo uno stato di cose possono contenere al loro interno anche misure non strettamente correlate con l'urgenza intesa come elemento fattuale vale a dire non finalizzate al tentativo di ripristino dello status quo ante come può essere il caso di misure anticrisi di carattere transitorio o comunque misure di tipo preventivo rispetto all'eventuale insorgere di nuove urgenze resta naturalmente ferma la regola secondo cui la deroga alle ordinarie regole democratiche può essere concessa solo a fronte di vere emergenze cioè quelle caratterizzate dal manifestarsi di un accadimento imprevisto che rispondono al requisito della proprietà e che domandano un intervento straordinario da parte dei pubblici poteri onde scondurare il formarsi di una situazione di maggiore illegittimità la seconda particolarità degli stati emergenziali o per meglio dire delle normative sugli stati emergenziali è che essi consentono al legislatore comunque sia al soggetto normatore di disciplinare almeno in parte alcuni aspetti dell'emergenza prima che essa si verifichi e anzi senza neppure sapere se essa mai si verificherà sotto questo profilo nonostante le diffidenze devo dire giustificate sulla base della prassi che talvolta le leggi sugli stati emergenziali sembrano suscitare in dottrina personalmente ritengo che le leggi sugli stati emergenziali possano svolgere se usate come si deve un ruolo rassicurante perché consentono di predeterminare in periodi di tranquillità e dunque al di fuori dell'ondata emotiva che le emergenze sempre provocano anche sul piano istituzionale i limiti entro i quali si potrà agire per dominare l'emergenza limitando così tanto il livello di approssimazione sommarietà improvvisazione dell'intervento quanto la possibilità di abusi da parte dei pubblici poteri anche perché fare leggi sull'emergenza al di fuori dell'emergenza consente di coinvolgere il Parlamento molto più di quanto non si possa fare durante l'emergenza in questo senso le leggi sugli stati emergenziali svolgono o meglio potrebbero svolgere una funzione che potremmo in qualche misura definire costituzionalistica perché perseguono quella che John Elser aveva chiamato la strategia di Ulisse consistente nel farsi legare per non cedere alla tentazione delle sirene dell'emergenza in questo caso in Italia devo dire questa potenzialità della registrazione emergenziale non è mai stata sfruttata nel nostro ordinamento lo stato d'emergenza risponde al modello cosiddetto ordinanze di necessità secondo una tradizione che può farsi risalire almeno all'ordinamento statutario e che da allora sostanzialmente non è mai davvero cambiata se non che è chiaro che prevedendosi una gestione delle emergenze a colpi di ordinanza si perde praticamente tutto il potenziale vantaggio dato dalla previsione di uno stato di emergenza e non stupisce allora che in Italia la legislazione sullo stato d'emergenza susciti tutte queste perplessità in dottrina perché di fatto si risolve spesso e volentieri in un potere d'ordinanza sostanzialmente libero e privo di predeterminazione occorre però arrivati a questo punto fare una importante precisazione sulla ragionevolezza il ricorso al criterio di ragionevolezza benché con profili sui generis e l'affermazione di una iniziale tolleranza nei riguardi dell'atto urgente non vale e non deve valere a trasformare il controllo giurisdizionale sull'urgenza in un giudizio politico sull'emergenza lo dice con grande acutezza il mio fraterno amico e l'uso di collega Leonardo Pace quando mette in guardia dall'uso disinvolto della ragionevolezza alla stregua di un principio e non di un canone o criterio la ragionevolezza questo lo dico io non pace deve sempre essere intesa come promanazione del parametro non già prendere il posto di quest'ultimo ponendosi essa stessa come pseudoparametro e ciò onde evitare che nell'incontro scontro tra oggetto del controllo e parametro del giudizio sia quest'ultimo a conformarsi a primo e non viceversa io credo che la questione del parametro nel giudizio di valutazione dell'atto urgente del suo contenuto costituisca il vero problema dell'emergenza e della sua capacità di condizionare la produzione normativa quantomeno sul piano del controllo della legittimità dell'atto urgente con una provocatoria semplificazione si potrebbe riassumere il punto in questa domanda il parametro di legittimità delle fonti dell'emergenza è davvero costituito dalla costituzione ovvero quest'ultima viene sostituita dallo stesso fatto emergenziale provocatoriamente dico che qui si colloca il cuore del problema perché di fatto rispondere a questa domanda significa rispondere a quest'altra è possibile dominare l'emergenza con la costituzione o comunque sia con le norme o è quest'ultima ad essere a conti fatti dominata dalla prima perché è chiaro che se noi ammettiamo che il parametro è costituito dal fatto emergenziale ammettiamo anche che quest'ultimo assurga sostanzialmente a fonte fatto capace di assumere addirittura rango para o supracostituzionale ora è chiaro che un giudizio di costituzionalità che abbia a che fare con l'urgenza non può non prendere in considerazione il fatto inteso anche con riferimento a quei fattori esterni al giudizio di costituzionalità che hanno costituito il presupposto fattuale per l'adozione dell'atto impugnato si tratta per l'appunto del fatto emergenziale che costituisce fattore esogeno di condizionamento da produzione normativa oggetto della nostra odierna riflessione ciò tuttavia non toglie e non deve togliere per i motivi già illustrati che il parametro debba restare normativo semmai è più corretto affermare che l'urgenza affinché possa davvero essere riguardata come limite e non già come mero presupposto di attivazione richiede che si compia una sorta di integrazione fattuale del parametro che consenta di tenere nella dovuta considerazione il fattore tempo in sede di valutazione della legittimità dell'atto anche qui ci sarebbe molto da dire anche perché il tema è di quelli tossi diciamo ma purtroppo devo rinviare anche qui al testo scritto così come rinvio al testo scritto per quanto riguarda il discorso sui limiti contenutistici delle misure urgenti qui diciamo in sintesi sostengo che il nostro ordinamento preveda dei divieti assoluti tutti in qualche misura riconducibili al principio di eguaglianza che è la bilancia del nostro ordinamento e pertanto non può essere bilanciato tale per cui alcune cose non si possono mai fare neanche quando l'urgenza lo richieda perché l'uso di certi strumenti genererebbe sempre situazioni di maggiore illegittimità io faccio in modo particolare l'esempio della tortura ricollegandomi anche alle tesi di Silvestri sulla dignità umana sfrutto il pochissimo tempo che mi resta per tentare di mettere alla prova la ricostruzione teorica appena proposta alla luce dell'emergenza pandemica che presenta una particolarità giustamente sottolineata dal professor Carnevale che con essa si è dovuto porre in essere un macro bilanciamento tra un solo diritto il diritto alla salute sto semplicando un po' mi scusi e praticamente tutti gli altri diritti e tutte le altre libertà o quasi previste della costituzione questa circostanza ovviamente è particolarmente interessante sotto il profilo della funzione priorizzatrice del criterio della maggiore illegittimità di cui parlavo all'inizio ora nella relazione scritta io mi occupo di vari profili legati alla pandemia se ci sia una differenza tra un macro bilanciamento che coinvolga il diritto alla salute e uno che coinvolga il diritto alla sicurezza qui nello scritto mi faccio alle tesi di Denninger su gradita sollecitazione del professor Ruotolo a partire da da quando e fino a quando si può effettivamente parlare di emergenza pandemica quali misure antipandemiche rientrino nel concetto di crisi quali in quelli di emergenza su queste cose sorvolo perché c'è un punto che mi sta più a cuore che desidero affrontare sia pure a grandissime linee e molti hanno denunciato uno scardinamento della gerarchia delle fonti il problema è stato evocato non solo in relazione ai dpcm ma più in generale a tutti gli atti normativi e non solo che hanno costituito il corpus dell'intervento emergenziale dello stato delle regioni ora non è affatto mia intenzione negare che nella gestione della pandemia ci siano state numerose criticità alcune ricordate prima il presidente De Siervo ma la crisi della gerarchia delle fonti è un fenomeno in corso da anni e non mi pare francamente che l'emergenza pandemica abbia sotto questo profilo peggiorato la situazione forse lo sbaglio è a monte siamo davvero sicuri che la gerarchia sia ancora il modo migliore per descrivere il nostro sistema delle fonti ma soprattutto siamo sicuri che la gerarchia sia il modo migliore di intendere le fonti dell'emergenza ciò che mi interessa rilevare in questa sede è come la ricomposizione dell'intero ordinamento attraverso il prisma del principio di competenza che è superfluo il rinvio a Franco Modugno comporti necessariamente una diversa concezione della liceità dei poteri e degli atti urgenti e di conseguenza dell'organizzazione dei poteri una diversa concezione a mio avviso più in linea con il nostro disegno costituzionale che probabilmente potrebbe portarci a riguardare all'uso che delle fonti è stato fatto durante l'emergenza sotto prospettive un po' diverse ad esempio sui famosi DPCM la domanda che dovremmo forse porci non è tanto se essi si collochino al giusto rango della piramide normativa da cui la pretesa da Taluni avanzata che tutto il fenomeno pandemico dovesse essere gestito con i soli decreti legge in quanto di rango primario quanto piuttosto se essi rappresentino la fonte competente cioè la più adatta per quel tipo di attività per quel tipo di norme in quel contesto emergenziale qui c'è anche il professor Carnevale che ha osservato sempre come in realtà la mutevolezza delle condizioni pandemiche avrebbe reso difficile il ricorso solamente alla decretazione d'urgenza ovviamente sì concludo questa è una considerazione che riguarda la forma non il contenuto sul quale insomma è già stato detto molto se mi è consentito giusto un'ultima frase per fare un rapido cenno a un profilo che pure riguarda i condizionamenti dell'emergenza sulla produzione normativa ma che è in parte distante dal discorso che ho condotto finora si è parlato in dottrina ma da tanti anni di cultura dell'emergenza cultura dell'emergenza che si è chiaramente aggravata in tutti questi anni di emergenze continue e che ha prodotto due tipi di distorsione con conseguenze anche sulla produzione normativa la moltiplicazione delle emergenze e la banalizzazione dell'urgenza io ecco volevo concludere semplicemente ricordando che l'urgenza non ha nulla di banale neanche quando essa viene evocata solamente per accorciare i tempi quando il Parlamento viene trascurato per lasciare spazio al di fuori di qualunque reale emergenza una asserita e più efficace azione di governo si intacca quel principio che costituisce il cuore della democrazia rappresentativa dove la priorità è quella di parlare da cui il nome è Parlamento in questo senso mi pare che si possa affermare che la democrazia è in qualche modo il regime della lentezza nel senso positivo del termine mentre l'ideologia dell'urgenza pretende di aggirare la democrazia in nome della velocità e dell'efficacia è forse giunto il momento di dire che l'efficacia non è tutto anzi provocatoriamente dico l'efficacia è autoritaria è l'efficienza a essere democratica allora consentitemi di chiudere questa relazione con un auspicio affinché possa abbandonarsi la cultura dell'emergenza anzi l'ideologia dell'urgenza è ritrovare la sofferta ma insostituibile efficiente lentezza della democrazia grazie inutile dire che le faccio una raccomandazione anche di contenimento dei tempi perché abbiamo esigenze generali grazie grazie presidente vorrei anche io ringraziare il direttivo e gli organizzatori del convegno annuale per l'ospitalità qual è l'obiettivo della mia relazione l'obiettivo della mia relazione è chiedersi se i vincoli finanziari siano un fattore esogeno di condizionamento della produzione normativa cioè se i vincoli finanziari si impongono all'organo di normazione orientandone le scelte senza che sia necessaria la mediazione politica la loro trascrizione in termini di indirizzo politico prima però di rispondere all'interrogativo è necessaria a mio avviso una premessa concettuale perché qui non è in dubbio il significato da attribuire all'aggettivo vincolo quanto al sostantivo finanziario ecco in questa sede ovviamente per ragioni di tempo saranno considerati soltanto i vincoli riferiti alla finanza pubblica con la precisazione ovviamente da ricordare che ogni decisione di finanza pubblica impatta sulla finanza privata e viceversa anche i fenomeni che riguardano la finanza pubblica privata producono effetti sulla finanza pubblica oltretutto questa distinzione sfuma con riferimento alle cosiddette scelte di politica monetaria posto questo è possibile vagliare tre ipotesi certo nella misura in cui si parla di vincoli in qualche modo si suggerisce l'idea che questi siano provvisti di una qualche valenza prescrittiva ma questa è proprio la tesi che bisogna dimostrare come dicevo prima le tesi da vagliare sono tre anzitutto che i vincoli finanziari esistano in quanto posti dal diritto e allora la loro valenza prescrittiva dipenderebbe dalle scelte politiche secondariamente si dovrà valutare se esistono come sembra suggerire il titolo della sessione di questi lavori vincoli che si impongono alle scelte statali di finanza pubblica in questo caso quindi il vincolo finanziario sarebbe un limite oggettivo riposante nella natura delle cose e quindi intrinsecamente normativo terza ipotesi una sorta di tesi intermedia delle prime due è che esistono entrambe le tipologie di vincoli cioè sia i vincoli creati dal diritto sia quelli di natura extra giuridica ma iniziamo con i vincoli creati dal diritto rientrano sicuramente in questa categoria le cosiddette fiscal rules e il principio di indipendenza forte della banca centrale questi vincoli sono creati giuridicamente e non obbediscono a spinte extra giuridiche impostesi per via di fatto alle quali il diritto si sarebbe semplicemente adeguato ma quali sono questi questi vincoli sicuramente le fiscal rules costituzionali e sovranazionali quindi la mente corre all'articolo 81 della costituzione principalmente alla regola del pareggio strutturale di bilancio o del principio dell'equilibrio finanziario nonché alle regole contenute nel trattato di Maastricht e tutte quelle introdotte dal patto di stabilità e crescita dal fiscal compact altro vincolo poi creato dal diritto come dicevo prima è il principio di indipendenza forte della banca centrale e dunque quella netta distinzione tra politica monetaria affidata alla banca centrale al banchiere centrale e la politica fiscale invece rimessa come dicevo prima con i vincoli che abbiamo ricordato alla decisione pubblica ma perché l'indipendenza che peraltro ricordo è un concetto scalare è un vincolo finanziario è un vincolo finanziario perché pone un limite alla praticabilità di alcune decisioni fiscali le cosiddette decisioni fiscali espansive difatti in un regime di monetary dominance si esclude che il banchiere centrale debba assecondare con espansioni monetarie le cosiddette decisioni di deficit spending come invece accade nei regimi di fiscal dominance dove la politica monetaria è ancella della politica fiscale cioè se le decisioni di deficit spending non sono seguite dall'intervento del banchiere centrale questo produce i cosiddetti fenomeni di spiazzamento degli investimenti privati cioè la spesa pubblica espandendosi assorbe tutta la liquidità esistente che è rimasta invariata prosciuga così le risorse a disposizione degli investimenti privati e causa non soltanto il rialzo dei tassi di interessi ma vanifica le misure di stimolo peraltro nel momento in cui si realizza un sistema di monetary dominance l'indipendenza forte propone questi vincoli oggettivi peraltro è da aggiungere quanto previsto dall'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea articolo 123 infatti pone il divieto di monetizzare il fabbisogno governativo di spesa imponendo quindi la tassazione o l'indebitamento come le uniche fonti di finanziamento della spesa pubblica anche qui con gli ulteriori vincoli previsti dalla legislazione nazionale e sovranazionale penso ad esempio all'obiettivo di medio termine detto ciò qual è stato l'atteggiamento della dottrina costituzionalistica beh la dottrina costituzionalistica non si è limitata alla presa d'atto di questi vincoli ma seguita seppur indivagamente dalla giurisprudenza costituzionale ha provato a rintracciare nel dettato costituzionale i principi sostanziali che giustificherebbero le fiscal rules cercando così di dimostrare la loro consustanzialità al costituzionalismo democratico non soltanto quello liberal democratico ma anche a quello democratico sociale e in particolare le ragioni a sostegno delle fiscal rules si compendierebbero in due principi il principio di sana e corretta gestione finanziaria anche detto di responsabilità finanziaria e il principio di equità intergenerazionale ecco nella mia relazione io provo ad offrire qualche argomento di critica contro queste prospettazioni e inizierei proprio dal principio di responsabilità finanziaria beh l'opportunità e la utilità sembrano quasi scontate per non dire intuitive cioè come si può non negare che la gestione delle finanze pubbliche non debba essere virtuosa sana e responsabile il punto però è che tutto da dimostrare che le fiscal rules con in testa il pareggio di bilancio siano il parametro privilegiato per giudicare della sanità virtuosità e responsabilità di una politica di bilancio ne può dirsi che il bilancio pubblico possa essere assimilato al bilancio privato di una famiglia si sa in questo secondo caso se le spese sistematicamente superano le entrate beh si dice che la famiglia ha fatto il passo più lungo della gamba e quindi si è indebitata in maniera insostenibile nel caso invece del bilancio pubblico beh la scelta di tenere il bilancio in pareggio in avanzo o in disavanzo dipende da ciò che è richiesto dalle circostanze sicché a seconda dei frangenti possono essere opportune tutte e tre le linee di condotta questo ci conduce quindi a ritenere che le politiche di disavanzo non sono di per sé viziose così come le politiche di avanzo o di pareggio non sono di per sé virtuose appunto tutto dipende dalle circostanze poi vedremo come siano le peculiari caratteristiche dell'assetto dell'eurozona a far sì che le fiscal rules siano associate a una certa idea di politica virtuosa ma qui mi preme come dire evidenziare un altro aspetto l'ultimo per dirsi la responsabilità si dice che neppure può dirsi che la responsabilità finanziaria si combini alla responsabilità politica come se la prima debba per forza offrire il parametro sulla quale formulare il giudizio sulla seconda anzi a ben vedere le fiscal rules precostituiscono questo giudizio di responsabilità politica in qualche modo predeterminandolo e facendolo diventare altro da sé e invece deve essere il corpo elettorale a stabilire con i suoi criteri secondo i suoi criteri se una politica di bilancio è sana virtuosa o responsabile e veniamo così all'altro principio evocato spesso a giustificazione delle fiscal rules cioè il principio di equità intergenerazionale dico subito che è difficile sostenere che le generazioni future abbiano una propria soggettività che si contrappone a quella delle generazioni presenti d'altronde ancora discutiamo della soggettività degli embrioni quindi penso che sia un po' difficile affermare con una certa sicurezza che esista una soggettività giuridica di chi ancora non c'è ma in ogni modo a mio avviso la questione deve essere impostata alla luce dell'articolo 4 della Costituzione nel senso che nel caso della finanza pubblica il problema delle generazioni future è assorbito nell'articolo 4 della Costituzione questa disposizione come è noto riconosce a tutti il diritto del lavoro il diritto al lavoro ponendolo non già come un diritto soggettivo perfetto azionabile ed in fronte a un giudice ma come un obiettivo costituzionale di piena occupazione questa è una lettura che già ritrovavamo in crisafulli e in mortati inoltre sempre l'articolo 4 ma al comma secondo funzionalizza il lavoro di tutti al progresso materiale e spirituale della società il che significa migliorare non solo le condizioni materiali e spirituali della generazione presente ma anche di quelle future cioè garantire delle posizioni sociali migliori di quelle di partenza faccio un esempio bamale che però può aiutarci a rendere l'idea se grazie alle politiche di pieno impiego una famiglia diventa da una famiglia monoreddito a bireddito beh questo creerà un ventaglio molto più ampio di opportunità per i figli non solo in termini di istruzione ma anche di fruizioni culturali di svago di occasioni formative con evidenti ricadute positive in ordine alla mobilità sociale e al progresso materiale e spirituale infatti assieme al livello complessivo di civilizzazione se così può dirsi è ragionevole aspettarsi che cresca anche la cosiddetta capacità produttiva complessiva insomma i diritti delle generazioni future sono anzitutto soddisfatti da un ambiente sociale ricco di maggiori opportunità per tutti e vanno dunque lette in questa chiave dinamica e non statica perché diversamente dalle risorse ambientali che sono per definizione scarse quelle finanziarie non possono veramente assoggettarsi al paradigma della scarsità come vedremo in coda questa relazione cioè non sono come una torta già data nella sua ampiezza sicché mangiando troppe fette di torta oggi ne rimarrebbero poche domani tutto dipende e dipendono dalle politiche dirette a espandere le opportunità di crescita che è insieme materiale e spirituale politiche cui effetti evidentemente si riverberano positivamente nel futuro e quindi anche sulle generazioni a venire al contrario le politiche di austerità introdotte dal patto di stabilità e crescita dal fiscal compact e in generale dalle fiscal rules nella misura in cui generano disoccupazione demansionamento deindustrializzazione e quindi riduzione della capacità produttiva complessiva sembrano si salvaguardare l'integrità sostanziale della torta finanziaria ma in vero determinano effetti futuri di regresso materiale e spirituale nonché minori opportunità future praticamente per tutti ora per quanto concerne invece l'altro vincolo giuridicizzato cioè il principio di indipendenza forte della banca centrale esso troverebbe fondamento nella tutela del risparmio ex articolo 47 costituzione è una tesi che fu proposta da Bognetti e Merusi poi ripresa in tempi più recenti da molti altri questa tesi individua nelle tensioni inflazionistiche il fattore che erode il valore di risparmi di cui la necessità di una politica monetaria rigorosa che tenga sotto controllo la dinamica dei prezzi e assicuri la stabilità della moneta ma anche questa ricostruzione a mio avviso è criticabile perché bisogna considerare che le politiche monetarie restrittive da un lato è vero salvaguardiano i risparmi esistenti ma dall'altro sono praticamente le stesse che ne impediscono la creazione di nuovi cioè da un lato ne limitano l'incremento nominale conciò frustrando la valorizzazione del capitale dall'altro invece garantiscono il valore reale del risparmi esistente infatti come insegna la cosiddetta teoria della moneta endogena è l'espansione del credito bancario che genera l'espansione dei depositi bancari e non viceversa a sua volta questo livello delle erogazioni creditizie da che cosa dipende? dipende dalle decisioni del banchiere centrale cioè dai livelli dei tassi di interesse se sono più alti le erogazioni creditizie decrescono se sono invece bassi crescono le erogazioni creditizie cioè senza politiche monetarie espansive non si formano nuovi depositi bancari e quindi non ci può essere un incremento dei risparmi ma soltanto un decremento e allora bisogna interrogarsi su quale sia precisamente l'oggetto della tutela della garanzia costituzionale disposta dall'articolo 47 delle costituzioni possa che i risparmi in esse ben possono essere garantiti e tutelati dall'articolo 42 della costituzione in vero l'oggetto della garanzia costituzionale dell'articolo 47 è quello di predisporre e preservare le condizioni che favoriscono il compimento di atti di risparmio da parte di un più ampio numero di soggetti possibili cioè anche il risparmio deve essere riguardato non già in una prospettiva statica ma in una prospettiva dinamica e inclusiva cioè non deve essere riguardato come una come dire una ricchezza finanziaria adatta detenuta da beati possidentes quanto come un processo socialmente diffuso di accumulazione continua dei mezzi finanziari non consumati il che a rigore parrebbe malcondizionale un favor verso le politiche espansive sia monetarie che fiscali in luogo alle politiche restrittive ma allora qual è la vera razio delle fiscal rules a cosa servono veramente e perché vivono la tesi della mia relazione è che esse siano dirette a prevenire i cosiddetti fenomeni di instabilità finanziaria questi fenomeni si verificano quando gli stati non riescono a reperire nel mercato dei capitali risorse finanziarie a tassi sostenibili viceversa abbiamo stabilità finanziaria quando esiste una capacità statale di indebitarsi in maniera sostenibile in particolare si ha instabilità finanziaria quando i tassi di interesse sul debito pubblico crescono in maniera eccessiva e questo riduce la fiducia degli investitori in questo caso di fiducia produce un ulteriore incremento dei tassi di interesse innescando così un circolo vizioso che può mettere a repentaglio la finanza pubblica nazionale di cui l'esigenza di prevedere un pacchetto di fiscal rules finalizzate a contenere le politiche di spesa allo scopo di limitare il disavanzo e il conseguente indebitamento il punto però è che a generare questa instabilità finanziaria non sono le politiche di disavanzo in sé per sé considerate quanto il fatto che siano realizzate in un sistema di monetary dominance cioè un sistema dominato sul principio di indipendenza forte del banchiere centrale ecco per certi versi le fiscal rules sono un corollario di questo principio infatti poiché in un assetto di questo tipo lo Stato non controlla si indebita in una moneta di cui non controlla l'emissione esso sarà sempre a rischio di insolvibilità ovviamente nella moneta in cui il debito è contratto con un potenziale effetto domino pure sugli altri stati membri dell'eurozona certo va precisato che lo Stato non è mai insolvente perché può sempre onorare il suo debito ovviamente alle sue condizioni cioè può onorarlo non nella moneta in cui ha contratto il prestito ma ridominarlo in un'altra moneta ad esempio la moneta nazionale ed è esattamente questa eventualità il cosiddetto denomination risk a terrorizzare gli investitori i quali evidentemente temono che una ridenominazione in una moneta svalutata possa ridurre il valore reale dei titoli di debito che detengono in portafoglio ecco per questo motivo la crescita del debito li induce a pretendere un più alto premio di rischio proprio perché hanno il timore che il debito sia ripagato in una moneta diversa e allora qual è la funzione delle fiscal rules la funzione della fiscal rules è garantire la tenuta dell'unione monetaria europea esse hanno senso solo nel contesto sistemico dell'eurozona e il loro scopo non è quello di realizzare i valori universali del costituzionalismo democratico non individuano istanze intrinsecamente giuste cioè provviste di un valore originario oggettivo ma il loro rilievo è per così dire derivato cioè legato ad esigenze peculiari di funzionamento di uno specifico assetto istituzionale qual è l'eurozona vengo allora alla questione finale cioè se esistano o siano concepibili vincoli finanziari esogene operanti come fatti obiettivi prescindenti cioè da scelte normative o da specifiche peculiarità di assetti istituzionali come ad esempio le calamità naturali e la mente corre subito al fenomeno delle emergenze finanziarie o crisi qua non mi pongo il problema della differenza tra emergenza e crisi però va chiarito un'altra come un'altra distinzione dobbiamo distinguere l'emergenza o crisi finanziaria dall'emergenza o crisi economica sia una crisi economica quando crolla il prodotto interno lordo e quindi l'occupazione sia invece una crisi finanziaria quando c'è una grande instabilità finanziaria che può riguardare tanto la finanza privata penso ad esempio quello che è successo negli USA nel 2007-2008 quanto quella pubblica la mente corre alla crisi europea del 2010 ecco già in queste precisazioni preliminari si evince la risposta alla domanda che mi sono appena posta cioè abbiamo visto infatti poco prima come l'instabilità finanziaria sia legata alla percezione che il debito pubblico sia denominato in un'altra in un'altra moneta quindi il timore che venga ridenominato in un'altra moneta ma ciò è in larga visura un fenomeno dipendente da condizioni giudizie ben precise cioè un fenomeno interno all'eurozona un effetto di un assetto istituzionale dato e mi riferisco ancora una volta a quella distinzione tra la politica fiscale nazionale e la politica monetaria sovranazionale in un contesto si fatto infatti la banca centrale non ha l'obbligo di supportare le politiche nazionali di bilancio e anzi sul piano formale ha il divieto di farlo e quindi le risorse finanziarie sono di per sé scarse perché gli stati debbono procacciarsene o attraverso la tassazione o attraverso l'indebitamento senza poter ricorrere a quelle misure di monetizzazione dei disavanzi di bilancio e come è stato detto efficacemente e cito testualmente le parole di Sergio Cesaratto il rischio paese lo determina in buona parte la misura in cui la politica monetaria della BCE sostiene o meno il mercato dei titoli di Stato a riprova di quanto affermo dobbiamo ricordarci di cosa è successo cosa è stato fatto per fronteggiare l'emergenza economica da Covid-19 si è sospeso il fatto di stabilità e crescita ma ciò non ha determinato l'instabilità finanziaria nonostante la crescita del deficit e del debito perché perché la BCE con i programmi di quantitative easing ha supportato praticamente senza limiti le politiche fiscali degli stati finanziariamente più deboli tra i quali c'è l'Italia cioè ha praticamente acquistato tutto il debito di nuova emissione insomma il grado di instabilità finanziaria potenziale o attuale di uno stato dell'eurozona dipende anche e soprattutto dalle decisioni da quello che decide di fare la BCE e ancora per dirlo con le parole di Cesaratto non è la dimensione del debito pubblico a far fallire un paese ma il livello dei tassi di interesse che vi paga sopra livello che a sua volta dipende dalle scelte del banchiere centrale vengo allora alle conclusioni da quanto detto sinora parrebbe quindi che in un regime di sovranità monetaria piena cioè in un regime di fiscal dominance non di monetary dominance non esistano vincoli finanziari oggettivi perché l'emissione monetaria potendo moltiplicare i pani pesci renderebbe virtualmente inesauribili le grandezze finanziarie tutto ciò è vero soltanto in parte bisogna infatti considerare la cosiddetta bilancia dei pagamenti con l'estero se uno spato infatti importa più di quanto esporta non può pagare questa differenza attraverso l'emissione della propria moneta nazionale da convertire poi nella moneta accettata per i pagamenti internazionali che di regola è il dollaro poiché a lungo andare la moneta nazionale si deprezzerebbe e questo renderebbe ancora più gravose le importazioni dei prodotti stranieri soprattutto delle materie prime e dei prodotti energetici certo una moneta svalutata si dice incrementa e favorisce le esportazioni però per incrementare le esportazioni fino addirittura a riequilibrare la bilancia dei pagamenti bisogna avere una capacità produttiva potente e diversificata che solo alcune poche potenze industriali hanno insomma se assente una base produttiva ampia ed efficiente questo può essere all'origine di vincoli finanziari oggettivi non poco penetranti che il regime di sovranità monetaria può temperare solo in parte ovviamente neppure in questo caso si tratterebbe di vincoli finanziari assoluti perché a ben vedere sono pur sempre relativi cioè dipendenti dalle condizioni materiali della produzione nazionale alla fine la struttura dei rapporti di produzione cioè il modo in cui si produce cosa si produce in relazione poi alla realtà delle forze produttive a innescare i vari eventuali condizionamenti finanziari e a generare situazioni di scarsità finanziaria anche sotto il profilo di un depreciamento sensibile del potere d'acquisto della moneta ecco perché e chiudo la migliore garanzia contro i vincoli finanziari quindi contro le tempeste finanziarie rimane pur sempre il mantenimento e l'accrescimento della capacità produttiva reale obiettivo che guarda caso è tutt'uno con quel progresso materiale spirituale di cui parla proprio l'articolo 4,2 della costituzione grazie adesso non è il tema più eccitante al mondo a quest'ora ma è molto interessante e invece organi tecnici e produzione normativa professoressa grazie presidente mi associo anch'io naturalmente ringraziamenti agli organizzatori all'università di firenze al professor simoncini al professor cardone grazie direttivo dell'associazione gruppo di pisa alla presidente d'amico e alla professoressa massapinto che ringrazio molto il tema ecco non è dei più coinvolgenti però spero di di essere no allora nell'ambito di questa sessione del convegno che è dedicata ai fattori di condizionamento della produzione normativa la mia relazione si concentra sul tema della tecnica e però abbiamo deciso di limitare ulteriormente il capo d'indagine alle indicazioni degli organi tecnici quindi gli organi di consulenza dell'esecutivo questo perché come tutti noi sappiamo questi organi hanno impattato in modo notevole sulla produzione normativa dell'emergenza ovviamente mi riferisco all'emergenza sanitaria che è l'altro tema di fondo di questo convegno prima di entrare nel merito dei contenuti della mia relazione forse è importante svolgere qualche precisazione terminologica nella relazione ho fatto riferimento a una nozione ampia di tecnica citando un saggio di Guarino del 1962 che definisce la tecnica quale è l'area caratterizzata da cognizioni e giudizi emessi sulla base di una scienza specialistica quindi ogni scienza questo perché mi è sembrata coerente sia rispetto alla natura degli organi che ho indagato perché sono organi che vengono nominati presso le pubbliche amministrazioni che sono composti da personale prevalentemente almeno da personale delle pubbliche amministrazioni e poi mi ha consentito di non limitare troppo l'oggetto della mia analisi perché le valutazioni che compiono questi organi sono poi di natura anche scientifica quindi questa è un po' l'ambiguità di fondo che ha contraddistinto la mia ricerca organi tecnici quindi che evocano una nozione di tecnica un sapere certo e neutrale quando però poi si confrontano con nozioni scientifiche incerte valutazioni scientifiche molto complesse quindi questa è un po' l'ambiguità che ho ritrovato nella mia ricerca e al fine di comprendere quale sia l'impatto del coinvolgimento di questi organi tecnici sul sistema delle fonti ho diviso la ricerca in tre parti una prima parte ho cercato di capire quali sono le modalità tramite le quali il potere normativo entra in contatto con il sapere tecnico scientifico quindi gli organi tecnici sono una delle opzioni possibili nella seconda parte invece ho analizzato l'impatto sul sistema delle fonti e quindi il caso emblematico di studio è quello dell'emergenza sanitaria il comitato tecnico scientifico e infine ho cercato di analizzare il ruolo degli organi tecnici nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza che come vedremo ha aperto secondo me degli scenari nuovi nel rapporto tra tecnica e diritto partendo dal primo di questi punti il modello costituzionale cui fa riferimento il titolo di questo convegno a me sembra fondato su l'autonomia da un lato del sapere tecnico scientifico quindi la libertà della scienza articolo 33 della costituzione e dall'altro invece l'autonomia del potere normativo la piena discrezionalità del legislatore la necessità costituzionale di un raccordo tra il sapere tecnico scientifico e la discrezionalità legislativa è stata individuata in un secondo momento dalla giurisprudenza della corte costituzionale in quello che poi la dottrina ha definito il principio di ragionevolezza scientifica bisogna distinguere degli ambiti di riferimento in ambito tecnico scientifico o meglio la giurisprudenza della corte costituzionale lo ha sancito in ambito medico sanitario in particolare dalla notissima sentenza 282 del 2002 il relatore era il professore Onida la corte ha affermato che sul merito delle scelte scientifiche in quel caso erano scelte terapeutiche non possono nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica del legislatore ma esse devono fondarsi sulle conoscenze scientifiche acquisite tramite istituzioni o organismi a ciò deputati quindi le conoscenze tecnico-scientifiche rappresentano un vincolo per il legislatore un altro ambito dove questo principio però si attenua è quello delle norme che non sono a contenuto tecnico-scientifico ma che sono se vogliamo guidate dalla scienza e la pandemia è stato un esempio cioè le indicazioni dei comitati tecnici non hanno impattato esclusivamente nel settore scientifico di riferimento ma in ogni ambito della vita sociale dal lavoro all'istruzione alla pubblica amministrazione e in questo caso quindi le conoscenze scientifiche devono essere bilanciate con diritti costituzionali quindi il vincolo della ragionevolezza scientifica in questo caso si attenua nonostante quindi nel nostro ordinamento il legislatore debba almeno in alcuni settori come ho appena detto fondare le proprie scelte sul sapere tecnico-scientifico nel nostro ordinamento non vi sono organismi o strumenti stabili di consulenza tecnico-scientifica parlamentare anzi in dottrina si è evidenziato la fragilità degli strumenti parlamentari dalle audizioni alle indagini conoscitive mentre vi è un protagonismo del governo per quanto riguarda l'apparato tecnico e questo si vede dai moltissimi organi tecnici che sono nominati presso i ministeri sono disciplinati dal decreto legislativo 300 del 99 da leggi di settore pensiamo ai consigli superiori al consiglio superiore di sanità pensiamo alla materia ambientale dove c'è un sistema che la corte costituzionale ha definito reticolare quindi sia politico sia organi tecnici a livello nazionale che provinciale e regionale di organi tecnici in materia ambientale questo diciamo squilibrio tra gli strumenti parlamentari e invece gli organi tecnici del governo ha delle conseguenze sul sistema delle fonti che il coinvolgimento di questi organi tecnici determina un impatto non sulle fonti di rango primario evidentemente ma sugli atti del governo in prevalenza sugli atti amministrativi questa tendenza è stata esasperata potenziata durante l'emergenza sanitaria in cui tutti noi sappiamo sono stati nominati organi tecnici comitato tecnico scientifico e anche task force in diversi settori sono stati istituiti prevalentemente con atti amministrativi la scelta dei membri è stata effettuata è stata rimessa in prevalenza la discrezionalità del governo cioè non ci sono criteri prestabiliti e sono stati composti almeno inizialmente da vertici dell'amministrazione poi la composizione è cambiata sono stati inseriti anche membri dell'accademia o delle professioni per capire qual è stato l'impatto sul sistema delle fonti riguardo al coinvolgimento di questi organi tecnici mi sono chiesta anzitutto se i principi costituzionali consentano di dislocare una valutazione tecnico-scientifica utile alla formazione di una norma giuridica al di fuori del circuito democratico rappresentativo quindi se si possa attribuire all'organo tecnico di consulenza del governo questo genere di valutazione e scorrendo la giurisprudenza costituzionale ho trovato due risposte due ragioni una attiene al contenuto che è la giurisprudenza che ho citato prima quindi se si tratta di scelte scientifiche esse possono anzi meglio devono essere acquisite tramite organismi scientifici a ciò deputati qui bisogna chiedersi mi rimetto al testo scritto se organi di consulenza governativa di nomina governativa senza garanzie di autonomia scientifica possano rientrare negli organismi citati dalla giurisprudenza della corte costituzionale e la seconda ragione invece attiene al procedimento cioè nella giurisprudenza costituzionale si ritiene che in alcune materie ad alto coefficiente tecnico come per esempio la materia ambientale il procedimento amministrativo sia più adeguato di quello legislativo per regolare quel determinato settore e questo perché il procedimento amministrativo assicura un'istruttoria è trasparente e assicura anche un controllo giurisdizionale quindi queste sono le ragioni per cui la corte costituzionale in alcuni settori preferisce cioè ritiene preferibile il procedimento amministrativo quindi gli organi tecnici oggetto della mia indagine forse trovano ragione più in questa seconda opzione quindi trovano fondamento più che nella riserva di scienza definita così dalla dottrina in questa riserva di amministrazione quando ho capito questo passaggio ho capito anche di conseguenza l'impatto sul sistema delle fonti perché questo comporta una marginalizzazione delle fonti di rango primario da un lato e un forte utilizzo di atti amministrativi dall'altro quindi siamo adatti ai fenomeni chiamati fuga dalla legge e fuga anche dal regolamento questo avviene secondo uno schema che si ritrova molto nelle materie a contenuto tecnico scientifico che è quella della delega alla pubblica amministrazione cioè il coinvolgimento dell'organo tecnico mi sembra che avvenga secondo questo schema una fonte di rango primario volta a regolare un settore a contenuto tecnico scientifico rinvia per la disciplina di attazione a provvedimenti amministrativi previo parere di un comitato tecnico e gli esempi sono numerosi in materia sanitaria e in materia ambientale per esempio l'EPTA che sono i livelli essenziali delle prestazioni in materia ambientale vengono adottati con DPCM su consiglio del consiglio nazionale che è un organo tecnico quindi lo schema che noi abbiamo ritrovato tanto durante la pandemia quindi fonte primaria DPCM parere del comitato tecnico era uno schema che era già stato utilizzato ampiamente nelle materie a contenuto tecnico scientifico e questo perché il procedimento flessibile del DPCM si adattava alla flessibilità delle materie a contenuto tecnico scientifico quindi questo mi era sembrato un aspetto interessante da evidenziare ovviamente questo schema di delega alla pubblica amministrazione comporta delle problematiche evidenti in riferimento al principio di legalità e a principio della riserva di legge sappiamo che durante la pandemia questo schema è stato avvallato dalla Corte Costituzionale nella sentenza che già molti colleghi hanno citato oggi la sentenza 198 del 2021 e quello che mi sembra interessante evidenziare al di là della criticata qualificazione dei DPCM da parte della Corte è diciamo il percorso argomentativo che ha portato la Corte a definire il DPCM quale atto amministrativo contenuto generale cioè mi sembra che assuma rilievo nel ragionamento della Corte proprio il fatto che vi sia l'istruttoria presso il Comitato Tecnico Scientifico afferma la Corte che ai fini dello scrutinio di legittimità l'istruttoria presso il Comitato Tecnico Scientifico assume rilievo perché supporta sul piano istruttorio la messa in atto della disciplina primaria rendendone più concreta ed effettiva la verifica giudiziale quindi torniamo al ragionamento che facevo prima è quasi come se il procedimento amministrativo sia quello più adatto alla valutazione tecnico-scientifica il riferimento invece al principio della riserva di legge ho richiamato nella relazione quella giurisprudenza della Corte Costituzionale anche questa è nota che ha escluso la violazione dell'articolo della riserva di legge relativa di quell'articolo 23 della Costituzione perché l'indeterminatezza della legge della fonte di rango primario può essere compensata dalla previsione di moduli procedimentali che coinvolgano organismi di competenza tecnica le sentenze 507 dell'88 la 180 del 96 fino a arrivare alla nota pronuncia 69 del 2017 sui contributi richiesti dall'autorità indipendente quella per la regolamentazione dei trasporti in questa pronuncia la Corte non solo ha ribadito i principi che vi ho appena esposto ma ha anche valorizzato una forma del principio di legalità questo in modo esplicito procedurale quando vengono in rilievi o profili caratterizzati da un elevato grado di complessità tecnica quindi in questo caso la giurisprudenza che ho richiamato mi sembra che valorizzi l'istruttoria presso gli organi tecnici perché supporta la disciplina di rango primario è idonea a compensare l'indeterminatezza della legge e legittima anche forme di legalità in senso procedurale quindi sono affermazioni forti che dal mio punto di vista però si basano su presunzioni che si possono mettere facilmente in discussione e queste due presunzioni sono da un lato la corte ritiene che il procedimento amministrativo e quindi l'istruttoria amministrativa sia caratterizzata da garanzie che sono quelle del procedimento amministrativo quindi la trasparenza l'obbligo di motivazione dei provvedimenti che però possono essere messe in discussione perché perché non valgono e questo ai sensi della lettera della legge 241 del 90 per gli atti amministrativi a contenuto generale e per gli atti normativi quindi il fatto che poi il governo abbia provveduto a seguito anche della sentenza del tar a pubblicare i verbali del comitato tecnico scientifico sul sito della protezione civile è stata più una ragione anche di opportunità ma non c'è un principio generale quindi bisogna anche rivalutare questa caratteristica del procedimento amministrativo come garanzia la seconda presunzione è invece da questa giurisprudenza della corte emerge una visione di tecnica come sapere certo idoneo a rappresentare un'argine della discrezionalità amministrativa la pandemia è stata diciamo la dimostrazione più evidente che il sapere tecnico scientifico soprattutto in alcuni ambiti soprattutto durante l'emergenza non è certo e non ha rappresentato un'argine alla discrezionalità amministrativa gli esempi sono molteplici davanti a una situazione di incertezza il comitato tecnico presentava più soluzioni al governo il governo sceglieva o davanti a una situazione di incertezza il governo si discostava dalle indicazioni dell'organo tecnico quindi una discrezionalità amministrativa e governativa molto ampia che si è confusa anche con la discrezionalità tecnica e che a mio modo di vedere non può consentire in alcun modo un cambiamento di visione del principio di legalità cambiando dal principio di legalità sostanziale a quello procedurale quindi questo per quanto riguarda la prima parte della mia ricerca riguardo alla seconda ho analizzato il ruolo degli organi tecnici nell'elaborazione e nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza per quanto riguarda l'elaborazione del piano c'è stato sin da subito un dialogo tra il governo e la task force della commissione europea recover forse si è valorizzato in questa fase anche il ruolo parlamentare perché gli atti di indirizzo che poi sono stati la base per l'elaborazione del piano da parte del governo sono stati approvati a seguito di un partecipato ciclo di audizioni quello che è interessante però è la fase di attuazione perché sia nel testo del piano sia nei decreti legge successivi vengono menzionate una pluralità di organi tecnici che anticipano l'iniziativa legislativa del governo su riforme fondamentali dalla giustizia alla pubblica amministrazione e l'operato di questi organi però è fortemente condizionato nei contenuti nei tempi e anche nella forma dal piano nazionale che stabilisce sia i contenuti sia il cronoprogramma sia se deve essere un progetto di legge uno schema di legge delega che deve essere presentato dall'organo tecnico questo su alcune riforme su altre riforme invece è stato richiesto lo strumento tecnico europeo che è disciplinato dal regolamento 240 del 2021 alcuni stati lo hanno chiesto questo sostegno tecnico alla commissione europea per l'elaborazione dell'intero piano nazionale l'italia lo ha chiesto esclusivamente per alcune riforme in particolare per la riforma della pubblica amministrazione e tramite la richiesta di questo sostegno tecnico la commissione europea può inviare degli esperti o della commissione europea o di società private o di organizzazioni internazionali che affiancano il governo proprio nell'elaborazione delle riforme alla luce anche delle modalità di elaborazione del piano nazionale mi sembra che siano stati utilizzati dei modelli di proprio tipici della progettazione della programmazione europea cioè sono quelli che vengono utilizzati per il finanziamento dei partenariati di ricerca che sono stati poi utilizzati per il finanziamento delle riforme strutturali e adesso lo stesso modello viene utilizzato per i piani dei governi quindi le riforme le leggi entrano in un programma di progettazione tra il governo e la commissione europea e anche la terminologia utilizzata è quella della progettazione europea la legge viene definita milestone cioè è un obiettivo qualitativo intermedio che è sottoposto a dei criteri di valutazione molto rigidi sia per il cronoprogramma sia per la valutazione sono criteri tecnici soprattutto quelli che sono stati su cui è stato richiesto il sostegno tecnico della commissione europea mi sembra un mi sono potuta dilungare troppo però una concezione molto diversa da quella classica della legge quale atto espressione della volontà popolare quindi in conclusione mi sembra che la mia relazione confermi una delle linee di tendenza che ha espresso il professor Cardone stamattina nella sua relazione introduttiva che è quella della marginalizzazione del Parlamento perché in favore del procedimento amministrativo nella prima parte della ricerca e nella seconda fase invece una forte condizionamento del ruolo del Parlamento e quindi non posso che concludere auspicando una una riflessione riguardo a organismi o strumenti di sostegno tecnico all'attività legislativa del Parlamento e in un saggio che ho trovato interessante il 45 politica e tecnica di Bobbio definiva già urgente la necessità di inserire della tecnica nella vita politica perché il tecnico apolitico è un rischio per la democrazia essendo pronto a servire qualsiasi padrone ed essendo strumento che si piega al volere agli interessi del primo che vi ponga le mani grazie al di là dei ringraziamenti adesso do la parola alla professoressa Massapinto però mi si dice che alle 16 e 30 chiude il seggio elettorale evidentemente tutti coloro che sono interessati a votare non lo hanno ancora fatto lo facciano subito perché mentre noi sentiamo la professoressa Massapinto grazie grazie a lei presidente e ovviamente anche io ringrazio sinceramente la presidente e tutto il direttivo del gruppo di Pisa nonché gli amici e colleghi dell'università di Firenze per questa bella accoglienza dunque al termine di questa davvero intensa giornata di lavoro cerco di fare un po' il punto della situazione per arrivare al tema specifico di questa sessione e mi faccio aiutare come molti hanno fatto prima di me da alcune espressioni chiave prima del titolo generale del convegno e poi del titolo specifico di questa sessione le espressioni chiave del titolo generale del convegno ci dicono lo abbiamo ripetutamente detto da un lato abbiamo un modello costituzionale di produzione normativa che prescrive processi di integrazione politica dall'altro abbiamo delle sue trasformazioni discostamenti in particolare in tempi di crisi crisi a sua volta causate da emergenze le espressioni chiave del titolo specifico di questa sessione ci direbbero che esistono chiamiamoli per il momento anche noi in questo modo dei fattori esogeni che incidono su quel modello e dunque sarebbero causa di queste trasformazioni ora ci sarebbero diversi modi per discutere le belle e ricche relazioni presentate un modo sarebbe senz'altro quello di discutere puntualmente le riflessioni di ciascuna relazione penetrandole come dire in profondità assumendo il punto di vista interno di ciascuna relazione e forse credo che sarebbe questo il modo più corretto anche per restituire un po' di soddisfazione alla fatica del relatore e delle relatrici ma abbiamo appena anche ascoltato i temi affrontati sono tanti e sono diversi e quindi assumere un punto di vista interno a ciascuna relazione richiederebbe troppo tempo che qui non posso permettermi allora ho tentato di adottare un punto di vista esterno trasversale alle relazioni stesse e ho provato a cogliere le linee di fondo almeno quelle che mi sembrano le linee essenziali mi permetto di dire anche poi mi spiegherò meglio il detto e il non detto di queste relazioni cogliere queste linee essenziali al fine di far dialogare tra di loro le relazioni stesse e ho provato a mia volta a formulare un'ipotesi generale sul tema specifico di questa sessione che propongo a sua volta per essere ulteriormente discussa spero nell'atelier di lavoro di domani allora provo a preannunciare l'ipotesi che mi ha guidata nella lettura delle relazioni e anche della bella intensa relazione di Andrea Cardone il dibattito pubblico anche specialistico di questi tempi straordinari mi pare abbia fatto emergere in tutta la sua intensità un vero e proprio mutamento di paradigma e intendo per paradigma non soltanto un programma di ricerca esplicito ma anche l'insieme delle cose di cui si ritiene forse superfluo parlare direi anche l'insieme dei presupposti inavvertiti nei discorsi degli studiosi questo mutamento mi pare che abbia a che fare con questo è il punto la progressiva riduzione dello spazio di esercizio dell'attività di indirizzo politico quale attività che deve logicamente e cronologicamente precedere la produzione normativa di cui stiamo parlando e che consiste propriamente come ci hanno insegnato i nostri maestri nella selezione dei fini politici dello Stato questo mutamento avviene anche ad opera di quelli che qui abbiamo assunto come fattori esogeni e questa riduzione mi sembra proprio il massimo sintomo delle trasformazioni del modello costituzionale su cui ci stiamo interrogando con questo voglio dire che il mutamento di paradigma al quale stiamo assistendo non ha a che vedere solo con la forma di governo e con il sistema delle fonti del diritto che tra l'altro sono lo abbiamo sentito due facce della stessa medaglia ma si tratta credo di qualche cosa che sta ancora più a monte di quello che tutti ormai da decenni andiamo ripetendo e cioè la marginalizzazione del ruolo del Parlamento qualcosa di più profondo e quindi temo anche di più grave ora non avrò qui il tempo neppure di tentare minimamente una spiegazione sulle ragioni profonde di questo mutamento di paradigma ma in poche battute prima di arrivare alle relazioni di tracciarne almeno qualche tratto scusate il gioco di parole attraverso proprio le relazioni direi che potrebbe essere utile farci aiutare dalla storia costituzionale e anche dalla storia costituzionale antica provare a domandarci se sia possibile rintracciare qualche similitudine tra il tempo presente che stiamo vivendo in questo mutamento di paradigma e l'epoca del passaggio dalla Respubblica Costituta Romana all'avvento dell'Impero un passaggio che come sappiamo gli storici e soprattutto gli storici particolarmente attenti agli aspetti propriamente costituzionali hanno descritto come caratterizzato dal venir meno di un'idea essenziale e cioè che l'organizzazione politica la forma dell'organizzazione politica è retta da un nucleo di norme fondamentali riconosciuto essenzialmente come un prodotto sociale e quindi propriamente voluto dal gruppo politico l'avvento dell'Impero sarebbe caratterizzato dal venir meno proprio della consapevolezza che l'organizzazione politica è un qualcosa di fatto da regole per quanto profonde fondamentali pur sempre generate da comportamenti umani allora ci sarebbe da domandarsi se non siamo forse di fronte a un ribaltamento profondo della concezione del potere del diritto non più intesi secondo una concezione ascendente il nostro modello costituzionale ma secondo una concezione discendente dentro cui stanno anche quei fattori esogeni dei quali stiamo parlando insomma e poi concludo su questa introduzione come è stato detto a proposito dell'instaurazione dell'assolutismo di Cesare nonostante il suo fine democratico teso in ultima analisi diremmo oggi con espressioni moderne ad assicurare prestazioni sociali certo la forma dell'organizzazione politica costruita da Cesare era pur sempre una forma di assolutismo se dal punto di vista delle tensioni sociali che concorsero a produrre quella forma certo poteva essere definita come una forma di governo per il popolo ma non certo una forma di governo attraverso il popolo e qui ho citato Momsen allora la domanda è si può dire che in fondo si stia consolidando un'idea di costituzione intesa in termini molto generici come rappresentazione collettivamente condivisa del nesso tra individuo società e organizzazione del potere politico quindi un'idea di costituzione come un dato extra sociale a me pare che anche attraverso la lettura delle relazioni siamo di fronte ad una conferma dell'ipotesi di un progressivo riaffermarsi del principio di eteronomia cioè i fini politici da perseguire sono qualcosa che deve essere portato agli uomini alle donne perché non possono essere prodotti da loro quindi qua siamo davvero parlando di questi fattori al centro delle questioni del costituzionalismo a partire proprio dalla domanda fondamentale chi o che cosa è la fonte della legge come regola obbligatoria di azione all'interno di un gruppo politico ma questa evidentemente è la conclusione del discorso e quindi cerco di cominciare dall'inizio per tener conto delle relazioni che ci sono state presentate i fattori esogeni come sappiamo in economia in particolare in econometria una variabile esogena è una variabile che all'interno di un certo modello dato assume un valore indipendente dal modello stesso e quindi è una variabile che influisce sull'equilibrio rappresentato nel modello ma non è influenzata a sua volta dal modello stesso è causa di quell'equilibrio ma non è l'effetto e a questo si aggiunga ci insegnano gli economisti che ciò che in una lettura descrittiva del modello è esogeno può diventare endogeno in una lettura prescrittiva del modello stesso pensiamo al reddito alla spesa pubblica nel modello keynesiano ora il nostro modello il che assumiamo come prescrittivo è naturalmente il modello costituzionale nel suo sistema normativo complessivo che disciplina il circuito politico rappresentativo con tutti i suoi corollari e le variabili sono quelle che il direttivo ci ha individuato l'emergenza i vincoli finanziari e la tecnica ora tutte e tre le relazioni riflettono in modo più o meno esteso intorno alla natura di queste variabili che per ora possiamo definire in modo complessivo e generico limiti limiti alla produzione normativa ma qual è la natura di questi limiti qual è il loro fondamento allora proprio come dicevo per far dialogare le relazioni assumo la tripartizione annunciata da Alberti rispetto ai vincoli finanziari e provo a estenderla anche agli altri due fattori quindi cerco di ridire con parole diverse quanto esposto da Alberti le ipotesi in astratto sarebbero tre questi limiti quindi mettiamoli tutti e tre questi limiti sono la prima ipotesi questi limiti sono quelli posti dal diritto positivo quindi sarebbero dei fattori endogeni al modello sono norme e quindi a loro volta frutto prodotto risultato di processi di integrazione politica seconda ipotesi questi limiti sarebbero imposti da una presunta natura delle cose e quindi in questo caso sarebbero fattori esogeni in senso proprio sono fatti fatti che si impongono come tali alla produzione normativa la terza ipotesi uscendo da questa semplicistica dicotomia prevede una terza ipotesi la più interessante ovviamente secondo la quale questi limiti sarebbero fattori endogeni quindi vincoli giuridici previsti dal diritto ma deriverebbero a loro volta come effetti necessari da altro anche da altre scelte politiche e quindi avrebbero come dire una natura esogena di secondo grado sarebbero dei vincoli endogeni non puri ora mi pare che questa tripartizione che bene si attaglia ai vincoli finanziari sia la stessa che viene enunciata da Giuliano Serges a proposito dell'emergenza quando elenca in astratto le possibilità e poi prende posizione su dove colloca il suo discorso le parole di Giuliano mi pare che il termine esogeno debba intendersi come riferito non già a fonti del diritto extra ordinem la nostra seconda ipotesi bensì piuttosto a elementi fattuali che provocano conseguenze sulla produzione normativa vuoi perché incidono sui procedimenti deliberativi del soggetto normatore che decide lui il soggetto normatore di assumere tali elementi come parametro autoimposto di ragionevolezza dell'atto giuridico per esempio quando adotta una certa limitazione della libertà di circolazione perché è suggerita dal parere di un comitato tecnico scientifico e questa è la terza ipotesi Alberti vuoi perché sono le stesse fonti del diritto a prevedere che quegli elementi fattuali influenzino l'evoluzione del sistema delle fonti l'urgenza per il decreto legge e questa è la prima ipotesi Alberti ora nella relazione di Siccardi la questione della natura di questi limiti nel suo caso la tecnica emerge quando la relatrice si riferisce alla necessità costituzionale di un raccordo tra potere legislativo e sapere tecnico scientifico necessità che ci ha appena illustrato e stata individuata in via successiva dalla giurisprudenza della Corte quale presupposto essenziale del rispetto del principio di ragionevolezza e da questo si dovrebbe allora dedurre che esiste un vincolo giuridico giuridico che assume la forma le sembianze del principio di ragionevolezza specie nella sua accezione di rapporto mezzo fine nel caso della tecnica che con gradualità intensità differenti a seconda dei casi costituisce il limite alla produzione normativa e questa rientra benissimo nella terza ipotesi che indicavamo quindi una endogeneità non pura diciamo così ora in questo quadro generale questo questo tema mi sembra che il ricorso alle espressioni fattori esogeni e fattori endogeni cieli un equivoco dal punto di vista di un ordinamento giuridico cioè la dicotomia endogeno esogeno che stiamo utilizzando non è del tutto corretta se appunto applicata a un ordinamento giuridico perché l'attribuzione del carattere della esogeneità o della endogeneità dei limiti alla produzione normativa non dipende da una loro presunta natura in sé per sé considerata ma dipende questo è il punto dal modo con cui viene percepita la causa della loro forza prescrittiva dal modo con cui viene percepita la causa della loro forza prescrittiva cioè questi limiti se sono dei limiti se l'ordinamento li percepisce come limiti sono sempre norme indipendentemente dal modo in cui queste norme vengono comprese da parte degli scienziati sociali che cercano di spiegarle o da parte degli appartenenti al gruppo politico che sono tenuti a osservarle si tratta in ogni caso di norme qualunque ne sia l'origine che sta nella mente di individui di persone se così è ne deriva che non ha senso contrapporre il concetto di fattore esogeno a quello di vincolo giuridico fatto versus norma perché il primo è solo una reificazione del secondo dire che una norma riflette descrive incorpora un fattore esogeno non muta la considerazione che essa consiste in una norma e non in un fatto e in modo del tutto simmetrico anche se sosteniamo che i limiti di cui stiamo parlando sono norme fattori endogeni al modello queste norme hanno comunque a che fare con fatti solo che qui i fatti non sono la causa della prescrittività delle norme ma sono l'effetto delle norme stesse allora qui mi piace richiamare una limpida dicotomia con cui Norberto Bobbio dice nel linguaggio giuridico esistono due modi per intendere l'espressione fonte del diritto e cioè come fonte di derivazione di una regola o come sua fonte di qualificazione dice la differenza fondamentale tra l'una e l'altra fonte è che la prima può essere costituita da un fatto o da una serie di fatti la seconda è sempre costituita da una norma una regola in quanto la si consideri come un fatto deriva da un altro fatto ma riceve la sua validità in un sistema per opera di un'altra norma se non si facesse questa distinzione non si capirebbe perché regole aventi la stessa fonte di derivazione non siano allo stesso modo valide in un sistema perché ad esempio l'equità produca regole ma non tutte le regole prodotte dall'equità siano valide in un certo ordinamento bensì soltanto quelle a cui una norma del sistema attribuisce la qualifica di norme giuridiche quindi io credo che il problema stia tutto nel rapporto tra fonte di derivazione e fonte di qualificazione i limiti di cui ci stiamo occupando quindi sono tutti atti normativi non possono non fare riferimento a un insieme di norme la dicotomia esogeno endogeno deve essere intesa nel senso che la norma che sancisce il limite può essere intesa o come un atto meramente ricognitivo di un fatto o come atto costitutivo di quel fatto ma sempre di norma si tratta allora la vera questione dicevo è il rapporto logico e cronologico tra fonte di derivazione e fonte di qualificazione ho detto altrimenti secondo le categorie più familiari a noi costituzionalisti il rapporto tra attività di indirizzo politico e produzione di atti di diritto pubblico che da quella sono preceduti diciamo che quando ci occupiamo di questi fattori siamo proprio sul confine lungo il quale come si diceva una volta l'ex epotestas convertuntur ma ecco il punto per riprendere le considerazioni introduttive siamo di fronte ad atti di diritto pubblico in quanto sintomi di effettivo esercizio di attività di indirizzo politico o siamo di fronte ad atti di diritto pubblico meramente ricognitivi di fatti che si impongono al legislatore come tali che si impongono come tali al legislatore ora riconoscere rilevanza giuridica all'attività di indirizzo politico significa riconoscere in ultima analisi che lo Stato non è un ente a fini necessari la funzione di governo e di indirizzo politico come appunto ci hanno insegnato i nostri maestri rappresentano precisamente i concetti con i quali la dottrina costituzionalistica italiana ha assunto la consapevolezza della variabilità politica dei compiti costitutivi degli stati storicamente considerati si potrebbe anche dire sono concetti legati alla teoria della costituzione in senso materiale la variabilità del portatore della costituzione concreta allora per rispondere alla nostra domanda che tipo di atti normativi sono entro più nel dettaglio nelle relazioni nel ragionamento prima di Alberti abbiamo sentito che svolgendo la sua tripartizione Alberti annovera tra i vincoli giuridici che pongono vincoli finanziari il principio della separazione tra politica monetaria e politica fiscale cioè soprattutto l'indipendenza della banca centrale europea che fonda il regime della monetary dominance in forza del quale la politica monetaria non può considerarsi diceva ancella delle politiche fiscali perché la BCE non è tenuta ad assecondare con espansioni monetarie le decisioni di deficit spending degli stati quindi per finanziare la spesa pubblica gli stati hanno due possibilità la tassazione e l'indebitamento indebitamento poi alle condizioni di altre fiscal rules ora ci ha appena detto secondo una parte della dottrina questi vincoli giuridici sarebbero del tutto conformi al nostro modello costituzionale dal quale si ricaverebbero i principi fondativi delle fiscal rules cioè saremo pienamente nell'ipotesi 1 modello prescrittivo vincoli endogeni e ci ha detto il principio della responsabilità finanziaria quello dell'equità intergenerazionale quello della tutela del risparmio e quindi se prendiamo la lotta alle diseguaglianze come la ragione sociale della costituzione del nostro modello costituzionale questa lotta non potrebbe che essere realizzata se non attraverso il metodo della tassazione progressiva ma al di là delle critiche puntuali che abbiamo ascoltato ora e che la relatrice imputa a queste teorie il punto che qui interessa è che secondo Alberti si tratterebbe di una endogeneità parziale spuria proprio perché ci ha appena detto è dimostrato che in ultima analisi il nostro modello costituzionale non impedirebbe di per sé di accompagnare le politiche fiscali con azioni di politica monetaria ciò che lo impedisce è l'esigenza di assicurare in ultima analisi la stabilità finanziaria il vero fondamento delle fiscal rules è la necessità di assicurare la capacità degli stati di indebitarsi in maniera sostenibile cioè di reperire nei mercati dei capitali risorse finanziarie a tassi sostenibili quindi il punto è per Alberti a generare i rischi di instabilità finanziaria non sono le politiche di disavanzo in sé per sé considerate ma il fatto che esse siano realizzate in un regime basato sulla separazione tra politica monetaria centrata e tante politiche fiscali nazionali per quel che ci riguarda allora se ne deduce che lo spazio di esercizio dell'indirizzo politico in questo caso finanziario è fortemente limitato sì da vincoli giuridici fattori endogeni ma questi a loro volta devono tener conto in ultima analisi delle decisioni della BCE più in generale dell'esigenza di assicurare la tenuta dell'unione economica e monetaria per quanto riguarda invece il ragionamento di Serges forse ancora di più qui mi pare che la proposta di Serges confermi quanto sto cercando di dire in riferimento a quelle che non ha avuto molto il tempo di esporle qui in sede orale ma nella relazione scritta si sofferma molto sulle condizioni di legittimità dell'atto urgente e di quella che chiama la funzione priorizzatrice in estrema sintesi Serges dice è la sussistenza di una situazione di fatto che in assenza di un intervento di forme dal diritto ordinario produce sul piano giuridico una situazione di maggiore illegittimità a far scattare un obbligo giuridico quindi vincolo endogeno un obbligo giuridico di intervenire e di intervenire anche derogando eccependo sospendendo o comunque sia diversamente bilanciando non solo ma questo obbligo giuridico secondo Serges deriva proprio dal principio di legalità costituzionale ebbene quando nel bilanciamento attività propriamente politica si inserisce il fattore tempo il bilanciamento per così dire si snatura non valgono più le norme di ragionevolezza che devono guidare il legislatore per esempio non vale più la regola secondo la quale tra le entità poste in bilanciamento dovrebbe prevalere la più pesante per esempio l'equilibrio di bilancio e i diritti che definiamo incomprimibili come ci insegnava Luciani sul tema parlava di bilanciamento ineguale quando il bilanciamento è correlato al fattore tempo dice Serges l'esigenza non è quella di stabilire quale dei due elementi debba prevalere ma se ve ne sia uno dei due che necessita di un soddisfacimento immediato la funzione dell'atto urgente è quella di mettere in salvo l'elemento più periclitante o comunque di soddisfare quello che può aspettare di meno ora questa funzione priorizzatrice non corrisponde forse alla funzione di selezione dei fini politici nella quale si realizza l'attività di indirizzo politico e questa funzione non dovrebbe essere tanto più politica e cioè libera proprio nei tempi di crisi o di fronte a fatti emergenziali dire che il legislatore è giuridicamente limitato da una norma una norma che deriva dalla legalità costituzionale che imporrebbe la funzione priorizzatrice del fatto emergenziale non significa pretendere che il legislatore stesso motivi la sua decisione a monte e a valle che la sua decisione sia subordinata a un controllo di ragionevolezza sotto questo profilo e qui le riflessioni di Serges e di Siccardi si sovrappongono e quindi chiedo chi e come decide in ultima analisi se di fronte a un fatto emergenziale come una pandemia debba essere data priorità alla salute o ad altri beni di rilievo costituzionale e poi quale salute e poi ancora la salute di chi la salute fisica delle persone fragili la salute psichica degli adolescenti solo per fare qualche esempio dei tanti che hanno sono emersi nell'acceso dibattito di qualche mese fa cioè possiamo pensare di giuridicizzare a monte e poi giurisdizionalizzare a valle questa fase del processo di produzione normativa che precede l'assunzione degli atti di diritto pubblico in senso proprio siamo sicuri di voler sottrarre alla lotta politica a questa funzione priorizzatrice durante la pandemia lo abbiamo visto letto tutti ascoltato virologi giuristi filosofi politici intellettuali cittadini comuni hanno fatto a gara per partecipare a una discussione nella quale il presupposto implicito sembrava essere diventato la necessaria giustificazione della decisione politica con buoni argomenti e buoni sono diventati per lo più gli argomenti fondati sulla scienza e sulla tecnica su dati ritenuti incontrovertibili che in quanto tali neutralizzano il conflitto e irrigidiscono quella che a noi costituzionalisti piace chiamare la sfera dell'indecidibile la discussione che deve condurre alla giustificazione del comando politico è diventata parte di un più generale atteggiamento direi proprio di vera e propria idolatria costituzionale dove però il riferimento alla costituzione si riduce spesso a un vago quanto logoro mantra come se quel che ricaviamo dalla costituzione non fosse un prodotto umano voluto ma qualcosa appunto che sta fuori laddove il comando politico non può essere giustificato per lo più attraverso giudizi di ragionevolezza esso diviene automaticamente incostituzionale per cui oggi che cos'è incostituzionale? è incostituzionale quello che non è giustificabile con argomenti ritenuti ragionevoli dall'interprete a prescindere spesso da riferimenti puntuali al testo della costituzione ora l'idea del limite al potere politico e quindi del limite alla produzione normativa di cui ci stiamo occupando come idea centrale del costituzionalismo viene ormai intesa nel senso che esisterebbe appunto uno spazio nel quale il potere legislativo sovrano non può volere e quindi non può produrre atti di diritto pubblico in base a giudizi valore uno spazio nel quale è più adatto il principio di causalità che è tipico delle scienze della natura e non il principio di imputazione che è tipico delle scienze sociali e quindi dovrebbe essere anche della scienza del diritto e questa idea ha finito per confondere i piani della natura e della società e ad attirare la scienza del diritto costituzionale tra le scienze della natura insomma dire che il potere politico sovrano ha dei limiti non significa necessariamente che questi limiti provengano da qualche altro sistema per il tramite della costituzione e che qualche interprete qualificato sia legittimato a disvelarli attraverso giudizi di ragionevolezza all'esito dei quali non resta che attribuire in ultima analisi un effetto a una causa proprio come avviene nelle scienze della natura ovvio che tutti questi temi non fanno che aggravarsi alla luce dello sviluppo delle tecnologie pensiamo al ricorso all'intelligenza artificiale agli algoritmi nelle decisioni pubbliche e questa vicenda cioè tutto ciò mi sembra confermato dalla vicenda dell'elaborazione del PNRR di cui tanto si è occupata Siccardi qui leggo una frase della sua relazione non avendo il tempo di fare di più dice l'operato degli organi tecnici e l'elaborazione di schemi di progetti di proposte di legge anticipano l'iniziativa legislativa del governo la quale poi segue gli iter previsti dalla costituzione ecco io credo che in quel verbo anticipano ci sia tutto quello che sto cercando di dire per cui è vero come è stato detto per esempio da shortino che il PNRR è un concentrato di indirizzo politico sarà anche un atto di diritto pubblico sintomo a sua volta di un'attività di indirizzo politico alla quale il nostro paese ha in qualche modo partecipato ma certo è un atto che elimina per parecchi anni l'esercizio dell'attività di indirizzo politico per le sue dimensioni quantitative qualitative e non posso dire nient'altro allora ecco qui la mia conclusione non si potranno curare i mali del sistema delle fonti qui ripetutamente evocati fin tanto che non si prenderà atto che il problema sta a monte cioè sta nel venir meno di quell'idea della variabilità dei fini politici dello Stato a cui prima facevo riferimento cioè che alla fine il problema è sempre la crisi del principio di rappresentanza nel suo profondo significato e la valorizzazione di questo principio che richiede un Parlamento che faccia le cose che il nostro modello costituzionale richiede in vano si cercherebbe una terapia contro le deformazioni in atto del sistema delle fonti nella Corte Costituzionale anzi credo proprio che spesso le sentenze della Corte abbiano aggravato questa malattia abbiano esasperato il principio di eteronomia finito e si sta lamentando anche lui e quindi anche Cardone nella sua relazione individua nella rimozione del conflitto la questione di fondo ma poi attribuisce proprio alle costituzioni pluraliste il loro ruolo di aver selezionato i fini politici una volta per tutte e sono a pagina 82 della relazione di Cardone questa conclusione a me sembra la negazione dell'attività di indirizzo politico perché se è vero che quest'ultima deve svolgersi dentro il quadro costituzionale non può certo essere intesa come attività di mera esecuzione delle disposizioni costituzionali la scelta politica dei fini è un'attività radicalmente diversa dalla deduzione di un significato da una norma in questo senso dico il problema sta a monte se il principio di eteronomia a prevalere non abbiamo più bisogno di un parlamento ma un qualunque esecutore tecnico e centralizzato può fare al caso nostro grazie scusate applausi Grazie.